I atti che sono previsti per oggi sono presenti? O no, c'è qualche questione? Vedo che l'Avvocato Bonzano si è alzato. Sì, signor Giudice, chiedo scusa. Prima di sentire i testi, io vorrei fare una rapidissima produzione documentale di atti già conosciuti a tutte le parti che vengono dal fascicolo del Pubblico Ministero, che se la signoria vostra mi dà la possibilità illustrerei brevevissimamente, solo per chiarirne la pertinenza e la rilevanza ai fini di questo dibattimento. Va bene, prego. Grazie. Dunque, signor Giudice, io vorrei produrre integralmente gli atti di cui all'avviso di deposito reso dal Pubblico Ministero all'udienza del 25 settembre. Come ricorderà, e qui è per questo che dico che le parti lo conoscono, nel senso che sono atti appunto depositati dal Pubblico Ministero, di cui tutte le parti hanno avuto avviso e di cui io ho fatto copia integrale. In quell'occasione il Pubblico Ministero spese di questo lo ringrazio senza, ci tengo a dirlo, alcun infingimento, parole direi di garbo nei miei confronti e di, se non me lo consente, penso di non eccedere in autocompiacimento e di stima, che convintamente ricambio. E penso che questa attività fatta dal Pubblico Ministero in questo frangente sia la dimostrazione di come il Pubblico Ministero conduca questa attività anche con equidistanza, e dunque interpretando, diciamo, appieno il suo ruolo di rappresentante della pubblica accusa. Come ricorderà la signoria vostra, la questione fu di, diciamo, doppia natura. Qualcuno ipotizzò, non il Pubblico Ministero, altri, che peraltro lo fecero sia in udienza, come risulta dalle trascrizioni, sia poi a livello mediatico, la illicità della prova prodotta, cioè i due atti a firma del colonnello D'Aloia esibiti a teste, chiedendone un'espulsione dal fascicolo per il dibattimento. Ecco, io vorrei innanzitutto rappresentare, per tranquillità di tutti, innanzitutto per tranquillità del Tribunale e per l'igiene processuale che deve contraddistinguere questo dibattimento, come tutti gli altri, che il documento che è stato prodotto da questa difesa corrisponde pedisseguamente all'atto pubblico acquisito dal Pubblico Ministero mediante l'acquisizione completa dei due fascicoli cui si faceva riferimento. Dunque, gli atti acquisiti sono atti genuini. Si è detto, ma pur essendo genuini, e quindi questo è il primo elemento di rilevanza di questa produzione. Cioè la produzione conferma che si tratta di atti genuini. Si è poi ipotizzato, ripeto ancora una volta, in questo caso non dal Pubblico Ministero, che pur essendo genuini potessero avere una provenienza illecita, qualcuno ha detto anche perché non si erano pagate le marche, evidentemente si tratta di un profilo che giustamente il Pubblico Ministero ritiene di dover approfondire, lo farà con tutti gli strumenti che ha a sua disposizione, ma caesula da questo dibattimento, perché ricordo solo a me stesso che se anche quei documenti fossero stati rubati, ragiono per assurdo, certamente la provenienza illecita, la cosiddetta teoria dei frutti dell'albero avvelenato, che ha una valenza al più in ambito di commollò, in particolare nel sistema anglosassone, certamente non ha pregio nel nostro sistema, e dunque quando anche fossero stati rubati, si tratta di atti pubblici legittimamente acquisiti al fascicolo di questo dibattimento. Ma si è detto l'utilizzo di questi atti ha però in qualche misura determinato una messa in difficoltà del testimone, messa in difficoltà sgradevole, diciamo così, in estetica, per usare un neofemismo, in estetica, perché questa messa in difficoltà sarebbe stata determinata dall'esibizione solo di quei documenti e non anche di tutti gli altri documenti che compongono i fascicoli che la procura ha dirigentemente acquisito. E si dice testualmente dalla disamina dei fascicoli completi, quello che emerge non è bello. Ancora una volta io sono d'accordissimo con il pubblico ministero, cioè quello che emerge dalla disamina di questi atti, di questi fascicoli completi non è bello. La mia valutazione espressa in questi termini letteralmente sovrapponibili a quelli utilizzati del pubblico ministero riposa però su argomenti logici opposti rispetto a quelli spesi. E vado davvero rapidissimamente ad indicarli, ripeto, perché credo che giustifichino ampiamente la pertinenza e rilevanza di queste produzioni. Innanzitutto se mi è consentito credo che anche dalla rilettura delle trascrizioni che io sia pure fugacemente ho fatto emerga chiaramente come nessuno, men che meno il sottoscritto avesse in animo di mettere in difficoltà chi che sia. Cioè sia ben chiaro che questi documenti quelli di allora così come quelli di oggi vengono prodotti non perché io desideri mettere in difficoltà qualcuno. Io ritengo che sia assolutamente fisiologico che il testimone possa avere peraltro su aspetti così particolari, così peculiari se volete così marginali in un'ottica ordinaria ma significativi in questo processo un ricordo non del tutto perfetto, diciamo così. Ed è d'altronde per questo che fisiologicamente esiste il meccanismo delle contestazioni. Cioè il codice prevede la contestazione come un momento fisiologico dell'esame incrociato non come un momento patologico qual è quello di una falsa testimonianza. Dunque nessuno come emerge dalle trascrizioni voleva mettere in difficoltà nessuno. Si trattava semplicemente di fare emergere come poi è emerso che su alcuni profili il ricordo del testo alcuni profili ripeto marginali nell'operatività quotidiana ma particolarmente significativi in questo processo il ricordo del testo potesse non essere così perfetto così adamantino come poteva risultare a fronte dell'esame diretto condotto dal Pubblico Ministero. E allora perché dico che la consultazione completa del fascicolo del quale se questa difesa avesse potuto disporne certamente avrebbe fatto largo uso nel controesame del colonnello D'Aloia invece dimostra che effettivamente ci sono degli elementi ulteriori e che dunque questa documentazione è assolutamente rilevante e va acquisita perché parto dal fascicolo 498 barra 2014 anche in questo fascicolo come la signoria vostra vedrà ripeto acquisito in forma integrale non vi è un verbale di acquisizione nella risposta a firma del colonnello Sabatino inviata alla procura della Repubblica e verosimilmente predisposta dico verosimilmente perché non abbiamo una traccia documentale adesso proverò a chiarirmi meglio verosimilmente predisposta dal colonnello D'Aloia dirò perché non figura né una delega interna dal colonnello Sabatino al colonnello D'Aloia né da questi cioè dal colonnello D'Aloia al comandante della quarta sezione ancora non figura alcuna delega interna al comandante del gruppo di Ostia al colonnello Nervi non figura alcuna risposta da Nervi a Sabatino in sostanza la consultazione completa di questo fascicolo fa emergere una situazione diciamo l'utilizzo di una procedura si va di bene la vicenda è del 2014 dunque è di almeno un anno antecedente rispetto ai fatti dei quali ci stiamo occupando quindi nel 2015 non ci si è inventati nulla già nel 2014 si pone in essere una procedura del tutto conforme rispetto a quella oggetto di questo processo anzi se posso dire almeno nella vicenda di questo processo nella vicenda della quale ci occupiamo sono state sono state allegate le risposte dei singoli comandi vale a dire compagnia Casilina compagnia Montesacro e gruppo Carabinieri che invece nel fascicolo del 2014 difettano del tutto solo per precisione perché mi sono permesso di dire che verosimilmente la nota la firma del colonnello Sabatino verosimilmente non ne ho alcuna certezza potrebbe essere stata predisposta dal tenente colonnello D'Aloia perché tra i documenti allegati ce n'è uno di protocollo 56 barra 1 trattino 1 2014 datato 11 ottobre 2014 indirizzato dal comandante del reparto operativo colonnello Sabatino al tenente colonnello D'Aloia dove il colonnello Sabatino scrive la signoria vostra voglia svolgere gli accertamenti delegati dall'ufficio coordinamento di polizia giudiziaria della procurazione militare della repubblica eccetera predisponendo un referto a firma dello scrivente da questa indicazione di sumo vero e questa lettera ovviamente è indirizzata al colonnello D'Aloia da questo di sumo verosimilmente che potrebbe essere stato lui predisporla ma comunque si tratta di circostanze non rilevanti veniamo all'altro fascicolo acquisito integralmente dal pubblico ministero anche questo dimostra che il documento prodotto da questa difesa è un atto pubblico ed è assolutamente genuino conforme a quello rinvenuto nel fascicolo in originale ecco il documento prodotto dal sottoscritto differisce da un altro contenuto in questo stesso fascicolo che ha la stessa identica data signor giudice cioè sono entrambi atti datati 29 luglio 2015 e sono entrambi a firma del tenente colonnello D'Aloia vede dei due uno è quello che io ho esibito cioè quello dove c'è scritto si prega di voler consegnare all'atore della presente l'altro che lei trova consultando il fascicolo come foglio immediatamente successivo precedente a seconda che lo sfogli dal retro o partendo dall'inizio che reca la stessa identica data cioè il 29 luglio il colonnello D'Aloia sottoscrive due atti nello stesso giorno relativi alla stessa vicenda allo stesso accertamento delegato dalla stessa autorità giudiziaria in uno dice consegnare all'atore della presente nell'altro dice si prega di poter trasmettere dunque del tutto evidente che lo stesso soggetto in due situazioni diverse utilizza due modalità diverse perché in un caso deve compiere tra virgolette degli accertamenti nell'altro caso deve semplicemente acquisire della documentazione amministrativa come vedrà consultando questi atti la nota di risposta all'autorità giudiziaria questa volta nonostante la richiesta fosse indirizzata al comandante del reparto operativo e dunque all'epoca al colonnello Sabatino la risposta questa volta è forse perché poteva essere un periodo di ferie non lo so la risposta è di agosto comunque è a firma direttamente del colonnello D'Aloia ebbene in questa risposta manca qualsiasi delega interna al capitano testa armata cheppure è delegato informalmente se lei prende l'altro foglio di questo stesso fascicolo quello in cui Sabatino manda gli atti a D'Aloia datato 25 febbraio 2015 protocollo 79 barra 1 trattino 1 barra 2015 ancora una volta bisogna predisporre i referti a cura dello scrivente ma in alto a destra trova la sigla di D'Aloia con l'indicazione comandante quarta cioè va al comandante della quarta sezione a parte questa sigla non c'è un atto interno di subdelega così come mancano del tutto le due richieste interne indirizzate dal nucleo investigativo a Colleferro e al servizio amministrativo che pure rispondono tanto che voi trovate due atti che provengono per l'appunto da Colleferro e dal servizio amministrativo quindi figurano esattamente come è successo nel caso del quale ci stiamo occupando non i passaggi interni ma le risposte che provengono come è successo nel nostro caso da Casilina e da Montesacro in questo caso provengono da Colleferro e dal servizio amministrativo ultimo aspetto di rilievo che vorrei segnalare forse il più significativo nell'ottica della difesa del mio singolo assistito è che in tutti gli atti di questi due fascicoli tutti gli atti di cui il capitano testa armata risulta minutante recano tutti il timbro e la firma per esteso del capitano testa armata ultimissima e quindi diciamo questa è la produzione chiarisco io la produzione l'ho divisa come lei vedrà in due allegati allora innanzitutto per chiarirci ho scritto cosa mai fatta prima ma siccome c'è stata una diciamo piccola inesattezza da parte dell'ufficio del TIAF nella scannerizzazione dall'originale alla copia nel senso che io mi sono trovato un foglio in meno ho chiesto copia integrale ma mancava un foglio ho precisato che la produzione che faccio che quella che a me risulta dal TIAF è una produzione di 66 pagine credo diciamo io è quella che ho avuto dal TIAF per intero spero che siano tutte le pagine copiate per intero dicevo l'ho divisa in due il primo allegato è la richiesta avanzata dal pubblico ministero al nucleo investigativo è la richiesta del 10 agosto 2020 con i relativi allegati cioè allegati a quella richiesta ci sono sostanzialmente i due atti prodotti da questa difesa ed esibiti al test d'Aloia nel corso di quell'udienza il secondo allegato è la risposta del colonnello d'Aloia alla procura della repubblica risposta che contiene in allegato i due per l'appunto sotto fascicoletti di cui ho parlato finora credo per il resto penso di sì 12 agosto porta sia la data sia il timbro del 12 agosto esatto se vuole va bene quindi allora la difesa sono 66 pagini ripeto la difesa testarmata avvocato Bonzano chiede acquisirsi documentazione come da indice e poi ovviamente l'illustrazione che si rince dalla fono registrazione preciso che la conoscono o comunque hanno avuto possibilità di conoscerla tutte le parti processuali in particolare le parti civili ne hanno parlato in più luoghi quindi immagino che sia come dire documentazione che tutti hanno ampiamente compulsato va bene ci sono osservazioni su questa produzione? no giudice il pubblico ministero nessuna osservazione le altre parti? ma vedi signor giudice una piccola precisazione io la devo fare perché sono stato chiamato in causa dal collega e quindi mi corre l'obbligo di farla la produzione sulla produzione non c'è nessun tipo di opposizione la parte civile no non basta perché la parte civile non ha sostenuto che il documento fosse diciamo prodotto e utilizzato durante l'esame del tenente colonel D'Aloia falso di falsa produzione la parte civile scusate per favore innanzitutto la tradizione c'è scritto è illecito per favore io chiedo di non essere interrotto perché io non l'ho interrotta per favore si procede con ordine le parole pesano per tutti pesano la totale responsabilità scusate allora queste si tratta di diciamo di questioni che esulano però da quello che è l'oggetto ho capito però il problema perché lo so il tutto deriva dal fatto che a volte nel opporsi a determinate a determinate a determinate produzioni o a determinate domande ci si lascia andare a dei commenti quindi è ovvio che l'uno risponde al commento dell'altro ma siccome i commenti non rilevano nel procedimento quindi eventuali questioni adesso poco rilevano a me interessa sapere se c'è un'opposizione fondata sulle norme del codice riguardo all'acquisizione di questi documenti quindi solo questo poi considerazioni su quello che la parte civile avverte come essere stato detto in maniera polemica dall'avvocato Bonzano diciamo non rilevano la vedrete al di fuori io la capisco invito tutti anche per il prosieguo ad evitare commenti cioè atteniamoci a come deve essere svolto il procedimento certo però siccome i commenti del collega ma io non faccio commenti sui commenti io ho precisato la mia opposizione che riguarda proprio la validità dell'utilizzazione di quel documento in quella sede su questo però il tribunale si è già pronunciato lo so infatti ho fatto riferimento al fatto che diciamo è il modo in cui è stata acquisita la disponibilità che non è consentito dalla legge non è che il documento fosse falso e questo ci tengo a precisarlo non era consentito dalla legge e la produzione documentale lo ha diciamo ulteriormente suffragata questa mia eccezione che vi permetto era fondata poi sulla produzione documentale io mi associo signor giudice poi per quanto riguarda la giusta sua reprimenda nei miei confronti ma non è nei suoi confronti è in generale adesso lo spunto è stato il suo però diciamo che noi siamo a conoscenza di tutti i verbali di interrogatorio degli imputati e quindi è chiaro che non possiamo eccepire la rilevanza di questa documentazione ma guardando l'interrogatorio degli imputati signor giudice poi ci si renderà conto quanta utilità va bene ma poi la valenza probatoria ovviamente è un altro discorso insomma poi lo trattemo alla fine del processo d'accordo allora il tribunale acquisisce no però chiedo scusa signor giudice solo a futura memoria siccome si dice che secondo una parte questi documenti conclamano la illecita provenienza io vorrei che restasse atto avverbale che se ben guardati un po' come il registro spis basta guardarli più o meno in controluce questi documenti chiedo scusa dimostrano l'esatto contrario cioè dimostrano che quella produzione è una produzione di documentazione diciamo di bozze a firma del mio assistito e non altro per favore stiamo di nuovo polemizzando tra difensori riguardo diciamo ad una semplice questione l'acquisizione di documenti è ammissibile ai sensi del 234 oppure no solo su questo dobbiamo parlare poi eventualmente scusate scusate basta cioè non è consentito che ci siano questi batti vecchi tra di voi in questo modo al di là dei ruoli che ognuno svolge nell'ambito del processo sulla valenza se ne parlerà quando saranno dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti ai fini del processo e chi vorrà potrà fare le sue considerazioni va bene il tribunale quindi a questo punto giudice chiedo scusa vorrei anche io sfruttare questo momento processuale per produrre dei documenti mi dica lei se lo faccio in questa fase o in altro momento come vuole non so quanto diciamo ci sono dei testi che aspettano se non sono rilevanti diciamo ai fini dell'esame testimoniale che deve svolgersi oggi lo possiamo fare anche magari alla fine del primo test tra l'uno e l'altro insomma allora attendo la fine giudice quindi il tribunale scusa su questo profilo volevo solo chiedere che io mi sono permesso di farlo adesso proprio perché questa produzione può essere per me funzionale all'escussione del test generale luongo altrimenti diciamo l'avrei fatto in un altro momento va bene il tribunale acquisisce i documenti prodotti dalla difesa test armata di cui al relativo indice qual è il test che dobbiamo introdurre giudice se sono presenti entrambi io preferirei iniziare da rosati perché è più breve va bene è presente rosati non è presente allora il generale luongo bene facciamo accomodare il test signor giudice della pausa per comunicare che alle 13 mi dovrò allontanare perché sono impegnato in corte di appello alle 14 lascerà qualche suo collega in sostituzione l'avvocato Fabio Azzemo quindi per il verbale già d'accordo a questo punto giudice pure io io alle 14 dovrebbe vedere un collega in sostituzione anzi l'occasione lei già pensava a una pausa per l'ora di pranzo oppure diciamo di solito la facciamo sempre una pausa di 20 minuti mezz'ora questo non glielo so dire perché dipende anche da come procede l'esame testimoniale così ho aperto il collega per venire comunque una pausa di 20 minuti in ogni caso sì normalmente facciamo 20 minuti massimo mezz'ora va bene grazie buongiorno prego si accomodi buongiorno lei oggi viene sentito come testimone quindi ha l'obbligo di dire la verità deve impegnarsi a farlo leggendo la formula che è descritta lì davanti a lei leggendola ad alta voce consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza lei si chiama io sono Salvatore Luongo dove è nato e quando sono nato a Napoli il 6-6-1962 dove presta servizio al ministero della difesa e con lei è generale Luongo io sono il generale gravi prego rispondo alle domande del pubblico ministero e poi a quelle delle altre parti buongiorno generale buongiorno senta io vorrei iniziare dalla delega che lei riceve dalla procura della repubblica il 28 ottobre del 2015 non so se ricorda di cosa si è opposizione giudice non si tratta di una delega ma si tratta di una richiesta di trasmissione atti per cui questo induce il testimone a dare delle informazioni su una delega che invece non è oggetto della richiesta di trasmissione giudice la riformulo bene lei nella risposta a questa richiesta scrive atto firmato da lei del 16 novembre 2015 in esito in esito a quanto richiesto da codesta autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale in oggetto con delega del 28 10 2015 si trasmette l'allegata nota eccetera eccetera quindi anche lei la qualifica delega comunque senza sottilizzare ricorda di cosa stavamo di cosa si parlava generale qual era l'oggetto cosa le si chiedeva certo fino a ottobre appunto del 2015 io ho ricevuto questa richiesta di atti da parte della procura della repubblica a firma del dottor Pignatone e del dottor Musarò che riguardava l'acquisizione di determinati atti presso alcuni reparti e da me dipendenti si trattava della compagnia Casilina della compagnia Montesacro e del gruppo di Roma senta generale lei questo atto poi non voglio fare polemiche sulla qualifica lo riceve lei a mani da qualcuno sicuramente io lo ricevetti a mano dal signor procuratore di Roma lei all'epoca che incarico ricopriva io ero il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Roma quindi il procuratore della repubblica si interfaccia direttamente col comandante provinciale e gli consegna quest'atto a mani vorrei sapere il generale al comando provinciale fanno capo degli uffici di polizia giudiziaria allora il comando provinciale è fatto un'articolazione complessa e ha degli organi che sono delle demoltipliche delle attività che vengono svolte quando in questo caso quando arriva una richiesta di atti da una procura può anche arrivare perché non è il rituale il fatto il comandante provinciale secondo le disposizioni vigenti si avvale degli organi dalle sue dirette dipendenze questo lo dico io ma nelle disposizioni basta guardarlo insomma tant'è che per alcune se vado oltre non vorrei essere pedante dire cose insomma il comando provinciale essendo una macroorganizzazione ha un ufficio comando che tratta tutte le questioni sia operative che logistiche ma di carattere prettamente burocratico poi ha un organo di demoltiplica delle attività sotto il profilo operativo che è costituito in pratica dal solo il comandante del reparto operativo che ha le dipendenze i tre nuclei il nucleo investigativo il nucleo informativo e il nucleo radiomobile le nostre disposizioni dicono che il comandante del reparto operativo è il coordinatore delle attività di questo tipo tant'è che io in quell'epoca affidai l'esecuzione di questa richiesta al comandante del reparto operativo ma scusi vi chiedo una precisazione quindi la risposta è al comando provinciale fanno capo degli uffici giudiziari la risposta qual è? no uffici direttamente responsabili dell'attività investigativa no non c'è dubbio ma lei è al vertice no? ma io sono al vertice ma non ho compito tra l'altro io all'epoca essendo generale non avevo nemmeno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non c'è dubbio generale quindi io per svolgere qualsiasi attività anche di questo tipo avevo necessità di avvalermi degli organi operativi alle mie dipendenze ma infatti questa era la domanda e dico lei sceglie il reparto operativo nella persona del colonnello sabatino? no scelgo è dovuto dalle norme le procedure prevedono e lo dico io non lo dico io ma lo dicono le norme basta prendersi le job description dice che il comandante dell'operativo opera alle dirette dipendenze del comandante provinciale esegue i suoi ordini e le sue direttive ed è l'organo di demoltiplica delle attività perché il comandante provinciale un po' specialmente alle grosse città io ho fatto due comandi provinciali di grosse città Milano e Roma è forse più articolato di una questura quindi è come se il questore si mettesse a fare attività di polizia ma non c'è dubbio la domanda era questa forse non sono stato chiaro no no è stato chiarissimo gliela pongo diversamente il comando gruppo per esempio fa capo sempre al comando provinciale assolutamente sì quindi lei in teoria diciamo questa attività avrebbe potuto essere svolta o dalla territoriale per capirci o dal reparto operativo allora in teoria è un'attività che il comandante può svolgere diciamo tecnicamente essendo un'attività di acquisizione atti ad altri reparti di una linea diversa diciamo la tendenza è affidarla a un reparto diverso cioè non a quello ma tecnicamente io questo questo atto l'avrei potuto affidare anche al comandante del gruppo di Roma gli avrei potuto dire l'avrei potuto chiamare e dire esegui questa attività esatto questo volevo sapere assolutamente e lei stava dicendo invece ho fatto questa scelta perché il comandante di un reparto diverso sì non solo ma il comandante del reparto operativo è un'entità organica al comando provinciale vive all'interno del comando provinciale ed è normale che essendo il coordinatore delle attività operativo e se andiamo a vedere il job description dice che coordina anche le attività degli altri nuclei investigativi non dipendenti da lui perché sapete lei Musarola conosce ma gli altri probabilmente non lo conoscono il comando provinciale di Roma ha anche altri nuclei investigativi alle loro sue dipendenze quindi il comandante del reparto operativo coordina anche le attività degli altri comandi comunque non voglio andare oltre io affidai questa attività al comandante del reparto operativo al colonnello Salvatino e lo affidai perché innanzitutto era il mio braccio destro operativo in pratica era la persona con cui parlavo tutti i giorni di questa attività tra l'altro il colonnello Salvatino come ho detto anche al verbale mi sembra non vorrei era stato già il comandante del nucleo investigativo di Roma e ritenevo che era la persona più adatta per coordinare questa attività senta generale lei conosceva da quanto tempo il colonnello Salvatino io non lo conoscevo l'ho conosciuto quando sono arrivato al comando provinciale di Roma non avevo conoscenza prima mi scusi da quando? io sono arrivato al comando provinciale di Roma dal 2013 nel 2013 quindi quando lei è arrivato il colonnello Salvatino che incarico comandante del nucleo investigativo e da allora lei ha iniziato a interfacciarsi con lui? all'epoca non lo vedevo spesso perché come ho detto le mie interlocuzioni erano il comandante del reparto operativo che all'epoca era il colonnello Cagnazzo poi quando è stato destinato a fare il comandante del reparto operativo da lì credo un anno allora ovvio c'erano i briefing mattutini tutte le mattine erano fatti con il capo ufficio comando e il comandante del reparto operativo tutti i giorni le posso chiedere per quello che ha percepito lei per come lo ha conosciuto se il colonnello Salvatino era da lei ritenuto una persona precisa affidabile o meno? assolutamente sì per me il colonnello Salvatino era una persona precisa ed affidabile benissimo senta in questa richiesta che le consegna il procuratore del figliatone in persona e poi lei ha spiegato come con quali modalità e ha scelto insomma ha disegnato il colonnello Salvatino si richiedeva solo un'acquisizione documentale o erano come dire si faceva si richiedevano anche una serie di accertamenti se lo ricordo no la prima parte della richiesta era assolutamente un'acquisizione documentale tassativa c'era una serie di atti da recuperare e poi mi sembra nella parte seconda c'erano delle questioni da precisare tipo se il militare di servizio alla caserma quale fosse oppure non mi ricordo era una questione relativa se la stazione Appia avesse le camere di sicurezza Gib tendenzialmente era un'acquisizione di atti poi alla fine di questa richiesta c'era inoltre mi sembra si era scritto proprio inoltre vorrà accertare e c'era una serie di cose da fare ok senta generale ci può dire a questo punto lei ha spiegato decide di avvalersi del colonnello sabatino ne ha spiegato le ragioni è stato chiarissimo vorrei sapere poi se avete parlato delle modalità con le quali avrebbero dovuto operare se vi siete confrontati allora all'inizio del quando io ho affidato questa attività al colonnello sabatino non mi ricordo se contestualmente ma credo da lì a qualche giorno colonnello sabatino venne da me e condividemmo le modalità con cui si doveva svolgere questa attività e le modalità che mi furono rappresentate e io condivisi era quella di fare una richiesta specifica ad ogni comandante di compagnia in relazione agli atti che dovevano essere acquisiti presso i suoi reparti e anche al comandante del gruppo che era il colonnello maestri dopodiché fu anche deciso di questo per responsabilizzare i comandanti di compagnia perché essendo io una cosa dissi subito al colonnello sabatino voglio che l'attività sia fatta presto e bene presto per due motivi il primo perché il colonnello sabatino da lì a poco sarebbe andato via era destinato ad altro reparto e poi perché non volevo tenermi queste cose in giro per il comando provinciale se il dottor Musarò è qui credo che mi conosca insomma anche per il rapporto che avevo nei confronti della procura non mi andava di prolungare queste cose per tanto tempo bene perché ritenevo che fosse un atto di fiducia nei confronti del comando provinciale l'acquisizione di atti fatti delegati al comandante provinciale per me era un atto di fiducia a cui tenevo particolarmente e che fosse fatto bene quindi comandanti di compagnia che sono i responsabili dei comandi da loro dipendenti e il colonnello sabatino mi chiese anche di mi disse anzi se era il caso di responsabilizzare anche un ufficiale del nucleo investigativo e fu scelto il capitano testarmata per favore possiamo scusi silenziare i telefoni che disturbano ovviamente prego il colonnello testarmata che era il comandante della quarta sezione ha funzione di garanzia responsabilizzando anche delle attività che venivano svolte ecco può essere più preciso cioè in che senso sarebbe stato responsabilizzato anche il capitano testarmata la funzione prioritaria c'è opposizione a questa domanda se ho ben capito il test ha detto responsabilizzando per le attività svolte cioè responsabilizzando i terzi destinatari delle richieste non responsabilizzando lo facciamo chiarire perché così chiarisce meglio lo stesso test allora il capitano testarmata fu incaricato a garanzia che le procedure venissero fatte nel miglior modo possibile ovviamente questo che sia chiaro questo significava responsabilizzare tutti coloro che erano coinvolti nell'acquisizione degli atti è ovvio che fosse così il capitano testarmata però aveva un preciso compito è questo di prendere questa richiesta arrivare presso i comandi francamente le modalità con cui se c'era un avviso prima io non ne ho non ne ho discusso però volevo che il capitano testarmata portasse la richiesta e questo mi ricordo ne parlai col colonnello Sabatino portasse la richiesta ai comandi dipendenti e insieme diciamo sovraintendesse all'acquisizione degli atti questo mi fu detto dal colonnello Sabatino questo io condividi appieno perché ritenevo che a mio modesto avviso fosse la procedura che consentiva come dicevo e ripeto scusatemi se mi ripeto sono saccente due cose la rapidità nell'esecuzione dell'attività e anche una certa doppia garanzia perché venivano responsabilizzati tutti quelli che dovevano fare questa quindi era previsto che se ho capito bene scusate i comandanti dei singoli reparti avrebbero ricevuto una richiesta assolutamente e che il capitano testarmata avrebbe presenziato all'acquisizione fisicamente assolutamente sì quindi era previsto le chiedo che il capitano testarmata visionasse gli atti da acquisire li analizzasse li selezionasse li fotocopiasse se doveva acquisire determinati atti presumo che dovesse sapere quali atti dovevano essere assunti perché altrimenti non si capiva che cosa diceva scritto per esempio memoriale di servizio della compagnia quindi era opportuno che il capitano quando andava a acquisire gli atti vedesse quali atti doveva acquisire altrimenti anche perché una compagnia dei carabinieri di Roma ha una competenza su circa 350.000 abitanti le stazioni dei carabinieri di Roma di media sono dai 12 ai 27 30 carabinieri sono anch'esse unità organizzative difficili se non ci fosse stata una diretta corrispondenza tra l'ufficiale che si trova sul posto con la richiesta e la responsabilità di coloro che hanno i fascicoli a disposizione secondo me non si sarebbe arrivati a nulla lo dico con franchezza cioè se per esempio questa delega fosse arrivata ma non voglio per questo dire che noi siamo stati più bravi degli altri questo non mi sarei mai permesso di dirlo però se fosse arrivato un altro reparto qualsiasi sarebbe stato molto più difficile l'attività acquisitiva sì sì generale ma io le chiedo la domanda era diversa io vorrei sapere per quello che aveva capito lei il capitano destarmata avrebbe dovuto semplicemente consegnare la lettera stare là verificare che gli fosse consegnato tutto quello che era stato richiesto o avrebbe dovuto insieme ovviamente ai suoi uomini non solo lui compiere anche un'attività materiale di analisi selezione anche fotocopiatura degli atti questa è la domanda c'è opposizione signor giudice primo alla domanda già posta in altri termini il test ha già risposto dicendo che il capitano stava lì per verificare la rispondenza abbiamo sentito tra chi è chiesto e prodotto a fronte di questa risposta il pubblico ministero pone un'altra domanda che dà una risposta alternativa e contiene già la risposta suggestiva cioè se dovesse fare anche quelle attività di verifica o analisi perché la domanda era la domanda iniziale alla quale il test ha risposto la domanda iniziale allora andava posta in altro modo cioè quale attività sono state delegate al capitano test armata non questa questa è suggestiva perché contiene la risposta no contiene un'alternativa quindi insomma in questi termini come la prima può essere la risposta il prego può rispondere posso rispondere allora ovviamente il capitano test armata per capire quali atti dovesse recuperare e capire e vedere se questi atti erano stati tassativamente presi dai comandanti doveva quantomeno vedere di che cosa si trattava altrimenti che avrebbe preso tacitamente quello che gli forniva il comandante di compagnia e non è questo che volevamo noi volevamo che quegli atti richiesti dalla procura fossero acquisiti basta questo senta generale lei poi ha postato in procura al termine dell'acquisizione gli atti li ha postati immaterialmente lei guardi credo di sì nel senso che i miei rapporti erano assolutamente credo di sì credo che li abbiamo consegnati nell'ufficio del procuratore del procuratore del procuratore sì non credo che ci mettiamo a parlare col procuratore dell'esito dell'attività insomma fu depositato poi ci arriviamo la domanda è la diversa perché quella nota che gli ho detto prima quella sua firma del 16 il novembre 2015 c'è scritto in alto a destra il procuratore Pignatone qualche firma consegnato dal generale lungo 17-11 o almeno io capisco così 2015 e a questa sua lettera di trasmissione è poi allegata la nota del colonnello Sabatino non so se lei la ricorda o vuole che la esibisca no no la ricordo sembra la vuole esibire però la ricordo vorrei sapere lei se ci può indicare un solo atto di tutta questa vostra corposa acquisizione documentale dal quale si potesse evincere che le modalità di acquisizione materialmente adottate fossero state quelle che lei ha descritto finora e che è pacifico che sia andata così risulta da tutto il dibattimento vorrei sapere se lei è in grado di indicarci un atto per esempio le richieste di consegna all'autore della presente ai singoli comandanti del gruppo lei sa se erano state allegate a questa nota del colonnello Sabatino sì mi sembra che furono allegate no non furono allegate non ricordo bene però le dico questo che io controllai secondo me questo era il mio compito sulla nota del colonnello Sabatino se in corrispondenza alla richiesta del pubblico ministero ci fosse gli atti richiesti e questo mi risultò assolutamente coerente cioè io dalla nota del colonnello Sabatino alla richiesta perché quello era quello che io credo avrei dovuto fare questo mi competeva avrei dovuto riscontrare che ci fossero tutti quanti gli atti e da quanto io rilevai dalla nota perché la nota era una nota che aveva tutta una serie di allegati che io ovviamente non vidi riscontrai che tutto quello che era stato richiesto c'era almeno una cosa sola mi sembra che non fu rilevata un memoriale della compagnia o della stazione della compagnia Casirina o della stazione Appia che poi dopo invece rinvenimmo dopo e fu inviata a seguito sì sì ma generale per capirci io non stavo facendo un appunto a lei io le stavo solo facendo una domanda perché lei è un testimone vorrei sapere lei ha descritto una modalità di acquisizione lei ha detto noi abbiamo preso come atto di fiducia da parte della procura questa richiesta io glielo confermo era un atto di assoluta fiducia talmente di fiducia che il procuratore della repubblica per galateo lo ha consegnato nelle sue mani non ci siamo rivolti direttamente agli uffici interessati abbiamo lasciato a lei la scelta del reparto da interessare quindi su questo siamo d'accordo lei dice io mi dovrei solo verificare che ci fossero tutti gli atti chiesti dalla procura e anche su questo siamo assolutamente d'accordo la mia domanda però è diversa lei ha descritto una modalità di acquisizione documentale e ne ha spiegato le ragioni io però le chiedo sulla base di questa nota redatta dal colonnello Sabatino con numerosissimi allegati non so se ne ricordo è in grado di indicarci un atto uno da cui materialmente presente fra gli allegati da cui noi potessimo capire che la modalità seguita era stata questa in modo anche diciamo da essere tranquillizzati anche noi perché per quello che risulta da questi atti trasmessi e depositati brevi mano da voi in procura risultano le lettere di trasmissione dei vari reparti cioè per chi sembra che vi siano stati trasmessi gli atti con il cosiddetto camminatore quello che sa benissimo cos'è quindi questa era la domanda allora intanto ritengo che nel corpo della nota fatta dal colonnello Sabatino c'era anche l'annotazione di polizia giudiziaria del personale operante e da lì io presumo non l'Alessi all'epoca che si doveva evincere le modalità con le quali il personale aveva proceduto alle acquisizioni quindi secondo i dettami dati dal colonnello Sabatina al capitano Testarmato cioè questa era la modalità con cui si rendeva partecipe la procura delle modalità acquisitive io ritengo che questo era l'atto principe dal quale la procura si poteva rendere conto di come erano state esvolte le attività di acquisizione allora le faccio un'ulteriore domanda diciamo il presupposto è pacifico quella annotazione materialmente non era legata lei se ne era accorto no non me ne era accorto no chiedo scusa eh no questa è una domanda suggestiva quella annotazione che non fosse allegata noi non lo sappiamo noi sappiamo soltanto che quando viene esaminata dalla questura in procura eccetera eccetera quella annotazione manca ma che non fosse allegata nel momento in cui partì dal comando verativo dall'ufficio di San Lorenzo di Lucina per andare in procura non lo sappiamo giudice posso precisare avvocato si rilassi l'ha detto il colonnello da Loria che quando è andato a San Lorenzo di Lucina c'erano entrambe le copie quindi non era stata trasmessa no no non l'ha detto ancora per la verità non l'ho detto io non lo sento però io sto facendo delle domande voglio dire c'è opposizione alla domanda avete tanto che ho risposto deve essere più tempestiva diciamo lei ha visto se effettivamente questa annotazione di cui era indicata negli allegati era indicata negli allegati e lei ha visto ha controllato se effettivamente tra gli allegati vi fosse no non l'ho controllato quindi lei ritiene che vi fosse perché era indicata tra gli allegati è l'attività che io ho fatto cioè ho controllato tra l'altro quando mi è stata portata la lettera alla firma se vedete le lettere alla firma sono tutte del reparto operativo io non è che avevo tutti gli allegati per verificarli quindi questa attività quindi anche gli altri allegati lei non li ha visti no non li ho visti cioè lei ha visto solo la nota di trasmissione che era stata redatta dal colonnello Sabatino esatto ma credo l'ho chiarito anche in sede di Sì infatti Senta generale vorrei sapere una cosa in quel momento storico chi era il comandante del nucleo investigativo? il tenente colonnello D'Aloia che lei sappia il tenente colonnello D'Aloia in tutta questa vicenda ha avuto un ruolo si è interessato ha fatto qualcosa ha interroguito con lei allora io col colonnello D'Aloia non ho mai parlato di questa vicenda io sapevo che l'attività era stata delegata al capitano Sestarmato ovviamente il colonnello D'Aloia era il comandante del nucleo investigativo ma se lei mi chiede se io ho parlato con il colonnello D'Aloia io le dico che non ho mai parlato con il colonnello D'Aloia di questa vicenda no io non le chiedo quindi lei non ha mai parlato con il colonnello D'Aloia lei risulta in qualche modo che il colonnello D'Aloia abbia svolto un'attività abbia avuto un ruolo o per quello che sarei il colonnello Sabatino si rivolge direttamente al capitano Sestarmato allora noi io e il colonnello Sabatino parliamo sempre di questa attività delegata al capitano Sestarmato non mi fu mai detto che era stato delegato comunque il colonnello D'Aloia avesse un ruolo certo il colonnello D'Aloia era il comandante del nucleo investigativo quindi quantomeno il fatto cioè io per esempio non ho vietato al colonnello Sabatino di parlare col colonnello D'Aloia di questa attività cosa che avrei anche potuto fare ma non lo feci però essendo il colonnello D'Aloia il comandante del nucleo investigativo ritengo poi questo io non sono tenuto non l'ho mai chiesto ecco ritengo che nelle ordinarie attività fatte dal capitano Sestarmato cioè i suoi spostamenti giornalieri dove andava cosa faceva presumo che il capitano Sestarmato gli abbia detto vado a fare un'acquisizione atti qui vado a fare questo ho questa cosa questo presumo sì che io abbia avuto contatti e che sappia se il colonnello D'Aloia aveva un'attività svolgessi un ruolo specifico in questa attività ok me ne faccio una domanda ancora più precisa in questa circostanza quando qualche giorno dopo lei ha detto prima torna il colonnello Sabatino e le dice ho deciso di procedere così le dice ho parlato con D'Aloia abbiamo deciso l'individuale testarmata o la scelta di testarmata della quarta sezione è stata una scelta del colonnello Sabatino la scelta di testarmata era una scelta condivisa tra me il colonnello Sabatino ok senta quando terminata l'attività diciamo anzi le faccio una domanda antecedente lei ha detto io ho parlato prima che iniziasse l'attività immagino che ne abbiate parlato dopo adesso le farò qualche domanda nell'acqua temporale intermedio no mai ok guardi l'unica cosa io non avevo il tempo proprio di vabbè lei sa non voglio scrivere eravamo era un periodo veramente molto impegnativo per il comando provinciale avevamo delle indagini molto importanti che riguardavano purtroppo del personale dell'arma anche del personale dell'arma a me molto vicino che poi abbiamo arrestato e avevamo in corso il primo protocollo per l'impianto sulla su Roma capitale del 112 europeo il 112 europeo era per noi un obiettivo fondamentale sotto il profilo del controllo del territorio perché avendo fatto questa stessa esperienza a Milano io ero il leader nel settore insomma non potevo fallire in questo risultato cosa che ringraziando a Dio è andato bene è stato attivato c'è stato il piano coordinato di controllo del territorio e tutto il resto quindi francamente non avevo tempo di poter interlocuire sulle varie attività in corso io ho parlato all'inizio dell'attività e al termine dell'attività e col capitano testarmato ha mai parlato? no mai senta allora generale andiamo al momento in cui si io non ho sentito la risposta alla domanda però la domanda l'ho sentita ma non la risposta ha detto no mai grazie andiamo al momento in cui termina l'attività viene da lei il colonnale Sabatino ci dica insomma come è avvenuto sì non ricordo quando a un certo punto una sera i nostri orari erano molto verso spostati verso gli orari notturni serali molto tardi ricordo disse abbiamo terminato tutto allora io dissi prepara una nota a tua firma in cui dettagli i documenti che sono stati acquisiti e poi una nota a mia firma con cui io trasmetto la tua nota al procuratore della Repubblica quindi mi scusi generale se la interrompo quella nota del 16 novembre 2015 che gli ho letto proprio all'inizio a sua firma materialmente l'ha redatta il colonnello Sabatino sì se vede il protocollo il repop dovrebbe essere se non sbaglio adesso mi prendo a memoria però cioè il comandante del nucleo operativo il comandante del reparto operativo cura la predisposizione degli atti a firma del comandante provinciale dei nuclei dipendenti è proprio una sua anche se non ha una struttura però si tolge questa attività va valendosi dei comandi a lui dipendenti cioè è proprio un'attività sua tant'è che non è che l'ha fatto solo il colonnello Sabatino l'hanno fatto tutti i comandanti del reparto operativo va bene e ritorniamo ritorniamo a noi allora dicevo venne da me e io gli chiesi è andato tutto bene e lui mi disse si è andato tutto bene abbiamo acquisito tutto manca questo atto che era quella famosa memoriale e poi mi disse che presso la stazione Torsapiense non si rinvenne il fascicolo cartaceo ma furono molto bravi il personale della compagnia e il capitano testarmata perché riuscirono a estrarre dal dal protocollo informatico perché noi abbiamo una protocollo informatica che in pratica salva una parte dei documenti una parte non capisco come tutto comunque abbiamo rinvenuto alle relazioni quello che ci è stato chiesto e io dissi va bene importante che sia tutto in nota e trasmettete tutto all'autorità giudiziaria e questo fu fatto da lì non mi ricordo se poi la mattina dopo la sera dopo mi fu portato la nota io la sera la firmai quindi da lì a qualche giorno e la mattina fu portato e fu in questa circostanza insomma quando le parrò degli atti che a Tor Sapienza non erano presenti in formato cartaceo che le disse poco fa stava facendo riferimento alla mancanza di un memoriale presso la compagnia Casilina compagnia Casilina sì nella stessa circostanza sì sì nella stessa circostanza mi fu detto anche che questa questione del protocollo informatico e della diciamo bravura nell'acquisire informaticamente nonostante questo fascicolo che a dire del comandante della stazione era fuori posto o perché era in consultazione da parte di uno del personale oppure era stato oggetto siccome lì a Tor Sapienza sono abbastanza io ho comandato per dieci anni compagnia Roma e ho fatto anche il comandante del gruppo di Roma quindi conosco un po' le compagnie e le stazioni c'era un un magazzino che era all'esterno del della stazione dove c'era anche l'archivio purtroppo questo questo magazzino era soggetto a continui alluvioni si rovinavano i fascicoli bisogna fare a dire del comandante della stazione questo fascicolo si era rovinato per cui si era si era distrutto o comunque non era presente ma comunque avevamo risolto lo stesso senta ma in questa circostanza quindi le segnala queste due criticità si ma le dice qualcos'altro si non mi ricordo se la sera stessa o da lì la mattina quando firmai poi mi disse anche che sempre verso la stazione torstapienza erano stato rinvenute quattro annotazioni da parte dei carabinieri che avevano due di un carabiniero e di un altro che avevano la stessa data quindi firmate da ambedue e che si differenziavano in alcune parti ma mi disse se è una diversità però il contenuto nella sua complessità è identico io dissi mi raccomando trasmettiamo anche queste perché tutto va trasmesso dall'autorità giudiziaria ma per capire generale ma erano due annotazioni perché può capitare di fare due atti lo stesso giorno anche sullo stesso diciamo argomento era una situazione del genere o no per quello che aveva capito lei allora io ho capito che c'erano due annotazioni quasi identiche a firma di un carabiniere e all'interno c'erano delle diversità due annotazioni con la stessa data firmate anche dall'altro carabiniere e che all'interno vi erano alcune cose diverse basta a quell'epoca io per me le annotazioni vanno importante che quelle annotazioni fossero messe a disposizione dell'autorità giudiziaria sì ma lei ha detto stessa data le chiedo gli aveva detto anche che avevano la stessa ora per esempio no io mi disse soltanto guardi ci sono due annotazioni con la stessa data fatte da due carabinieri guardi io all'epoca quello presi per buono le fece le liste quindi non le parlò di numeri di protocollo no no non ne parlammo non affrontammo questa questione nel tecnicismo c'erano queste due annotazioni alla stessa firma da parte di due carabinieri quindi erano quattro annotazioni e queste quattro annotazioni che sostanzialmente avevano lo stesso contenuto si differenziavano in alcune parti dissi mandiamole tutte e basta ma le spiegò su cosa si differenziava ma all'epoca io non entrai nel merito sulla differenza poi dopo come lei sa ne abbiamo parlato sì ma all'epoca io non mi non mi posti proprio il problema perché per me abbiamo parlato è stato sentito come persona informata sui fatti appunto 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 senta diciamo sono due aspetti diversi della in quell'epoca io non ne avevo proprio cognizioni io lo sapevo soltanto che vi erano queste due annotazioni a firma di un carabiniere e due annotazioni a firma dell'altro carabiniere che avevano lo stesso contenuto ma si differenziavano in alcune parti insomma non aveva capito che divergevano sulle condizioni di salute no no io non entrai in questa questione l'ulteriore domanda lei le vide in quella situazione all'epoca no non le vidi come non vidi nessun atto non solo quello io non vidi nessun atto in quella circostanza ma a Torsapienza perché all'epoca dei fatti perché era stata coinvolta Torsapienza essendo stato Cucchi arrestato da Appia perché Cucchi fu trasferito perché tant'è che mi fu chiesto anche nel corso della richiesta perché Torsapienza era il posto in cui Cucchi fu trattenuto il signor Cucchi fu trattenuto presso le camere di sicurezza ma lei perché non fece ulteriori domande fu in qualche modo tranquillizzato da quello che le fu detto ci spieghi se mi dicono che ci sono due annotazioni con lo stesso contenuto che si differenziano per alcune parti io do per scontato che non vedo l'importante il nostro compito in quel momento era metterle a disposizione noi non avevamo l'organo investigativo non potevamo secondo me fare valutazioni ulteriori ma poi non mi competeva io dovevo metterle a disposizione ma che lei sappia in quel momento storico cioè quando il colonnello Sabatino le sottopone questa questione lui le aveva viste queste annotazioni sì o no? io non glielo chiesi però per dirmi che erano differenti presumo che quantomeno una scorsa o qualcuno gli avesse detto qualcosa perché io non gli chiesi se l'hai vista o non l'ha vista lui mi disse questa cosa e io la presi ovviamente correttamente e dissi trasmettiamolo perché lei quando è stato sentito il 31 gennaio 2019 su questo punto dice non chiese al colonnello Sabatino se lui l'avesse visionato diedi per scontato che l'avesse fatto nel senso e mi ripeto quindi non è che voglio negare diedi per scontato nel senso che nell'elencazione dei documenti penso che o lui o qualcuno che aveva fatto l'attività avesse quantomeno sommariamente visionato queste annotazioni è ovvio lo devo dare per scontato ma è una cosa ovvia senta generale visto che lei testa qualificato o particolarmente qualificato le chiedo così anche per fare capire al giudice in un'attività come questa se viene rilevata l'esistenza di un reato qual è la procedura da seguire in questa attività in caso in cui viene rilevato un reato se in questa attività articolata che voi avete fatto anzi che il reparto operativo e il capitano del salmato hanno fatto se fosse stato rilevato l'esistenza di un reato la procedura corretta quale sarebbe stata è una procedura abbastanza generale un ufficiale di polizia giudiziaria quando compie qualsiasi attività nel momento in cui rileva un reato fa una notazione di polizia giudiziaria circa la rilelazione del reato e poi trasmette questa notazione ITG all'autorità giudiziaria o direttamente o attraverso i canali gerarchici questa è la procedura quindi nel caso di specie a chi sarebbe spettato a Cassabatino a testa armata o a entrambi mi pare una domanda ipotetica però stiamo facendo una domanda di carattere ipotetico ovviamente sì nel senso che ovviamente parte da un presupposto del pubblico ministero però comunque sia visto che si stava parlando della procedura il pubblico ministero chiedeva proprio con riferimento a questa attività di acquisizione qualunque ma qualsiasi attività di acquisizione sì va bene però in particolare facendo riferimento alle persone che si sono occupate di questa attività di acquisizione in particolare qualora diciamo fosse emersa una circostanza da cui si poteva vincere la possibilità insomma che esistesse un reato il pubblico ministero voleva sapere qual era la procedura e con riferimento a queste persone coinvolte diciamo in relazione ai ruoli e ai gradi a chi sarebbe stato di competenza la competenza è dubbio cioè le vie sono due sono le vie canoniche l'ufficiale di polizia giudiziaria rileva il reato fa una notazione di polizia giudiziaria e la trasmette direttamente nel caso in cui sia invece riferisca o comunque sia da riferire a un suo superiore gerarchico il superiore gerarchico se viene a notizia viene notiziato di questo reato ha l'obbligo anche lui di va bene è stato chiaro senta questo le chiedo lei ha detto va bene le trasmettiamo in procura ha verificato se fossero state trasmesse poi fossero tutte ricomprese nell'elenco no erano ricomprese nell'elenco sicuramente nell'elenco che c'era poi materialmente se fossero all'interno degli allegati io non lo dico no sta se in qualche modo poi lasciando le valutazioni del caso eventualmente fosse stato almeno segnalata questa criticità che lei stesso ci ha appena confermato il colonel Sabatino le ha immediatamente rappresentato io francamente non la all'epoca non la segnalai alla procura personalmente non la segnalai sì ma nella nota firma del colonel Sabatino no fu scritto soltanto fu un allegato in cui c'erano le quattro annotazioni due prima e due dopo non ci fu scritto che si differenziavano l'un dall'altro ma sa per quale motivo ma perché ritengo che il colonel Sabatino ma cosa che si era giustamente mi ho visto ma non posso dirlo perché io faccio il comandante provinciale si era tenuto a quello che era la richiesta degli atti cioè trasmettere tutti gli atti si evitò qualsiasi tipo di valutazione nel merito delle questioni anche perché francamente ora mi chiede una cosa che io non so non so se il colonel Sabatino avesse fatto una valutazione delle annotazioni e queste annotazioni fossero state lette con attenzione per dire il perché della diversità lui mi disse che erano diverse e che probabilmente ne ha avuto cognizione poi da chi ha avuto cognizione e come ha avuto la cognizione io questo nemmeno glielo chiesi cioè lui mi disse ci sono queste annotazioni che hanno lo stesso contenuto e si differenziano in alcune parti benissimo mandiamole tutte questo è il mio ragionamento che ho fatto no no io le ho chiesto solo se lei sa per quale motivo non è stato segnalato no lo so non lo sa questa nota era redatta al colonel Sabatino comunque quella del 14-11-2015 firmata da lui sì senta lei ha detto poi al momento della consegna in procura di tutto questo picco che è andato io sono andato sicuramente mi sembra che c'era con me anche il colonel Sabatino l'avete consegnato nelle mani di chi noi siamo nell'ufficio del procuratore della repubblica ma con la situazione si è parlato vi siete limitati a consegnare no l'abbiamo consegnata poi abbiamo parlato di altro senta generale vorrei sapere sempre tornando facendo un passo indietro di 12 ore rispetto alla consegna del procuratore torniamo al momento in cui lei e il colonel Sabatino vi confrontate vi segnala tutte queste criticità lei dice qualcosa in merito al registro dello Spis no lei sa che poi c'è stato un problema su quel registro ricorda? si come no dopo da lì a qualche giorno mi arrivò una richiesta di acquisizione in originale del provvedimento e io lo affidai al comandante del reparto operativo che presi in originale il registro dello Spis e fu inviato in procura ma lei sa per quale motivo qual era la ragione che cosa è emerso allora guardi quando dopo diciamo nella fase successiva diciamo dopo nella seconda acquisizione mi dissero che c'era stato uno sbianchettamento su alcune in più parti del e fu probabilmente uno sbianchettamento che doveva essere analizzato con più attenzione perché non si capiva il nome che fosse stato messo sotto lì ma questo quando è stato detto da chi? no no allora mi fu detto soltanto e lo ripeto nella fase successiva nell'acquisizione quando fu acquisito in originale mi fu detto che il registro dello Spis veniva acquisito in originale perché vi erano delle parti sbianchettate e io questo ho detto vabbè acquisiamolo subito mi sembra che fu acquisito dal comandante del reparto operativo in persona non vorrei dire cose che non ricordo ma non risulta dal capitano testarmare però sicuramente lo trasmissi io mi ricordo e diciamo possiamo dare per facilito che è un dato provato a voi è stata richiesta con riferimento al registro dello Spis di acquisizione di tutto il registro dello Spis o con riferimento ad alcune date in particolare se se lo ricorda francamente non ricordo però penso che fu acquisito tutto quanto il registro no perché mi correga la difesa se sbaglio ma vado a memoria in quella richiesta consegnata a mano dal procuratore del Pignatone che si chiedeva di acquisire in originario o in copia il registro del fotosegnalamento con particolare riferimento della compagnia casilina con particolare riferimento delle giornate del 15 e 16 ottobre 2009 tanto è vero che voi ci trasmettete la fotocopia di quelle parti ma questo è la prima volta la prima volta la domanda che le faccio è questa io pensavo la seconda volta quando c'è stata l'acquisizione originale francamente non so se acquisimmo tutto il registro e lo portammo in originale tutto la domanda mia mi sono spiegato male evidentemente è antecedente cioè noi vi chiediamo il 15 e il 16 ottobre 2009 registro Spis della campagna casilina lei sapeva diciamo la rilevanza di quella data che non aveva capito che era la data dell'arresto di Cucchi ma non mi sono posto proprio io mi è stato chiesto l'acquisizione di quell'alto io quell'alto lo lo fu 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 consegnato da parte del personale della compagnia casilina era nell'allegato io ho trasmesso quello che mi sono soltanto accertato che quell'alto ci fosse e quell'alto c'era ok e poi quando è stato acquisito il registro Spis in originale qualcuno lei lo ha visto intanto no non lo vedi nemmeno l'altra volta però quando fu acquisito in originale credo il colonnello Donnarumma mi disse stiamo acquisendo in originale su richiesta della procura ma la richiesta arrivò a me arrivò personalmente non è che e io la diede al colonnello Donnarumma e il colonnello Donnarumma ora francamente basterebbe vedere gli atti perché l'ho firmata io non mi ricordo se delegò testa armata chi delegò lo acquisì quando gli disse c'è un registro pieno di sbianchettature e questo è il motivo per cui è stato fatto beh mandiamo basta innanzitutto per precisare puoi spiegare al giudice chi è il colonnello Donnarumma ah il colonnello era il comandante del reparto operativo appena insediato diciamo il sostituto del colonnello Sabatino in pratica io ho sempre attenuto mi sono sempre attenuto alle disposizioni alle disposizioni dicevo che mi dovrò rivolgere al comandante del reparto operativo a lui mi ero rivolto senta ma in questa circostanza girate le sbianchettature sul registro ma restando alle date che vi erano state indicate nella richiesta originaria il colonnello Donnarumma le disse che si leggeva qualcosa sotto già non lo affrontammo il problema non lo affrontammo noi prendemmo il registro e lo consegniamo perché ripeto per noi qualsiasi attività in quell'epoca non doveva far altro che mettere nelle condizioni l'autorità giudiziaria di possedere tutti gli atti che erano i tenuti necessari per lo sviluppo dell'attività investigativa e questo faceva ma lei ma lei poi ha mai saputo se fosse facilmente rilevabile avendo quel registro in mano in una fase successiva sì ok cioè cosa ce lo dica cosa no quando da lì a qualche tempo circa una mesata arrivò una richiesta di notizie in merito a una divulgazione di stampa che in pratica faceva riferimento alla richiesta di incidente probatorio prodotto dall'autorità giudiziaria il comando generale con una lettera d'ordine del capo ufficio operazione chiese notizie in merito a questa vicenda perché era una cosa nuova nessuno sapeva nulla e quindi volevano sapere che cosa fosse successo in quell'epoca io anche per mia conoscenza perché francamente non ero molto non avevo cognizione dissi al al mio capo ufficio comando di fare una relazione sulla base degli atti e di tutte le attività svolte e anche sulla base della dell'incidente probatorio eh depositato tant'è che chiesi credo eh l'autorizzazione a trattare sotto il profilo amministrativo della richiesta incidente probatorio e in quel contesto mi capì il motivo per cui eh l'autorità giudiziaria aveva sequestrato il eh il registro dello SPIS e anche che sotto eh adesso non non vado però in pratica era stato cancellato con il bianchetto il nome Cucchi durante il fotosegnamento questo benissimo generale lei l'ha mai letta la richiesta di incidente probatorio della procura sì l'ho chiesta l'ha letta io ce l'ho qua poi farò una richiesta all'esito di questa discussione le leggo a pagina 48 di questa richiesta di incidente probatorio dell'11 dicembre 2015 c'è scritto tutta la parte relativa all'acquisizione in originale spiegato come è avvenuta e c'è scritto testualmente osservando in controluce la predetta annotazione è possibile leggere gran parte di quello che si era cercato di cancellare col bianchetto la data 16 ottobre 2009 nome e cognome del soggetto fotosegnalato Cucchi Stefano motivo del fotosegnalamento arresto nella parte relativa al comando precedente Appia e poi non si riesce a leggere le ragioni del mancato fotosegnalamento però scusa manca un pezzetto cioè che non si riesce a capire dice nella parte relativa identificativa il numero AFIS il numero cui i predetti numeri non sono indicati e compare la dicitura non fotosegnalato in quanto è quello che segue che non è comprensibile io sto cercando di andare al punto però diciamo diamo questi dati per buoni intanto quello è un dato documentale la domanda penso che fosse un altro a me interessa ovviamente la domanda visto che l'esame lo sto conducendo io va su un punto preciso in questa richiesta dell'incidente probatorio dell'11 dicembre 2015 quindi meno di un mese dopo che voi consegnate quegli atti e meno di due settimane dopo che voi consegnate l'originale c'è scritto osservando in controluce col bianchetto la cancellatura si può leggere che sotto c'è scritto che è stato cancellato il nome di Cucchi Stefano lei se la ricorda questa cosa? ma è scritta nell'incidente probatorio? certo io vorrei sapere se lo ricorda di averlo letto ha letto letto l'ho letto quando ho fatto la verifica certo generale quando ho fatto la verifica non c'è dubbio su questo allora la domanda che io vorrei capire vi è stata data tanta fiducia e lo confermo a quel punto lei nella qualità di comandante provinciale ha chiesto conto a qualcuno cioè se non a testa armata al comandante del reparto operativo di dire ma scusami testa armata avevamo pure responsabilizzato doveva essere presente doveva avere gli atti in mano come mi ha detto lei poco fa ma come ha fatto a non accorgersi di una cosa del genere lei ha mai chiesto conto a qualcuno ma guardi allora noi nella prima fase della nostra attività dovevamo riportare quello che c'era stato chiesto dalla procura e credo che questo abbiamo fatto quando gli atti vengono posti a disposizione della procura dalla procura fa gli accertamenti che ritiene necessari delegando l'ordine investigativo a quella deputata io quando lo vengo a sapere quando me ne accorgo in una fase successiva ovviamente perché non perché allora guardi se io non avessi letto la richiesta incidente probatorio non avessi letto probabilmente io me ne sarei accorto quando sarebbe stata pubblica la notizia perché non potevo sapere se il mio personale si fosse accorto meno di questa evidente come dice lei sbianchettatura io ritengo presumo che siccome l'autorità giudiziaria si era accorto di questa questione davo per scontato che le attività correlate fossero fatte bene poi io da comandante provinciale scusi voglio essere chiaro non ho la competenza per andare a sindacare in quella fase in qualcosa che era ancora sotto indagine perché fino a quando le indagini non sono concluse io mi devo attenere ai fatti e agli atti non posso andare oltre avrei potuto lei dire chiamare il capitano testa armata e chiedergli tra l'altro io non ho avuto nessun rapporto col capitano testa armata per cui a che titolo avrei dovuto chiamarlo o chiamare un altro collega per chiedere conto e ragione di un fatto che probabilmente nemmeno loro si sono accorti quindi non capisco la sua domanda francamente cioè no io la rifaccio se non la capire evidentemente non sono stato chiaro no forse io non ho capito no ma sicuramente non sono stato chiaro io la domanda è questa lei in quel rapporto sul fatto che poi redige è una relazione quella notazione su cui le farò una serie di domande quella del 9 gennaio 2018 2016 a pagina 20 scrive la correzione apportata col bianchetto questa peraltro facilmente rilevabile quindi non è che lo dico solo io lo scrive anche lei che era facilmente rilevabile io non le sto chiedendo se lei si era reso conto che non era stato segnalato che non era stata fatta una comunicazione non è questo che attiene ad altro io le faccio una domanda che attiene invece alla sua posizione di soggetto posto al vertice del comando provinciale che riceve un incarico di particolare fiducia dal procuratore della Repubblica in persona che dimostra di aver compreso che si tratta di un incarico di fiducia e che fa parte di una struttura militare gerarchica come diciamo avete fatto si può dire che avete fatto una figuraccia in questa situazione o no guardi allora certo non è stato se ce ne fossimo accorto noi o comunque dopo sarebbe stato meglio la domanda era questa era cioè se io me ne fossi accorto la prima cosa che avrei fatto avrei io Salvatore Luongo sarei venuto qua a prescindere dai rapporti dall'attività io sono uno che si è abituato a assumersi responsabilità sarei venuto e dire guardate qua che c'è non capisco com'è la questione quindi io non me ne sono accorto me ne sono accorto lì e l'ho detto e l'ho riferito alla mia scala gerarchica non è che me la sono tenuta la questione se io avrei pure trasmettere quando si fanno questi referti che sono mere trasmissioni di atti interni che non hanno perché forse è stata un po' enfatizzata questa questione non è un'inchiesta sommaria non è un'inchiesta formale sono previsti da com le inchieste formali e le inchieste formali e sommali 552 seguenti purtroppo è il mio lavoro non si fa altro che riferire alla propria scala gerarchica di la ricostruzione del fatto storico e io non mi sono probabilmente anche essendo forse parlando anche troppo scrivendo troppo ho detto che era facilmente deducibile tra l'altro ho anche detto una cosa in quel contesto sottolineando l'errore ma un errore che scaturisce anche dalle modalità con cui veniva fatto il registro dello SPIS che doveva essere con una cronologia coincidente tra la manualità dell'aggiornamento del software e la manualità della cronologia questo comportava una serie di errori in buona fede in cattiva fede con sbianchettature anche in altri reparti tant'è che io lo segnalai e segnalai anche il fatto che secondo me la procura poteva anche acquisire altri SPIS perché ce ne erano molti nella zona che purtroppo facevano questi errori ci ho detto ritengo e ribadisco che se io me ne fossi accorto non avrei fatto questa figura di dirlo adesso che non me ne ho accorto non c'è dubbio che tutti pensiamo che lei non se ne fosse accorto non sto dicendo questo però sto dicendo visto che lei stesso mi conferma insomma che non è stata una bella figura e che voi fate parte di una struttura militare e che era stata adottata una modalità di acquisizione particolare proprio per responsabilizzare sia i reparti sia il capitano destarmato che doveva essere presente fisicamente non le sto facendo un appunto è una mia curiosità diciamo investigativa lei ha mai ha mai chiesto conto a qualcuno o ha mai chiesto qualcosa per dire ma com'è possibile che destarmata presente lì che come dice lei ha visto gli atti da prendere non se ne ha accorto l'ho chiesto a qualcuno sì o no me lo sono chiesto da solo va bene senta andiamo avanti e andiamo a questa annotazione del 9 gennaio 2016 lei c'era qui ne ha una copia altrimenti gliela fornisco io posso vedere se ce l'ho gliela fornisco generale io ce l'ho ce l'ho una copia per lei una copia per il giudice grazie pubblico ministero è già acquisita giudice però per comodità come sempre anche perché non stiamo portando qui tutti gli atti io porto sempre però sapere se ce l'ha una copia sua può essere interessante il giudice quindi magari chiediamogli lei ha portato con sé degli atti che riguardano la vicenda non lo sa eh no c'ho solo una richiesta di notizia no non ce l'ho questa non ce l'ha bene quindi gliela mette a disposizione il pubblico ministero scusi eh ma non l'ho portata l'ho portata io per lei allora una copia al tribunale una copia grazie allora innanzitutto vorrei capire la genesi di quest'atto lei perché lo redige le ha detto ho ricevuto una richiesta se può precisare da chi cosa le era stato rappresentato cosa le era stato chiesto eh arriva dal comando generale una richiesta a firma del capo ufficio operazioni eh circa eh delle notizie apparse sulla stampa che riguardavano eh il deposito della richiesta incidente probatorio in cui venivano evidenziate delle responsabilità a carico di alcuni militari dell'arma e veniva eh nel contesto della della richiesta eh richiesto appunto in sede di incidente probatorio una nuova una nuova perizia cioè io ho qui una richiesta del 12 dicembre 2015 il comando generale indirizzato al comando provinciale firmata ad ordine il capo ufficio eh coronello Marco Minicucci gliela esibisco immagino che le parti la conoscano e mi se mi conferma che è quella poi ne chiedo l'acquisizione sempre per il solito discorso è questa questa che dice in relazione agli articoli stampo di erni inerente alla morte e alla richiesta incidente probatorio avanzata della propria si spiega a fornire tramite giac urgenti approfondite notizie riferite anche alle verifiche a suo tempo effettuate questo ok allora generale mi spiega lei cioè come decide di operare come decide di redigere quest'atto quali criteri decide di adottare se si serve di un collaboratore allora quando arriva questa richiesta io chiamo nel mio ufficio il capo ufficio comando veramente la richiesta me la porta il capo ufficio comando che era? il colonnello Cavallo Francesco Cavallo me la porta il capo ufficio comando perché questa non la ricevevo io la riceveva all'ufficio come vedete è un ordine e mi chiede dice ma allora facciamo ho detto sì facciamo siccome come ho già detto io non avevo cognizione di tutto la vicenda ho detto vabbè prendiamo agli atti tutto quello che abbiamo agli atti nostri degli altri reparti vediamo un po' di studiarci la vicenda facciamo un po' una ricostruzione storica dei fatti perché noi non potevamo fare altro e dissi tant'è che l'ho riportato mi raccomando ci dobbiamo attenere agli atti che abbiamo in possesso e alle evidenze giudiziarie sennò notte e così il colonnello Cavallo cominciò a lavorare fu un lavoro credo abbastanza lungo perché la bozza la redigio del colonnello Cavallo sì la redigio della bozza ma è una bozza molto più complessa lunga io mi scusi vorrei capire se ho capito bene quello che ha già detto cioè lei dice al colonnello Cavallo se ho capito bene mi raccomando ogni cosa che scriviamo deve trovare una pezza d'appoggio negli atti nostri negli atti di ufficio cioè non è una cosa campata in aria dico tu fai una ricerca agli atti quello che ti riscontra agli atti lo dici tant'è che glielo dico anche in premessa nella relazione e poi io faccio le mie valutazioni faccio le mie precisazioni tanto questo è un atto interno io anche la genesi di questa carta comunque e arriva e io mi comporto in questo modo il colonnello Cavallo redige il rapporto lo redige perché è il suo compito il capo ufficio comando predispone gli atti a firma del comando provinciale specialmente il comandante provinciale quando il comandante provinciale si riferisce alla scala gerarchia lo dico prima perché come al solito io cerco mi auguro di essere stato sempre di assumere un ruolo sempre collaborativo e istituzionale perché questo è la mia stella polare questo atto io l'avrei potuto far firmare d'ordine dal colonnello Cavallo perché è un atto d'ordine e può essere firmato d'ordine ma siccome non era il mio costume fare questo io tutto ciò che usciva dal comando provinciale lo guardavo e lo firmavo generale mi scusi mi approfitto per fare una domanda per quella che è la sua esperienza quella era comunque una richiesta proveniente dalla scala gerarchica piuttosto delicata se ho capito bene perché vi chiedeva anche di sindacare se mi sembra di ricordare guardi se fosse stata più delicata non avrebbe avuto l'oggetto che ha cioè notizie apparse sulla stampa ma esattamente cosa vi chiede perché c'è scritto io adesso non ce l'ho più dato a dire io lo dico io si prega di fornire tramite gerarchio urgenti e approfondite notizie riferite anche alle verifiche che a suo tempo è effettuata lei forse riferisce a questo sì esatto quindi le si chiede anche insomma di fare un'indagine interna vostra no 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 non si poteva se l'avessero chiesto sarebbe stato irrituale e improponibile no questo è una forma abbastanza sinalagrammatica in pratica cioè per dire di fare tutte le verifiche uno riteneva di fatto ma come ho già detto questa è una mera attività interna non si può specialmente quando non sono più reparti alle proprie dipendenze non si può dire a un comandante provinciale di fare verifiche a suo tempo sulle questioni che lui non ha gestito perché sarebbe improprio comunque io la prendo per quella che era cioè una richiesta di notizie e mi do da fare infatti non faccio avrei potuto trasmettere tre righe ma faccio cerco di fare una relazione che chiarisca un po' la vicenda ma è normale che una richiesta del genere venga mandata d'ordine? se è una notizia apparsa dalla stampa sì sì va bene sì perché il livello allora qualunque attività svolta in un altro modo avrebbe avuto un altro canale non questo canale ok senta generale le chiedo per quello che da sua conoscenza insomma però è un test super qualificato il fotosegnalamento dell'arrestato è un atto obbligatorio? per me è un atto obbligatorio qualora non fosse obbligatorio si deve dare menzione del perché non si faccia ma per me è un atto assolutamente obbligatorio tra l'altro lo SPIS genera automaticamente un codice che si chiama CUI che fa riferimento alla persona fotosegnalata e serve appunto siccome l'unica cosa che rimane nel software è il CUI che collega la persona a colui che viene sottoposto al fotosegnalamento tant'è che tutto il resto il registro cronologico sono questioni che abbiamo fatto noi per comodità per renderci ma il vero dato sintomatico del fotosegnalamento è il CUI che rimane nella banca dati cioè se oggi viene fotosegnalato Salvatore Luongo e si genera il CUI il CUI rimane e un domani quando Salvatore Luongo viene rifotosegnalato inserendo il nome riesce il CUI ok è stato chiaro quindi è importante anche per ricostruire identificare i responsabili di fatti assolutamente io lo ritengo uno come il sopralluogo da un lato per le attività diciamo sugli accertamenti di polizia giudiziaria fatti sul posto del reato anche il fotosegnalamento fa parte di quella fase diciamo diagnostica che si svolge a posteriori diciamo dopo che le attività vengono svolte ok senta generale ma lei scusate di questa ma era giusto no no ma guardi a noi serve serve moltissimo è importante avere un test qualificato su questi aspetti vorrei sapere lei nel fare poi tutta questa attività ha avuto modo di confrontarsi di chiedere chiarimenti a qualcuno che ricopriva i posti apicali del comando provinciale del comando gruppo all'epoca per essere più chiaro il generale Tomasone il generale Casarsa no io questa cosa l'ho fatta da solo l'ha fatta da solo assolutamente da solo io certo lei mi conosce un poco poco dottor Musaro quindi sa che io queste cose le faccio con molta sbagliando probabilmente ma le faccio con molta riservatezza le faccio da solo io l'ho fatta io però nello cavallo ok vorrei capire perché a pagina 19 voi scrivete parlando degli accadimenti l'attenzione delle autorità giudiziarie della scala gerarchica dell'epoca fu dato per scontato scrivete che Cucchi non venne sottoposto a fotosegnalamento in quanto non ci fu menzione della specifica attività cioè vorrei capire voi da dove traete il dato che fu dato per scontato che non venne fotosegnalato visto che lei stesso mi dice che il fotosegnalamento è un atto obbligatorio no appunto forse non è stato chiaro noi abbiamo dato per scontato il fatto che non fu stato segnalato ma era obbligatorio fotosegnalarlo forse non mi sono spiegato bene cioè non fu fatto alcun accertamento per verificare il perché del non fotosegnalamento ho capito io questa osservazione l'ho fatta io al comando generale nessuno credo che prima di me l'avesse mai rilevata sulla scala io dissi guardate che i colleghi purtroppo non si sono resi conto che non è stato fotosegnalato questa è la mia la mia osservazione non si sono resi conto quindi questa è una sua considerazione eh sì io dico non è stato segnalato è un atto che risultava dagli atti che non era stato fotosegnalato da alcuni atti risultava che non se ne era stato segnalato per esempio il verbale d'arresto risultava fotosegnalato in altri atti non se ne dava vorrei sapere quindi questa è una sua deduzione no ma che risulta anche se non sbaglio non voglio essere anche nell'incidente probatorio si dà atto del mancato fotosegnalamento vi sembra che si dà atto del mancato fotosegnalamento ovviamente nell'incidente probatorio il generale diciamo la chiave di volta di tutto e l'accertamento fatto nel 2015 che nel 2009 non c'era stata la verifica sul fotosegnalamento ma come tante tante fasi nel 2009 che erano state fatte come io lo dico eh no no ma io vorrei sapere solo per vorrei capire quindi lei mi conferma la sua deduzione siccome dice fu dato per scontato sembra quasi che ne abbia si sia confrontato con qualcuno no è una sua deduzione la mia deduzione è sulla parte delle carte no no io dico guardate che lì a mio avviso non l'hanno fotosegnalato e questo fotosegnalamento non capisco perché non è stato verificato insomma ecco questo era il mio intento benissimo senta un'altra cosa che volevo chiedere a pagina 16 sempre di questo di questa annotazione lei fa riferimento alla riunione che ci fu all'epoca al comando provinciale se la ricorda questo aspetto è pagina 16 diciamo terzo capoverso i suddetti militari eh sì è sentito informalmente essendo in corso un'intervità indagine no vorrei capire lei o il colonnello Cavallo mi dica chi dei due in nota poi la nota numero 36 scrivete che la finalità di questa riunione era anche nell'ottica di appurare se le dichiarazioni rese al PM quindi come persone informate sui fatti fossero coerenti con il contenuto delle relazioni di servizio dagli stessi redatte ma questa è sempre una sua considerazione dove è questo passaggio è in nota nota 36 ma questa è una nota giusto per far capire probabilmente da quello che io francamente questa nota è soltanto una spiegazione che viene data nel merito del del fatto che all'epoca come risulta appunto anche dalla richiesta di incidente proprietario leggo adesso erano stati confogati e sentiti informalmente il personale ora anche questa nota che lei mi evidenzia qui è un credo e sono dovrei andare a verificare ora risulta da qualche annotazione o da qualche atto che era all'interno del fascicolo mi pare di capire che nel corso di quella riunione per quello che è scritto qui fu chiesto ai singoli militari cosa avessero dichiarato al PM in fase di indagine in un fascicolo che era in fase di indagine vorrei sapere io non sono in grado di dirle cosa sicuramente se c'è questa nota questa nota sicuramente fu messa perché agli atti agli atti c'era qualcosa che si rispone che portasse questa ma non ci fu ma c'è questa nota mi permetto se non giuro di ribadirlo soltanto per fare chiarezza altrimenti potrebbero soli questa è una nota che io faccio al mio comandante gerarchico e che ha il valore di mettere nelle condizioni il mio comandante gerarchico di sapere qualcosa in più rispetto a quello che si sapeva non solo ma la ricostruzione di per sé del fatto storico con qualche valutazione che di per sé premeva anche il mio comandante gerarchico di fare ulteriori valutazioni di pensare sul fatto di perché si poteva era cioè io con tutto il rispetto si no generale le spiego il senso della domanda il senso della domanda è questo in un fascicolo in fase di indagine le persone sentite come informate sui fatti hanno il divieto di riferire quello che hanno detto al pubblico ministero lei lo sa benissimo per cui questa cosa che è scritta in nota se fosse vera sarebbe molto grave quindi le chiedo si appoggia su qualcosa o è sempre una sua deduzione questa? no guardi questa è stata scritta così ora non ricordo ma era sicuramente una cosa che si appoggiava probabilmente su qualcosa ma è una conseguenzialità di un discorso quindi fa parte di un discorso conseguenziale va bene senta le chiedo adesso l'interpretazione autentica di un passaggio della pagina 20 ultima pagina proprio ultimo capoverso quando lei dice l'ipotesi della procura riguardante gli aspetti del registro delle persone sottoposte a fotosegnalamento se la puoi leggere se ci vuole spiegare ah sì qui non forse allora io scrivo l'ipotesi della procura relativa agli aspetti riguardanti il registro delle persone sottoposte a fotosegnalamento dovrà tuttavia tenere in considerazione che la correzione apportata con il bianchetto è sento peraltro chiaramente rilevabile e funzionare la necessità di associare il nominativo della persona fotosegnalata al numero di protocollo generato analicamente dal sistema SPIS sul registro risultano numerose altre correzioni allora qui io voglio dire questo e l'ho anche specificato questa procedura è errata perché la procedura secondo me è corretta ma non è disciplinata niente sarebbe mettere un un tracciato rosso sopra il nome è continuare però questa procedura che è di per sé corretta diventa difficoltosa da parte del personale perché e mi spiego perché il software che genera il numero che deve essere corrispondente al numero cronologico viene inserito manualmente allora cosa succede manualmente quando si inserisce manualmente nel registro di protocollo il personale invece di fare questa procedura sbianchettano e fanno una cosa sbagliata io non volevo entrare nel merito della questione Cucchi io volevo evidenziare alla mia scala gerarchia che era una procedura corretta scorretta e che andava in qualche modo trovata una soluzione e premevo anche il fatto che la procura avrebbe potuto per riscontrare questa anomalia che poi evidentemente non è stata notata perché probabilmente non c'era mi sono preso una diciamo una una licenza presumtiva presumiva che non esiste perché io pensavo che l'autorità giudiziaria si accorgesse di questa procedura anomala che è una procedura scorretta e che quindi bisognava a livello provinciale quanto meno ma a livello di tutti registrarla quindi era una valutazione che ho fatto alla mia scala gerarchia per evitare che si potessero fare altri errori del genere ma io qui non discuto assolutamente l'ipotesi né nulla è una questione che è relativa tecnicamente alle procedure relative alla registrazione dell'ospisso ok è stato chiaro va bene perché lo scritto non era chiarissimo assolutamente ecco vedete qui io me ne sono reso tant'è che dopo io parlai e questo ne sono sicuro perché ai miei durante una riunione ne parlai anche al comando generale in cui dissi che bisognava trovare una soluzione nel senso se uno va adesso non so più perché sono un po' fuori da tanto tempo ma subito dopo questo fatto andai tante compagnie adottano questa procedura che è una procedura sbagliata perché non si può ma loro si giustificano dicono se noi invece non adottiamo questa procedura nel registro cronologico ci troviamo a inserire un nome che è diverso rispetto a quello che è generato dal software manuale ma bisogna trovare una soluzione o si trova una soluzione o si modifica il software questo è la mia idea no no solo per capire generale oggi è stato chiaro no perché se uno legge qua il senso sembra la procura si è fatto un film è un atto assolutamente no come no no assolutamente senta generale sempre diciamo proseguendo con questa modalità le chiederei la gentilezza di andare a pagina 15 di questa notazione in cui lei scrive che Cucchi aveva accusato a tua sapienza un malore riconducibile ad un attacco di epilessia le chiederei di precisare questo sì come è un dato che non risulta da nessuna parte allora le spiego cerco di essere chiaro prescindere che non confedeva a me valutare lo stato di salute del signor Cucchi c'è una come dico anche qui una telefonata tra il militare di servizio della caserma e l'operatore di centrale che richiede l'intervento le permetto che a me serviva soltanto per ricostruire il fatto storico qui cioè il fatto storico è il signor Cucchi si trova presso le camere di sicurezza di Torsapienza e accusa un malore questo è il fatto storico che io dovevo ricostruire poi mi sono ho fatto questa ulteriore valutazione questa ulteriore diciamo osservazione perché dalla registrazione della telefonata che io appunto cito e dalla chiamata al 112 Colicchio riferisce dice venite subito perché il detenuto mi dice di soffrire di epilessia quindi io faccio questo collegamento ma un mero collegamento in natura assolutamente a mio avviso poco rilevante e dico è probabile che questo malore sia riconducibile a un attacco di epilessia ma assolutamente tra l'altro anche se voi vedete anche la scheda e questa me la ricordo bene del 118 la scheda del 118 riporta dice chiamato perché dice soggetto sofferente di epilessia quindi la mia è soltanto un ricollegamento ma io assolutamente non posso permettermi di dire se il signor Cucchi avesse sofferto meno di epilessia non era nelle mie quindi lei intendeva dire che era epilettico non che aveva avuto un attacco epilettico assolutamente ma questo non lo dico io può darsi pure che non era epilettico questo lo dicono il personale a cui il Cucchi aveva riferito di soffrire di epilessia però io lo darsi pure che la avevo nelle telefonate che cita lei quella 112 entrambi gli interrogatori e il colicchio quella 112 e quella 118 si parla di un soggetto che soffre di epilessia non che ha attacchi di epilessia anzi in quella 118 su domanda dell'operatore del 118 il colicchio dice esplicitamente però dice di soffrire di epilessia però sintomi apparenti di epilessia non ne ha siccome lei invece dice aveva accusato un maroio riconducibile ad attacchi di epilessia nel senso che soffriva potrebbe soffrire di epilessia come facevo a dire probabilmente non è chiaro infatti questa è la curiosità che poi però questo concetto lo ripeto anche un'altra volta a pagina 19 la valutazione è la stessa cioè io ritenevo perché ho fatto questo collegamento poi se non sbaglio me ne accorsi dopo anche in alcuni atti si parla di del fatto che il signor Cucchi potesse soffrire di epilessia ma che il fatto che lui soffra di epilessia io qui non avevo l'intenzione però il generale ovviamente è una persona molto intelligente capisce perfettamente una vicenda come quella dire o stabilire se il 118 era stato chiamato per un attacco di epilessia cambia completamente i termini della questione anche della questione che in quel momento era sottoposta alla sua attenzione capito questo è il senso della domanda perché lei a pagina 19 dice non è chiaro il motivo per cui il carabiniere Colicchio quando Cucchi ha avvertito uno stato di malessere all'interno delle Camere di Sicurezza non ha inteso telefonare al maresciato Mandolini come suggerito da Nicolardi ma ha contattato il 118 per il tramite della centrale operativa tale circostanza confermerebbe che il malore accusato dal Cucchi fosse attribuibile ad un attacco di epilessia di cui aveva dichiarato di soffrire ecco me la puoi spiegare meglio questa cosa perché secondo lei il collegamento fra il fatto che Colicchio non chiamò direttamente Mandolini e l'attacco di epilessia qual è? il problema è che secondo me Colicchio vedendo l'urgenza perché se fosse un attacco di epilessia l'epilessia quando c'è un attacco poteva anche degenerare si è preoccupato di chiedere subito l'intervento del centro mi sembra che non riesco a capire immediatamente l'intervento del 118 io agli atti non voglio ripetermi ho varie carte in cui si parla che il signor Cucchi soffriva di epilessia ora questo collegamento che io ho fatto riconducibile potrebbe ma sono solamente collegamenti secondo me che hanno io non posso che definire il quadro storico poi dopo le cose sono state in un altro modo ma io all'epoca non potevo no no ma io glielo chiedo perché quella richiesta che viene fatta tra le origini della richiesta di incidente probatorio lei mi conferma che ovviamente prima di mettersi a collazionare gli atti per scrivere un'annotazione ha letto la richiesta di incidente probatorio dico lei ricorda a pagina 38 della richiesta di incidente probatorio dove sono riportate le dichiarazioni di colicchio che spiega la ragione per cui chiamò il 118 se si faceva l'inverimento all'epilessia o meno se le ragioni erano altre cioè la domanda è questa sempre se l'ha fatto lei o cavallo io ancora non ho capito visto che avevate davanti la richiesta di incidente probatorio in cui erano compendiati tutti gli atti e c'era proprio l'interpretazione autentica di colicchio perché voi in due diversi passaggi tornate sul discorso che Cucchi e Tor Sapienza avuto un attacco di epilessia perché colicchio a pagina 38 della richiesta di incidente probatorio è molto chiaro sul punto se se lo ricorda no non lo ricordo però scusi io all'epoca fece soltanto un mero ricollegamento tra quello ora come dice lei chi ha scritto ma io me ne assumo la paternità perché l'ho firmato io però qui cioè né io né nessun altro poteva in quel momento storico fare delle affermazioni sullo stato della salute del signor Cucchi perché non aveva né condizione né gli elementi per farlo io riconduco a una questione ora se questo mio ricollegamento può essere più o meno corretto a me sembra le dico con franchezza corretto perché non parlo che era un attacco io dico è riconducibile potrebbe ma faccio delle ipotetiche questioni quindi non mi assumo la paternità di definire quel malore a che cosa potesse essere rilevato cioè da dove poteva divenire ecco questo beh no veramente invece si lo fa perché lo dice a pagina 15 a pagina 19 dice tale circostanza su cui adesso torneremo confermerebbe che il malore accusato dal Cucchi fosse attribuibile ad un attacco di epilessia ma gli ho spiegato qual era va bene va bene no io ci volevo solo capire un po' rimane senta vorrei capire un'altra cosa siccome lei dice Colicchio invece di chiamare Mandolini come gli aveva suggerito Nicolardi chiamo il 112 per poi chiamare il 118 dico ma la procedura di chiamare direttamente il maresciallo Mandolini sarebbe stata una procedura corretta o la procedura corretta è quella di chiamare il 112 no la procedura corretta era avvertire il comandante di stazione e questo è stato fatto 165 del regolamento generale di quale stazione era sua di torsapienzo qualora i detenuti sono di altre unità organizzative non spesso succedeva io non voglio giustificare niente che coloro che erano responsabili del detenuto si facessero anche un po' responsabili del diciamo del detenuto che era però la procedura prevista che Colicchio avrebbe dovuto avvisare il suo comandante di stazione del malore perché è la prima cosa che doveva fare poi eventualmente avvisare anche o il comandante di stazione avvisare il Mandolini o chi per lui che aveva proceduto all'arresto del signor Cucchi o di chiunque esso sia e poi se la cosa invece era veramente grave così come è apparsa avvisare la centrale operativa e il 118 io lo chiedo perché a pagina 35 su questo aspetto sono dedicate due pagine della richiesta di incendio probatorio che per questo processo rileva meno ma in quello in corte assisi era molto importante cioè volevamo dimostrare che il fatto che Mandolini avesse consegnato il bigliettino con il numero fatto consegnare il bigliettivo numero 2 fosse assolutamente anomalo e sono riportate le dichiarazioni di Colicchio di Sano Speranza Aristodemo Carfora Spinoso gli ultimi tre della stazione Appia i quali tutti concordamente dicono questa è una procedura assolutamente anomala non esiste che tu chiami il comandante della stazione Appia in una situazione del genere tu devi chiamare il 112 poi oggi aggiunge devi chiamare pure il tuo comandante di stazione e questo è un altro discorso io potrei sapere se dei se ne era reso conto di queste no ma guardi l'anomalia è perché probabilmente giustamente probabilmente sembrava che fosse una cosa anomala ma un responsabile in unità organizzativa si preoccupa delle attività che svolge ora che sia stato anomalo non anomalo io non discuto su questo sarà stato anomalo ma non vedo nemmeno credo che sia abbastanza io non entro nel merito della questione perché non mi compete io le dico come andrebbe fatto andrebbe fatto che il comandante della stazione che è responsabile delle gambe di sicurezza doveva essere informato e poi è lui che doveva verificare la questione e poi eventualmente se la cosa era così urgente anche il comandante da cui dipendevano il personale operato senta generale adesso vorrei andare alla questione delle doppie annotazioni di cui lei sicuramente se lo ricorderà pagina 12 lei dà atto di questa difformità tra le doppie annotazioni in nota riportando i passaggi diciamo diversi mi sembra che riporto testualmente la differenza tra le due annotazioni tra le quattro annotazioni allora innanzitutto lei scrive con riferimento alle annotazioni di servizio redatte dal carabiniere Colicchio una delle quali riporta il medesimo contenuto con toni in alcuni punti più moderati e comunque non rilevanti sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto fatto storico del fatto storico allora innanzitutto le chiedo cioè queste differenze che secondo lei non erano rilevanti sulla ricostruzione del fatto storico quali erano secondo lei perché scrive questa cosa perché allora il fatto storico era che il il Cucchi il signor Cucchi si trovava presso la stazione Torsapiense e che era stato vigilato da Colicchio e trasferito poi da Disano con la radiomobile quando io mi sono reso conto di questa difformità perché le ho lette ho detto per me sotto il profilo del fatto storico sono quelle e le ho riportate in nota non è che ho non ho fatto altro che prendere testualmente quello che era stato scritto e le ho riportate in nota per me in quel momento come le ho detto già erano due relazioni diverse tra l'altro scusate se queste relazioni riprendo un discorso che avevamo già affrontato prima si richiama mi sembra non so che pagina dell'incidente preparatorio il fatto che noi avevamo acquisite le relazioni e si dice che dall'analisi delle relazioni dei documenti veramente il tutto era particolarmente significativo quindi io davo per scontato che queste due relazioni sotto il profilo del fatto storico non avevano rilevanza particolare se l'avessi avuta io più che farla rilevare così come l'ho messa qui non mi sembra che dovessi fare altro no per capire siccome il fatto storico di cui stiamo parlando ovviamente è l'aggressione che aveva subito Stefano Cucchi e per la quale erano stati processati gli agenti della polizia penitenziaria anzi in quel momento erano quando scriverei quella notazione erano stati una richiesta di incidente probatorio vengono quindi quello è il fatto storico cioè il fatto storico non è Cucchi è passato o meno da Torsapienza qui in questa fase mi consenta dottore qui io io riporto alla mia scalagerà che è un fatto storico cioè il fatto che c'era il signor Cucchi a Torsapienza e che a Torsapienza durante l'attività di acquisizione degli atti erano state acquisite queste quattro notazioni io quando ne ho menzionato ne faccio riferimento e riferisco anche alla mia scalagerà la differenza tra l'una e l'altra cioè quando lei parla di diversa ricostruzione del fatto non si riferisce all'aggressione che aveva subito Cucchi no ma assolutamente no ho capito io non vado a sindacare qui ma se stiamo io dico soltanto guardate il signor Cucchi è stato alla stazione di Torsapienza il personale che l'ha vigilato nella notte è stato il Carabinio di Colicchio per una parte e il Carabinio di Sano per la parte successiva tutte e due hanno fatto delle annotazioni queste annotazioni si differenziano per alcuni punti alcune di queste sono molti diciamo che la maggior parte delle annotazioni erano simili si differenziamo in questi punti e io ve lo dico basta dico anche che queste annotazioni sono state trasmesse all'autorità giudiziaria perché io qua siamo nella fase in cui io dico attività di PG al comando provinciale e dico guardate saranno all'autorità giudiziaria basta non mi mi consenta io non mi metto a fare valutazioni che vanno sono oltremodo ma generale io le chiedo la sua interpretazione autentica perché altrimenti può sembrare che quelle difformità secondo la sua prospettiva ecco perché ero incuriosito potevo capire la ragione perché stiamo facendo un processo per questo dalla sua prospettiva quelle difformità non cambiavano la storia del processo lei invece mi sta dicendo che si riferiva ad altro ad altro io al fatto storico di per sé cioè al fatto che si trovava in quella condizione di detenuto signor Cucchi basta senta lei in nota nella nota diciamo 28 quella che riguarda Colicchio riporta come primo passaggio aver forti dolori al capo no? sì però il passaggio completo riferiva di avere forti dolori al capo non si era accorto di questa difformità guardi francamente non ricordo perché tanto le dichiarazioni erano legate ho messo riferiva ho messo così ma non non ci vuole essere cioè tra l'altro francamente le dico con franchezza e questo sono pronto non mi ricordo se dissi di riportarle in nota e poi dopo sicuramente dissi di portare in nota le differenze io scrissi di riportare in nota ora se l'ho scritto io la nota 29-28 ho scritto una francamente non mi ricordo ma lei nel fare questo generale le visionò o lo fece fare a cavallo no no allora in questa fase io le vidi le relazioni le vidi tutte e quattro ok tutte e quattro quella fase io le vidi mi può dare una mano le posso chiedere le esibisco le annotazioni allora aspetti prego sono diciamo quelle trasmesse alla stazione Appia io non l'ho detto ah nelle imputazioni per evitare polemico non l'avevo detto ok una firma di disano e una firma di colipi sono le prime annotazioni giudici diciamo quelle che eufemisticamente parlando vengono definite più dettagliate va bene vorrei sapere generale quel numero in basso a destra evidenziato in giallo cos'è? francamente non so non so se un numero di protocollo o qualcosa altro un riferimento non lo so è una cosa perché non c'è un riferimento specifico perché generalmente però stando stando all'istruzione sul carteggio quella dicitura numeratore denominatore trattino normalmente a cosa si assorna non è un numero di protocollo potrebbe essere un numero di protocollo sì però io francamente mi conferma che hanno hanno un progressivo diverso una è 211 una è 212 però una è di disano e l'altra è di colicchio è certo quindi è giusto no? credo di sì credo di sì perché questo è assolutamente sì benissimo adesso esibisco le altre diciamo quelle più generiche diciamo così sempre per carità di patria vorrei sapere per quello che confronto il numero di protocollo quello in basso a destra insomma per colicchio il numero è lo stesso? mi sembra lo stesso numero eh è quella di disano il numero è lo stesso? a quella di disano è lo stesso numero vorrei sapere la domanda è questa lei non si è mai reso conto di questa circostanza senza entrare nel merito del conto? no 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 vede io vi dirò la relazione il fatto che avessero anche questo tipo di protocollo uguale per me l'annotazione di servizio tra l'altro questo numero di protocollo io francamente non lo ricordo se lo dice lei ma io non me ne sono accorto va bene vorrei sapere solo se se ne è raccorto va bene grazie giocché chiedo l'acquisizione anche di questi atti senta pagina 13 della sua annotazione lei al centro cioè lei dice all'inizio gli accertamenti svolti per il tramite del gruppo Roma parla di quelli dell'epoca erano stati focalizzati con la finalità di costruire l'intera vicenda descrivendo dettagliatamente tutti i singoli passaggi in tale ottica dice alla fine venivano acquisiti poi dice tutta una serie di atti a un certo punto se ne riguarda il centro c'è scritto annotazione colicchio annotazione di sano ha visto? ok ok visto che lei utilizza il singolare in effetti è così è corretto quale annotazione colicchio e quale annotazione di sano? non ricordo quale ma può darsi io ho riportato una relazione l'elenco di una relazione che era agli atti non sono andato io queste relazioni le ho viste nella fase successiva qui io mi sono limitato a descrivere le annotazioni che erano state allegate quindi probabilmente qui ho riportato un testo perché erano attività fatte dall'epoca comandante di gruppo trasmesso al comandante provinciale l'atto con cui si faceva riferimento a queste relazioni ma lei non ha avuto la curiosità di dire vabbè visto che ho già dato atto che ce ne sono doppie sono doppie quali gli hanno trasmesso se lo ricorda no non l'ho fatto non l'ha visto senta lei risulta che queste annotazioni diciamo tutte e quattro no le doppie colicchio le doppie di sano fossero state visto che sono di Toro Sapienza fossero poi finite trasmesse in altri uffici guardi a memoria mi sembra che furono poi trasmesse a altri uffici e se non sbaglio furono trasmessi alla stazione Appia però vado a memoria non ho una perché è proprio in quella nota del colonnello Sabatino del 14 novembre 2015 quella che poi lei porta in procura con una sua nota all'allegato 70 c'è scritto nota del comando stazione di Toro Sapienza del 26 10 2009 a quella sono allegate le due annotazioni lei ricorda quali quali erano quelle formalmente trasmesse da non le vedi non sono andato a fare questo e poi all'allegato 75 c'è la nota del gruppo indirizzata al comando provinciale del 27 10 2009 in cui trasmettono sempre le note con il chiodisano quindi lei mi conferma non sa poi quali furono trasmessi no però so che se c'era una nota di trasmissione sicuramente furono trasmessi ora quale delle due sì certo sicuramente sono state trasmessi per lo sapere se lei sapeva quali delle due no no sa se poi il comando provinciale trasmise queste annotazioni ad altri uffici e se sì quali annotazioni tutte e quattro solo due il comando provinciale io no dell'epoca però risulta fra gli allegati alla sua annotazione se risulta sicuramente l'ho scritto ma io francamente non mi ricordo adesso se il comando provinciale dell'epoca li trasmessi a non so chi ma io francamente non non sono in grado perché come se lei guarda l'ultima pagina della sua annotazione c'è scritto allegato B lei indica tutti gli allegati gli allegati che furono messi nella sono 36 allegati esatto quelli utilizzati per la relazione no la relazione vedeva un po' tutti non tutti gli atti che sono allegati hanno fatto oggetto dell'esame della relazione cioè l'esame della relazione gli allegati erano una parte degli atti che abbiamo perché altrimenti si bisognava prendere il fascicolo e mandaglielo tutto sì certo però voglio dire quegli allegati almeno sicuramente non sono stati analizzati quelli non sono stati assolutamente l'allegato B è indicata una nota del comando provinciale allegato scusi B B di Bologna B sì una nota del comando provinciale notazione a un certo punto quindi la nota del 3010 2009 del comando provinciale a un certo punto c'è scritto annotazione colicchio annotazione di sano allegato 5 allegato 6 quindi sempre due anche all'epoca ne furono mandate rifaccio la solita domanda ha verificato quali delle doppie fossero state trasmesse no no però risulta pacificamente dagli allegati e vorrei sa a chi era indirizzata questa comunicazione del comando provinciale cioè a chi è che trasmette questo ma il comando provinciale e chi le trasmette francamente bisogna andare a vedere l'allegato che si vede che dall'allegato risulta che fu trasmesso al comando generale al comando interregionale Ohio e al comando legione ecco vorrei sapere se lei sa per quale ragione questi atti furono all'epoca queste annotazioni le due annotazioni furono trasmesse al comando generale all'Ohio direttamente al comando generale si e anche al comando legione però al comando legione all'Ohio per conoscenza al comando generale come primo indirizzo guardi presumo che ci fosse una richiesta al comando generale altrimenti sembra strano che fosse lei non sa se poi queste annotazioni furono state utilizzate in qualche modo se servisse un appunto per il ministro che conosce queste cose le sa io so che ci fu fatto un appunto per il ministro perché è emerso non mi ricordo in quale fase processuale però mi ricordo qualcosa io non l'ho non l'ho mai visto questo appunto cioè non ho visto l'appunto eventualmente fatto dal comando generale per il ministro va bene senta generale ultima domanda dopo questa sua annotazione sono stati più chiesti chiarimenti dalla scala gerarchica no mai io da quando sono andato via sono andato via a agosto del 2016 fino a quella data io non ho avuto nessun altro riscontro bene grazie io non ho altre domande giudice 5 minuti di pausa d'accordo 5 minuti anche lei ne ha bisogno anche il test va bene 5 minuti di pausa ma proprio 2 minuti possiamo riprendere allora un secondo consentiamo un attimo il test bene bene quindi allora possiamo riprendere la parola alle parti civili avvocato anselmo lei ha domande per il test solo un paio prego mantengo la parola senta il pubblico ministero lei ha già letto i passaggi dove lei si occupa e ricostruisce la vicenda riguardo al presunto attacco di epilessia diciamo la mia domanda è semplice perché lei ha ritenuto di diciamo porre l'attenzione su questo tema specifico cioè sul fatto dell'attacco di epilessia che avrebbe avuto Stefano Cucchi che poi ha spiegato che poi già il pubblico ministero ha fatto aspetta si capisce che lei sì perché io faccio difficoltà però mi conferma il fonico che è un problema per la registrazione allora faccio così provo a parlare così che così vado meglio sì così va sicuramente bene era perché magari se voleva conservare la mascherina non so se ne ha una chirurgica magari soltanto per parlare al microfono perché forse è proprio questa che è di plastica per quello che preferisco questa poi stannutisco mi guardano tutti male perché stannutisco e di vabbè in questo periodo è purtroppo è così un po' per tutti proviamo così va meglio dicevo il pubblico ministero già le ha contestato quel paio di passaggi su cui lei pone molto l'attenzione sul presunto attacco di pelessia rispetto alla sussistenza del quale è stato già chiarito e ha già risposto la mia domanda è questa lei ha chiarito i motivi per cui ha fatto questa nota del 9 gennaio le chiedo perché nella ricostruzione del fatto era così importante il fatto che Stefano Cucchi avesse avuto un attacco di epilessia al di là del fatto che questo era stato smentito poi dalle dichiarazioni di Colicchio non è non era importante non è assolutamente importante io ho solo fatto un collegamento motivazionale non c'era nessuna importanza avrei potuto dire qualsiasi altra cosa ma l'ho detto soltanto riferendomi come ho detto probabilmente non sono stato chiaro non sono riuscito a spiegarmi bene in relazione a poi Colicchio ha fatto le sue dichiarazioni però in relazione a quello che risultava agli atti e alla chiamata che era stata fatta al 112 e al 118 ma non avvocato forse non si voleva enfatizzare un malore o un malessere avuto dal signor Cucchi in quella situazione io ho solo voluto dire alla mia scala gerarchica cioè al mio superiore diretto guarda che è presumibile perché il signor Cucchi dichiarava poi se questo non è vero io di soffrire di epilessia è presumibile vista la situazione che potrebbe essere un malore riconducibile a questo ma basta non c'è una motivazione specifica ecco le chiedo questo lei me ne offre diciamo il modo ha parlato di un diciamo colloquio con un suo superiore su questo tema specifico è stato il mio superiore nell'interruzione nell'invio della della relazione io non ho mai parlato durante la relazione quando faccio la relazione io la faccio al mio superiore diretto quell'atto va dal mio superiore diretto ecco io volevo mettere il mio superiore diretto che probabilmente era anche lui in Gna di dire guarda secondo me ma è una mia valutazione assolutamente potrebbe essere riconducibile ad un attacco basta quindi lei non ha diciamo non ha avuto una sollecitazione sul tema specifico no assolutamente nessuno allora quella è una mera osservazione che ho fatto io nella compilazione dell'atto benissimo può essere però tra l'altro giustamente perché adesso nel processo si dà si dà rilevanza a quell'atto è un mero atto interno cioè si si ma ripeto la valenza di quell'atto poi dopo la discuteremo diciamo in udienza ci penso la giudicherà poi la riterrà poi il giudice la qualificerà sì sì assolutamente quello che volevo chiedere era appunto questa questione no no ho avuto nessuna sollecitazione a riguardo lei mi sembra che abbia già detto incidentalmente dopo aver redatto questo appunto del 9 gennaio lei ha seguito ancora gli sviluppi della vicenda Cucchi del processo Cucchi no no io da quel momento in poi non ho avuto non se ne cioè lei diciamo non ha avuto contezza del fatto che dieci mesi più tardi i periti nominati in quell'incidente provatorio parlarono di una possibile causa di morte per epilessia diciamo poi rimangiarsi al processo poi questa cosa io non proprio guardi io ricomincio a avere qualche cognizione quando inizia diciamo il processo ma io non io facevo altro non mi occupavo più di questo quindi non ha più parlato con nessuno né superiori né inferiori di questa vicenda specifica no no nemmeno di questo fatto che lei adesso mi dice cioè che cioè dieci mesi più tardi diciamo i periti depositarono una perizia non lo so ecco dieci mesi più tardi cosa succede dove diciamo parlavano di una morte probabile per epilessia sulla quale poi dopo si smentirono e tornarono lì dietro poi durante il dibattimento probabilmente io capisco signor giudice probabilmente il collegamento ma io assolutamente ma al di là dei collegamenti che più o meno può aver compreso ma diciamo insomma sì rispondere alla domanda non ho mai più parlato con nessuno solo per sapere esatto se ne avesse poi parlato con qualcuno grazie c'erano altre domande avvocato maccioni ha già preso sì solo una domanda non so se lo ha detto all'inizio volevo sapere dal generale attualmente che incarico ricopre io sono al ministero della difesa sono il capo ufficio legislativo del ministero della difesa grazie da che anno dal 2016 grazie bene e per l'avvocatura dello Stato l'avvocato non ha domande l'avvocato Gasperini non c'è per le difese Domenici Minichini Sant'Antonio nessuna domanda il partito tutela dei diritti dei militari nessuna allora sì soltanto una domanda di carattere inizialmente metodologico l'avvocato Murano partito difesa dei diritti dei militari parte civile come definirebbe non ricordo bene se poi l'ha specificato a seguito della domanda della domanda del PM e contestazione dell'avvocato Bonzano la natura della delega da lei ricevuta dalla procura la domanda in questi termini diciamo così non è ammissibile ma comunque ha detto già che non era ufficiale di voi spontaneamente ha più volte fatto riferimento al termine delega quindi insomma poi è ovvio che è una questione di valutazione io non ho capito la domanda non ha messa l'ho capito non ho capito la sua considerazione cioè lei ha sentito che il test ha fatto più volte riferimento al termine delega quando risentirà le trascrizioni è un dato ma comunque ho detto che comunque più volte richiesta diciamo delega mi ha scritto avrà detto alcune volte richiesta e altre volte avrà detto delega se poi ho compreso male quando rileggerò le trascrizioni come tutti prenderò atto che adesso ho un cattivo ricordo sostituisco io l'avvocato Gasperini mi chiede la collega se si può mettere a verbale chiedo scusa bene diamo atto che l'avvocato Gasperini è sostituita per giusta delega dall'avvocato Fabio Anselmo in ogni caso negli atti si parla di delega riservata adesso al di là dell'allocuzione della parola la domanda faccio avvocato la domanda ecco cosa vuol dire secondo il test delega riservata visto che era indirizzata al comandante provinciale proprio questo che essendo risolta al comandante provinciale è riservata di per sé è questo è un rapporto riservato tra me e il procuratore della Repubblica una richiesta di atti riservata io non cerchiamo di capirci io non è che raccontavo ai miei superiori le cose che dovevo fare le riferivo quando le cose si potevano dire perché questo era il mio modo di agire come leale collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria ma questo è tutta la mia vita 40 anni di servizio e oltre nei reparti più svariati d'Italia questo è sempre stato il mio rapporto con l'autorità giudiziaria riservato in questo in questo modo nel senso che il rapporto era tra me e il procuratore quando lei fa la sua relazione al comandante legione non ho sentito quando lei redige la sua relazione al comandante legione quella del 9 gennaio 2016 mette c'è in riferimento all'oggetto notizie apparse sulla stampa sì perché quella è la richiesta quindi c'era la richiesta da parte del comandante legione in relazione alle notizie apparse sulla stampa forse no non ha visto la richiesta è stato chiarito già anche nell'esame con il pubblico ministero gli ha mostrato qual era l'atto sulla base del quale poi lui ha redatto questa nota questa nota informativa del gennaio 2016 sì ok ecco nell'ambito del vorrei capire l'aspetto metodologico nella relazione non si dà atto mi pare della subdelega d'indagine sia nei confronti dei comandanti del reparto operativo e se sono avvicendati né delle subdeleghe c'è opposizione alla domanda con riferimento alla subdelega d'indagine perché implica una risposta diciamo insomma visto che non c'è una chiarezza su questo e quindi è una questione di valutazione diciamo che comunque come poi anche il pubblico ministero nella sua domanda ha parlato poi di richiesta di atti quindi di questa attività delegata poi ognuno poi la qualificherà come e il test e se gli dà una sua qualificazione lo farà spontaneamente non ho capito quindi voleva sapere per quale motivo non si metodologicamente in relazione a circolari a regolamento generale arma se è come dire normale che nella relazione al comandante legione non c'è l'indicazione di chi abbia materialmente operato nella subdelega che lei ha dato in quanto non era ufficiale di polizia quindi vuole sapere perché non è indicato giudice però c'è opposizione perché la domanda è nociva a pagina 11 si parla di verifiche eseguite dal nucleo investigativo quindi in realtà è stato dato atto della notazione a firma del generale all'esilo delle verifiche dice il pubblico ministero di questa nota del 9 gennaio 2016 sì esatto va bene e quindi fa riferimento il pubblico ministero fa riferimento al fatto che sia stato svolto dal nucleo investigativo va bene non ho altre domande grazie va bene prego i difensori in controesame l'avvocato carta sì sarà una domanda brevissima buongiorno generale buongiorno lei ha spiegato che con la nota del 9 gennaio 2016 aveva chiuso la questione non si era più occupato della vicenda sì ecco ma noi con le indagini difensive abbiamo ottenuto abbiamo chiesto variati c'è una nota a sua firma che le posso mostrare che è del 14 gennaio 2016 quindi diciamo cinque giorni dopo indirizzata io la faccio vedere indirizzata al gruppo Roma e alla compagnia Casina Montessacro con cui lei appunto chiede questi documenti giusto per collocarlo nella successione dei fatti chiede i fascicoli e dice che sono in atto delle verifiche amministrative posso mostrarlo al test facciamolo vedere alle altre parti poi lo facciamo vedere anche a me perché sono in atto posso rispondere no aspetti un atto scusa giudice solo per capire può ripetere cortesemente il collega qual è il documento del quale stiamo parlando io ho appuntato nota del 14 gennaio 2016 indirizzato al gruppo Roma con il quale vengono chiesti alcuni documenti perché c'era una verifica amministrativa mi pare sì però ma solo per capire la successione temporale così scusi non ho capito questo atto scusi avvocato carta non è del fascicolo del pubblico no come ho specificato anche a suo beneficio è un accesso agli atti formalissimo fatto con PEC tutto regolare non ho capito niente ha detto che ha fatto un accesso agli atti e lo ha avuto in questo modo sì sì non ha fatto un avviso di deposito questo volevo dire comunque l'orientamento del tribunale sul punto si è già pronunciato noi ne possiamo vedere un attimo non so se le altre parti lo vogliono vedere allora fatelo vedere prima i difensori così grazie 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 Un secondo perché non l'ho visto io nel frattempo. Le parti civili non l'hanno visto. Un secondo perché non l'hanno visto. Questo è perché il test prima ha risposto al difensore di parte civile che successivamente al 9 gennaio 2016 non si era più occupato della vicenda Cucchi. Invece qui c'è una richiesta di atti. Una richiesta successiva al 9, ma io ho detto prima, non mi ero più occupato fino a quando sono andato via, nel senso che sinquanto io ero in carica da comandante provinciale, quindi fino a agosto, le eventuali richieste da parte del comando generale dovevano pervenire a me o tramite gerarchio. Quindi questa richiesta qui che ora vedo non è altro che una richiesta per fare in modo che gli atti che avevamo visionati fossero ufficialmente tenuti presso il comando provinciale. Dopodiché questi atti che avevamo visionati io so che dal comando provinciale, ufficio comando, sono passati al comandante del reparto operativo. Quindi lei si è semplicemente limitato a dare corso ad una richiesta che era pervenuta? Era venuta nelle vie brevi, l'ho formalizzata perché altrimenti non avevano niente. L'ho formalizzata, lei quindi si è limitata a girarla a chi di dovere? Questa io non credo neanche l'abbia firmata, è una richiesta ai miei comandi dipendenti di formalizzare quello, probabilmente perché, lo so come può generarsi una cosa del genere, i comandanti ai vari livelli avranno detto vi siete portati gli atti, formalizzateci il fatto che noi l'abbiamo portati presso il comando provinciale. Era solo per ricostruire perché io leggo qua che al punto 2 i fascicoli in questione saranno trattenuti presso questo comando provinciale e restituiti al termine delle verifiche amministrative in corso. Siccome questa nota è del 14 gennaio e il protocollo è ben successivo, quello del 9 mi chiedevo, quindi successivamente al 9, al 14 c'erano verifiche in corso? Le verifiche erano da parte della scala giudizia? Scusa giudice, c'è opposizione, il test su questo mi pare che abbia già risposto, cioè ha spiegato che ha chiesto dopo di sanare... Evidentemente non era chiaro, glielo facciamo ribadire e poi... No, aspetta, non è questione di ribadire, siccome si parla di verifiche in corso al 14... L'ho detto ribadire perché effettivamente il test ha già risposto alla sua domanda, però lei sta insistendo perché vuole un chiarimento, la stiamo consentendo al test di dare ulteriore chiarimento, quindi non entriamo in polemica inutilmente. Posso? No, facciamo terminare l'avvocato Carta. Ah scusi, la domanda è questa. La domanda è questa, non ho capito allora qual è la domanda. Allora la domanda è quando il 14 si parla di verifiche in atto e si dice vi restituiamo i fascicoli successivamente, vuol dire che il 14 quando si scrive erano verifiche in atto, c'erano ancora verifiche in atto? Quindi vuole sapere quali erano le verifiche in atto? No, voglio sapere se erano ulteriori rispetto a quelle compendiate nella nota del 9 o se erano lo stesso, anche in considerazione... Eh vabbè, abbiamo capito, allora prego. Allora non erano ulteriori verifiche, era l'atto con cui non formalizzavamo la tenuta dei fascicoli al comando provinciale, in attesa di eventuali chiarimenti, integrazioni e tutto quanto che fossero arrivate dalla scala gerarchica, cosa che non è, almeno fino all'agosto non è mai arrivata, adesso mi viene il dubbio che fosse arrivato qualcosa dopo, ma fino all'agosto non fu arrivata, i fascicoli da quando io sono andato via erano ancora lì al comando provinciale, presso l'ufficio comando, poi sono passati presso il reparto operativo. Basta, questo so, questo vi dico. Ho chiarito? Va bene, grazie. Altre domande? Aspetti, non so se l'Avvocato Carta ha terminato. Chiedo scusa. Io ho terminato, mi scusi. Va bene. Prego, allora, Avvocato Brizzi. Grazie mille. Giudice generale, buongiorno, sono Lorenzo Brizzi ed assisto il colonnello Cavallo. L'esame del pubblico ministero è stato esauriente e lei puntualissimo, quindi ho veramente giusto qualche precisazione. Mi riferisco ovviamente alla relazione, quella del gennaio 2016. Lei sostanzialmente ha detto che ha partecipato alla stesura di questa relazione anche il colonnello Cavallo. Ha compreso bene? Sì, assolutamente sì. Scusi? No, 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 se l'ho interrotta chiedo scusa io, non ho sentito se... Lei mi chiede se il colonnello Cavallo ha partecipato alla stesura della relazione. Sì, come ho già spiegato, il colonnello Cavallo ha curato la predisposizione della relazione perché era una sua competenza. Solo lui poteva farla. Quindi il colonnello Cavallo ha redatto una prima bozza di questo lavoro che poi lei ha visionato, è corretto? Sì, assolutamente, lui ha fatto una bozza del lavoro. Prima ci siamo chiariti su come doveva essere fatto il lavoro. Dopodiché lui ha fatto una bozza. Io durante il periodo delle festività e natalizie, anche nei periodi molto tardi, l'ho vista, l'ho ricorretta, poi l'ho richiamato, abbiamo fatto delle valutazioni. Cose che, ordinarie, nel rapporto tra il capo ufficio comando e il comandante provinciale è nelle cose. Certo, la ringrazio. Senta, nel momento in cui lei ha dato, diciamo così, il mandato al colonnello Cavallo di redigere questo lavoro preparatorio, questa bozza, ha anche indicato quale attività in concreto avrebbe dovuto svolgere il colonnello? Mi spiego meglio e sono più specifico. Il colonnello avrebbe dovuto utilizzare solo documenti o eventualmente anche reperire informazioni? No, io gli dissi, guarda tutto quello che è agli atti. Tra l'altro il colonnello Cavallo è un ufficiale di una grossissima esperienza avendo fatto varie incariche. Guarda tutto quello che è agli atti. Prendiamo anche la richiesta di incidente probatorio, quelle evidenze che sono note. Sulla base di questo facciamo una relazione. Ma come dicevo, non voglio annoiare ancora il signor giudice e voi presenti. Era anche un momento conoscitivo per me, perché io non avevo cognizione di tutto quello che era successo. Quindi era un momento conoscitivo. Quindi gli dissi di fare questa attività. La ringrazio. Generale, sento un ulteriore quesito. Ha ricordato sempre a domanda del pubblico ministero la circostanza per cui date atto di questa discrasia nella doppia coppia di annotazioni Colicchio e Disano. Che lei ricordi, se lo ricorda, questa discrasia fu scritta materialmente per la prima volta da lei o dal colonnello Cavallo in questo lavoro preparatorio? Guardi, francamente non ricordo chi manualmente scrisse la prima parte e la seconda parte. Secondo me la scriviamo insieme, perché poi probabilmente lui l'aveva scritto in un modo, io l'avevo scritto in un altro. Però non ricordo francamente chi dei due avesse scritto la testualmente. Ma ricordo che la paternità l'ho firmata io. Certo, questo già l'ha specificato, solo per sapere, posto che c'è stato questo passaggio, lavoro preparatorio, revisione, nuovo passaggio all'origine. Vorrei, signor giuridico, per accedere una cosa. Noi ci siamo, il quadro giuridico e riferimento lo conoscevamo bene, anche le disposizioni, nel senso che il colonnello Cavallo cura la disposizione degli atti a firma del comandante provinciale. Cioè è un suo compito, non potevo non fare in modo che lui facesse quello che doveva fare. Ecco, questo volevo dire. Certo. Senta, e nel momento in cui vi siete confrontati la prima volta sul tipo di relazione che avreste dovuto svolgere, il Cavallo l'ha manifestato qualche timore rispetto a questa relazione? No, nessun timore. Un disagio nell'approcciarsi alla materia a Cucchi? Ma no, non mi sembra un disagio particolare. Le ha detto il colonnello Cavallo di aver avuto un coinvolgimento personale nella vicenda? E me lo accennò. No, mi accennò che quando era stato comandante, quando era al comando di gruppo conosceva la vicenda, ma non vedevo un particolare pathos. Mi sembrava assolutamente corretto e onesto nell'attività compilativa, diciamo. Non vedevo problemi, ecco. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Bene. Altre difese? Avvocato? Quindi, prego, Avvocato. Intanto, sono Adolfo Scalfati in difesa del colonnello Sabatino. Allora, Generale, a alcune di queste domande, anzi a diverse di queste domande, lei ha già risposto. È possibile che io gliele richieda per ottenere un ulteriore suffraggio, talvolta ripetita Juvent. Senta, ecco, mi vuole spiegare qual è la piramide funzionale dell'ufficio che lei comandava? Chi erano i soggetti e quali erano i ruoli? Allora, il mio era un comando, un comando provinciale cosiddetto complesso per l'arma dei carabinieri, perché sono cinque i comandi provinciali complessi nell'arma dei carabinieri e aveva al vertice, appunto, un generale di brigata, poi aveva delle unità organizzative alla propria dipendenza. Il capo ufficio comando che scurava tutta l'attività della predisposizione degli atti per le operazioni e la logistica. Scusi, per le operazioni? E la logistica. Sì. Poi aveva un comandante del reparto servizi magistratura, che dipendeva direttamente da me, che curava invece tutta l'attività connessa con la gestione delle aule giudiziarie e per l'attività correlata con le scorte. Poi avevamo tre gruppi, tre gruppi di cui due eletti da colonnello e il comandante del reparto operativo, che è il coordinatore delle attività operative nella provincia e opera a seguito degli indirizzi e delle direttive che vengono emanate dal comandante provinciale. Senta, ma c'era anche il cosiddetto gruppo Roma? Cioè c'era un... Gli ho detto... Gli scusi? No, sono io che... Sono io che forse non sono stato chiaro. No, sono io che non... Tre gruppi. Gruppo Roma. Li chiamo Gruppo Ostia e Gruppo Afrascati. Tre gruppi retti da colonnello. Il gruppo Roma era comandato dal colonnello Maestri all'epoca, se non ricordo male. Invece il reparto operativo era comandato dal colonnello Sabatino. Dal colonnello Sabatino, assolutamente sì. Ecco, senta, ma le stazioni e i comandi di compagnia presso i quali bisognava recuperare quella documentazione che è oggetto di questa benedetta richiesta, avevano come vertice il colonnello Sabatino o come vertice il colonnello Maestri? Il colonnello Maestri, non è chiaro. Aveva il colonnello Maestri. Ecco, allora, la prima domanda è, non sarebbe stato più semplice, ma questa è una mia curiosità, ma non sarebbe stato più semplice incaricare, visto che bisognava recuperare questa documentazione presso le compagnie che erano direttamente guidate da maestri, incaricare il colonnello Maestri anziché il colonnello Sabatino? Ma è una mia curiosità. No, no, ma è giustissima. Io però ho ritenuto di affidarlo al colonnello Sabatino perché appunto era terzo rispetto al comando di gruppo e quindi ritenevo che fosse meglio farlo proprio per una sorta di laicità dell'attività. Neutralità della condotta. Laicità e neutralità della condotta. E poi, devo dire la verità, anche perché io del colonnello Sabatino mi fidavo particolarmente sia come persona sia come professionista. Quindi era il mio braccio... Lei non ha avuto mai modo di andare al comando provinciale di Roma? Allora, se va al comando provinciale di Roma l'ufficio del comandante provinciale è qui, l'ufficio del comandante del reparto operativo è attaccato. C'è solo la sala riunioni che li si fa. Ma lei aveva avuto modo di stimare il colonnello Sabatino anche, immagino, per una serie di altri fatti, aspetti? Assolutamente, assolutamente. Lui è stato il comandante del nucleo investigativo prima. Sì, ma a prescindere dal ruolo, dico, c'erano fatti particolari che la inducevano a ritenere che il colonnello Sabatino... Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo svolto indagini in cui lui era sia da comandante del nucleo investigativo, sia quale coordinatore, era attore, era una persona assolutamente... Ma non lo dico solo io, eh. È pubblico questa cosa. È riconosciuto. Senta, ecco, ma aveva svolto indagini, aveva coordinato indagini che riguardavano anche sotto ufficiali dell'arma dei carabinieri? Personale del nucleo operativo. Personale del nucleo operativo, ho capito. Tra cui militari che hanno fatto servizio anche con me, che sono stati arrestati. Sono stati arrestati. In preganza. Molto bene, grazie. Senta, ecco, volevo chiedere un'altra cosa. Lei è in qualità di ufficiale generale dei carabinieri, è anche un ufficiale di polizia giudiziaria? No. Decato dalla funzione. Benissimo. Ecco, quindi lei non aveva il potere di effettuare atti e attività di polizia giudiziaria? No, atti polizia giudiziaria non potevano, non avevo la qualità. Molto bene. Sa questo, che esiste un riferimento normativo? Lo conosce? Sì, sì, è rimesso al COI. Mi sembra, ora... No, è l'articolo, glielo dico io, è l'articolo 178 del decreto legislativo numero 66 del 2010 che fa salva questa posizione. Sì, sì, 178. Va bene, d'accordo. Senta, volevo chiedere... Che richiama una norma già vigente, il 168... 178, che era una norma, certo, che richiama una... È riattivata nel Codice dell'Ordinamento Militario. Sì, assolutamente sì. Lei aveva ricevuto altre volte dall'autorità giudiziaria richieste di trasmissione di atti? Francamente, durante il mio periodo a Roma, non ricordo, mi è successo in altre sedi. In altre sedi? Assolutamente sì. A Milano, per esempio, ebbi la richiesta, però ero colonnello, ma comunque mi comportai nello stesso modo per acquisire degli atti importanti che riguardavano un collega. Va bene. Senta, ecco, volevo capire questo. C'è una previsione del Codice di Procedura Penale, che poi è integrata, che demanda alle singole amministrazioni il compito di individuare i servizi di polizia giudiziaria. Sì, allora mi sembra l'articolo 55 della disposizione di attuazione. E l'articolo 12 della disposizione di attuazione, va bene, ma i numeri contano poco, insomma, ma volevo soltanto rimetterle in mente questo profilo. No, 55 individuale sezione. Va bene, non stiamo facendo un esame di procedura penale. No, ma volevo... l'ho individuato soltanto per rimettere in mente... Sì, sì, certo, era il richiamo, perché mi dà adesso al di là del... Qual era la fonte normativa... Mi serve per un po' di ripetizione. No, no, ma qual era la fonte normativa di riferimento? Va bene. Lunga da me l'idea di svolgere altri ruoli in questa sede. Dicevo, ecco, lei ricorda che, proprio sulla base di questa disciplina, che rimette alle singole amministrazioni la individuazione dei servizi di polizia giudiziaria, ci sono delle circolari e dell'arma dei carabinieri che individuano i servizi di polizia giudiziaria. Ricorda questa disciplina? Io l'ho fotocopiata, ce l'ho con me. Guardi, sono ben individuati i servizi. I servizi sono provinciali, interprovinciali e locali. Sì, ma la domanda era questa, insomma, ad ottobre e novembre 2015 il comando provinciale di Roma dei carabinieri è un servizio di polizia giudiziaria? Il comando? Sì. Il comando no? Il comando di per sé no? Esatto, quindi lei non poteva essere nemmeno responsabile di un servizio di polizia giudiziaria. C'è posizione, giudice, su questo ha già risposto e ha chiarito come non può essere responsabile. È il capo del comando provinciale? No, mi dispiace, c'è una disciplina specifica. E' una disciplina specifica che io adesso esibirò, in base alla quale si capisce chi sono i responsabili del servizio di polizia giudiziaria. Può fare tutte le opposizioni che vuole, ma qui c'è una disciplina. Ecco la parte. Questa è la disciplina, ed è una disciplina, in realtà è una circolare, proprio sulla base di questo articolo 12 al quale facevo riferimento, che la prima di cui ho a disposizione ma che mi interessa è del 2000, la seconda è del 2006 e la terza è del 2016. Quindi ci sono una serie di circolari. Sì, ci sono una serie di circolari che sostanzialmente poi ribadiscono lo stesso principio. Io adesso la esibisco e la produco in modo tale da poterla fornire anche a altre parti. Facciamola vedere anche alle altre parti. Certo, come no. Allora, questa è, se la vuole guardare, è la disciplina. E questa... Al test. No, ma la cosa è quella che penso la conosco. Va bene. Ora... Ecco, in questa c'è una tabella, nella circolare del 21 dicembre 2016, c'è una tabella che stabilisce i servizi di polizia giudiziaria, stabilisce i reparti e stabilisce il responsabile del servizio. Nell'ambito della casella della competenza provinciale... Lei può seguire questa... C'è la disposizione? Sì, gli è stata data. Adesso non so se ha trovato la tabella alla quale lei sta facendo riferimento. No, è la prima. È quella vergogna... Il provinciale lei sta andando. Sì. Sì. Sono i servizi di polizia giudiziaria, la tabella che è legata alla circolare. Lei vede che c'è un servizio di polizia giudiziaria nel comando provinciale? No. Ha già risposto su questo, no? Sì. Il livello provinciale dice qual è il reparto. Sì, ma io sto parlando del responsabile del servizio di polizia giudiziaria. A livello provinciale dice chi è il responsabile. Esatto. E chi è il responsabile del servizio di polizia giudiziaria? Il nucleo investigativo di comando provinciale o gruppo. Ecco, il reparto operativo che era comandato dal colonnello Sabatino compare come responsabile del servizio di polizia giudiziaria? No. 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 Guardi, io volevo qui sfugare un dubbio, in verità. che si riferisce alla nomenclatura utilizzata da questa tabella. Se lei scorre l'altra tabella, non quella del 21 dicembre, ma quella immediatamente precedente, quella del 2006. ecco, a un certo punto individua tra i reparti che sono considerati servizi di polizia giudiziaria a livello provinciale il cosiddetto nucleo operativo di comando provinciale. Ecco, ma questo nucleo operativo di comando provinciale corrisponde a quello che noi chiamiamo nucleo investigativo? Sì, sì, certo. Si è spento il microfono. Quindi ripeto... Questa del 2006 fa riferimento al vecchio assetto ordinativo. Queste circolari, che credo siano di ufficio ordinamento, esatto, sono circolari che discendono dalla rivisitazione ordinativa dell'arma. Ogni volta che c'era la decisione vengono definite anche le competenze dei servizi di polizia giudiziaria. Qui si parla di reparto operativo e di nucleo operativo perché all'epoca i nucleo investigativi si chiamavano nucleo operativo. Ecco, questo è quello che volevo capire. Quindi, insomma, il nucleo investigativo si chiamava nucleo operativo. Poi io leggo anche, qui sempre in questa tabella della stessa data, cioè questa tabella che è allegata alla circolare del 2006, della stessa data, che invece a livello provinciale il reparto operativo di Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Messina e Catania, quindi non Roma, era un servizio di polizia giudiziaria. Lei lo conferma questo? Sì, perché i comandi provinciali di classe A invece avevano un'altra connotazione, un altro modo, una struttura completamente diversa. Come vede qui non c'è nemmeno Napoli, né Palermo, nemmeno Milano. Quindi esclude che il responsabile del reparto operativo provinciale fosse un responsabile del servizio di polizia giudiziaria? A normativa vigente non è il responsabile. Vigente e anche all'epoca nella quale stiamo occupando? Sì, assolutamente. Molto bene. Senta, volevo chiedere questo. La struttura interna del reparto operativo, visto che lei ci ha precisato prima che in realtà lavoravate a stretto contatto, come era composta? La struttura di uomini, di mezzi, come era composta? No, il reparto operativo non aveva struttura. Per concessione del comandante provinciale mi veniva concesso due marescialli che facevano attività di segreteria e gli autisti quando gli autisti erano disponibili. Perché spesso anche è successo in un altro comandante del reparto operativo che ci direvamo gli autisti, perché purtroppo questa era la situazione. Però, ovviamente, per tutte le sue attività, sia di raccordo, coordinamento e direzione, il comandante del reparto operativo, così è previsto alla job description, si può avvalere del personale dei nuclei dipendenti, testualmente. Dei nuclei dipendenti? Dei nuclei dipendenti. Ma questo vale anche per il gruppo Roma, insomma? Assolutamente. Vale per tutti i comandanti che sono presso la sede provinciale? È ovvio, però, siccome lui proprio, in pratica il comandante del reparto operativo, non aveva personale di attività di dipendenza, per qualsiasi attività, tant'è che qualsiasi cosa veniva transitata attraverso i nuclei informativi, i nuclei radiomobili e tutto il resto. Senta, volevo chiedere questo. Le arriva una richiesta atti da parte della Procura della Repubblica, sottoscritta dai dottori Pignatone e Musarò. Ecco, lei a un certo punto decide di incaricare, e ci ha spiegato le ragioni, il colonnello Sabatino, ma lo fa attraverso un atto scritto? Non avevo bisogno. Non ho capito, scusi. Non ne avevo bisogno. La norma consente di incaricare per un compito specifico l'ufficiale del comandante del reparto operativo. Quindi io affido verbalmente l'esecuzione della richiesta. Ecco, lei dice la norma, la norma consente di incaricare, cioè nel senso di svolgere le funzioni che lei affida a... Di affido, io affido al comandante del reparto operativo di svolgere quell'attività. E quindi sostanzialmente è come se lei, mi scusi per capire, è come se lei sta dicendo come se autorizzasse, delegasse il comandante del reparto operativo. Va bene. Quindi una delega sostanzialmente di un'attività che avrebbe dovuto svolgere lei, demandata al colonnello Sabatino. Un'attività che io oggettivamente non sarei stato in grado di poter svolgere. La richiesta è diretta a lei. E quindi è io che la richiesta è giusta che arrivi a me, ma io delego, affido questo compito al comandante del reparto operativo. Cosa che ho fatto anche prima e dopo. E dopo, certo. Ora, lei prima ha spiegato che nel momento in cui l'attività di acquisizione di questa documentazione era cessata, lei ha avuto un'interlocuzione con il colonnello Sabatino. Alla termine. Al termine, sì. Termine, sì, sì. Ecco, e non ha effettuato però un controllo relativo alla presenza di tutti gli atti che erano stati acquisiti. No, io, come ho già detto, fece un riscontro sulla base della richiesta pervenuta dalla procura della Repubblica e l'elenco dettagliato che era nella nota compilata dal colonnello Sabatino. Quindi si accertò in buona sostanza che ci fosse coincidenza tra i contenuti della richiesta formulata dalla procura e l'elenco degli atti, è così? Se ci fosse stato un qualsiasi problema, anche l'impossibilità di acquisire un documento, perché è cosa possibile, anche ogni cosa sarebbe, io credo che il colonnello Sabatino me l'avrebbe segnalato, che ha detto, guardi comandante, manca questo, io sarei andato a verificare, manca questo. Certo, certo. Quindi ha effettuato un riscontro tra i contenuti della richiesta atti della procura e la nota del colonnello Sabatino. All'epoca dei fatti di cui stiamo parlando, cioè nel fine 2015, lei era al corrente del fatto che sul procedimento penale che è indicato in cima alla richiesta che le è pervenuta, c'era una delega di indagini alla questura? Sì, allora, il tipo di delega non la conoscevo, però sapevo che c'era un'attività in corso da parte della questura perché ci pervenivano notifiche per escursione di testi o per altre cose, però io né nessuno mi ha informato, quindi né il collega della questura né tantomeno organi investigativi che tipo di indagini fosse... In termini generali, insomma. Sì, sapevo che c'era un'attività in corso. Un'attività in corso che riguardava la vicenda di Cucchi. La vicenda di Cucchi è del personale dell'arma dei grabini e guardavo le cose. E quindi non era a conoscenza dei particolari? No, assolutamente. Ma è il mio costume non intralciare l'attività degli altri. Esatto, ma era a conoscenza, come dire, dei particolari dell'attività investigativa in generale, indipendentemente da quello che stava facendo la questura? No, no, non era a conoscenza. Va bene. Era in grado, la risposta è credo discenda per l'irami, ma gliela faccio ugualmente la domanda, era in grado di capire, di percepire il rilievo investigativo dei singoli atti che furono chiesti a lei presso l'ufficio? No, al momento non ero in grado, assolutamente, di capire quale fosse la finalità di ogni atto e perché si chiedessero quegli atti. Erano stati chiesti, quindi giustamente noi dovevamo esibirli, quindi rapidamente. Va bene. La cosa più importante è farlo subito. Sì, certo. Ma mi pare che sia stato fatto molto rapidamente. Senta, e per caso ha avuto modo di parlare con il colonnello Sabatino sul fatto che lui conoscesse quale potesse essere la rilevanza di questa attività investigativa sbotta dalla Procura con riferimento a questa vicenda? No, noi non parliamo di questo. No. Avvocato, noi eravamo presi, ogni cosa per noi era la sua importanza e la sua priorità. Non c'erano questioni di priorità. Dovevamo fare questa acquisizione, dovevamo farla bene e dovevamo trasmettere gli atti. Quindi le mie disposizioni erano chiare. Facciamo le cose bene e rapido. Va bene, d'accordo. Senta, ecco, veniamo adesso a queste benedette doppie dichiarazioni, quelle doppie annotazioni di Coricchio e di Sano, insomma, per le quali stiamo celebrando questo processo. Il colonnello Sabatino lei ha riferito prima, dietro alla domanda del pubblico ministero, del resto lo aveva anche dichiarato, insomma. Le riferì della presenza di questa difformità? Della diversità, delle diversità tra le signore. Ecco, ma quando, insomma, Sabatino le riferì questa diversità, per la sua, come dire, esperienza anche di ex investigatore, ebbe la percezione, da elementi fattuali, che gli avesse dato peso a questa diversità? No. Lui non mi ha mai rappresentato un qualcosa che potesse far sorgere a me il dubbio che fosse una cosa talmente importante che bisognava approfondire. Mi ha detto, ci sono queste cose, le mandiamo alla G. Bene, stop. Quindi lei condivise in realtà questa scelta? Assolutamente. Di mandarle. Di imiarle e di non fare nessun approfondimento. Era un atto dovuto, cioè noi dovevamo trasmettere le annotazioni. Va bene. Senta, e quindi in buona sostanza immagino che anche questa sia una risposta scontata, la domanda forse altrettanto scontata, Sabatino non le parlò sicuramente di ipotesi di falso. Ma no, assolutamente. Se mi avesse parlato di una ipotesi di falso, perché tu avrei chiesto di che falso si parla, fai gli accertamenti per capire come mai è falso, e avrei messo in moto un'eterno. Ne avete più riparlato di questa faccenda qui? Purtroppo non ne abbiamo più parlato. Non ne avete più parlato, ho capito. Senta, e per caso Sabatino le fece intendere che il nucleo investigativo che aveva svolto indagini aveva rilevato ipotesi di falso? No, assolutamente. Senta, lei si ricorda se all'epoca in cui il colonnello Sabatino fu da lei onerato di questo compito era già in corso di trasferimento? Sì, il colonnello Sabatino aveva ricevuto il preavviso, non mi ricordo quando, come, ma era in corso di trasferimento, da lì a poco avrebbe lasciato il comando provinciale, tra l'altro, per essere chiari, perché io non nascondo le cose, una cosa che a me non andava a genio, perché io avrei credito che lui rimanesse al comando provinciale. Così non si è comprito, io almeno non ho capito. Allora, da lì il colonnello Sabatino già ha avuto il trasferimento del preavviso. Questo trasferimento a me non andava bene, però io posso poco, perché i trasferimenti non dipendono dal comandante provinciale, dipendono a scaggiare. Quindi lui da lì, perché avevamo una serie di cose da concludere, tipo il piano coordinato di controllo del territorio, il protocollo del radiomobile, che per noi era fondamentale, il radiomobile di Roma è continuamente sotto attenzione per le attività che svolgono. Dovevamo chiudere il collegamento al 112 con la sala operativa interconnessa. Tutte cose che il comandante e il reparto operativo da cui dipende la centrale operativa era impegnato. Per cui questo trasferimento a me non faceva piacere, francamente. Volevo chiedere questo, ma durante questa attività, diciamo gli ultimi tempi della presenza del colonnello Sabatino, lì che coincidono con questa attività di acquisizione documentale della quale stiamo parlando, il colonnello Sabatino era impegnato in tutte queste cose delle quali lei ha appena parlato, cioè fu incaricato a redigere un piano per il controllo coordinato del territorio? Lo stavo dicendo prima, non solo era incaricato, ma faceva parte della Commissione. Sì, certo, ma questo lo impegnava molto, era un impegno gravoso? È un impegno molto gravoso. Molto significativo. Va bene. Senta, lei naturalmente non è un ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma è un pubblico ufficiale. Sono un pubblico ufficiale dell'esercizio delle mie funzioni. Non c'è dubbio, certo. è un esercizio delle sue funzioni. Tutti quelli che rivestono le mie funzioni. Anche adesso, nell'esercizio delle mie funzioni, io sono un pubblico ufficiale. Vabbè, adesso a prescindere da questa precisazione, insomma, comunque è un pubblico ufficiale l'esercizio delle sue funzioni. Lo era all'epoca, nel momento in cui stava svolgendo il ruolo di comandante provinciale. Ecco, ora, la domanda è questa. Torniamo su questo tema, mi dispiace, è necessario. Lei realizzò nel 2016 la famosa nota comunicazione su scala gerarchica e qui lei ha anche esaminato, no? Perché immagino che lei esaminò la documentazione. Anche se le fu allestita, diciamo, la bozza dal polonello. L'ho allestita, ma alcune cose le ho esaminate, sommariamente quelle che ho più o meno approfondite, ma quelle che dovevo approfondire le ho lette. Le ha lette. Ecco, e quindi anche queste annotazioni. Quattro annotazioni. Le lessi, come ha fatto il pubblico ministero, forse non mi sono accorto che c'era sotto un numero di protocollo in cui si indicavano. Adesso ci arriviamo, un attimo solo che ci arriviamo. Cerco di trovare... Ecco. Ecco, senta, lei scrive in questa annotazione, sono aspetti che io poi condivido, insomma, però io lo dico, scrive in questa annotazione a proposito dell'annotazione redatta da Colicchio, riporta il medesimo contenuto con toni in alcuni punti più moderati e dunque non rilevanti sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto. Questo è quello che lei dice. Fatto storico. Due annotazioni di servizio del carabiniere di Sano, entrambe molto simili. E sotto poi scrive anche, per correttezza, scrive anche... Ecco, quindi quando lei vide queste quattro annotazioni ebbe la percezione che si trattasse di un'ipotesi di reato? No, assolutamente no. Perché allora, insomma, aveva avuto la possibilità anche di osservare la identità del protocollo, insomma, diciamo, no? Perché aveva visto questa annotazione. Non me ne ero accorto che fosse dire che, però se fosse stato un falso me ne sarei accorto eventualmente o qualcuno mi avrebbe segnalato un falso e allora avrei dovuto procedere in modo diverso. E non c'è dubbio, che cosa avrebbe dovuto fare? Comunicare? Dovevo comunicare alla mia scala gerarchica il fatto. Sì. E chiedere l'autorizzazione eventualmente di informare l'autorità giudiziaria perché io non potevo farlo da solo. Chiedere l'autorizzazione perché era un atto che proveniva da richiesta del mio comando generale. Comunque, che cosa era un atto per me? Scusi, che cosa era un atto? È una procedura, è una sola procedura. Nel caso in cui io mi fossi reso conto di un falso ma nessuno mi disse che era falso. Ma questo è chiaro. E lei mi fa una domanda che io ve lo spiegato. Dopo aver guardato questa roba, se lei si fosse accorto che si trattava di ipotesi di falso... Di falso, avrei riferito alla mia scala gerarchica perché io dovevo riferire. E avrei fatto, avrei mandato, mandato, per esempio, al mio comandante del reparto operativo di trasmettere una nota in cui si riferiva che queste due a mio avviso erano false. ma è una mia valutazione. Mi scusi, sì certo, ma dico quindi anche quando lei redige questa comunicazione alla scala gerarchica lei doveva inviare al comandante del reparto operativo che allora era un'altra persona, non era più Sabatino. Sì, ma avrei potuto farlo anch'io. Ecco, avrebbe potuto farlo anche lei, cioè voglio dire, potrebbe comunicare l'autorità giudiziaria. Assolutamente. È un problema solo di procedure interne. Siccome le procedure interne vanno salvaguardate, se io, e siccome appunto il rapporto è generalmente tra ufficiale di polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, comunque in ogni caso il comandante del reparto provinciale, il comando provinciale che è un comando operativo, ha dei rapporti con l'autorità giudiziaria, in particolare con il procuratore della Repubblica e alcuni aggiunti, anzi tutti gli aggiunti, è ovvio che io non mi sarei assolutamente avuto un minuto di... avrei fatto una nota e l'avrei mandata all'autorità giudiziaria. Molto bene, quindi insomma in quel momento non valutò che si trattasse di ipotesi di falso. Molto bene. Senta, volevo chiedere questo, questa è una mia curiosità, ma nelle annotazioni di servizio c'è un numero di protocollo? Guardi, nelle annotazioni di servizio, adesso io ho visto questo, però tecnicamente non c'è la necessità di un numero di protocollo. ora se qui c'è perché fu messo, probabilmente qui c'è perché questo è un protocollo informatico, secondo me, però io non mi fate dire cose che non... No, 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 ma volevo sapere per la sua base... Questo è un protocollo informatico che va bene, non è che... Sì, no, no, ma scusi... qui si può fare o non si può fare, però... Nell'ambito della sua esperienza l'annotazione di servizio ha un protocollo? Cioè voglio dire, il profilo del protocollo è un aspetto rilevante dell'annotazione di servizio? Allora, sotto il profilo dell'istruzione del carteggio? No. Sotto il profilo, scusi? Dell'istruzione sul carteggio dell'arma, perché l'annotazione di servizio si fa sulla base delle disposizioni interne. Le disposizioni interne non prevedono che la... Almeno a memoria, ma sono convinto andrei a verificare, che l'annotazione di servizio porti un numero di protocollo. Infatti, se ne andiamo a guardare... Generalmente il numero di protocollo si fa sopra. Sì. Queste non hanno un numero di protocollo sopra. Perché sono stato sviato io nella mia valuta? Perché non ho guardato sotto. Sì, sì, ma voglio dire... Sì, però... Lei quando guarda un atto sulla base della sua esperienza, guarda un atto di persone che lavorano nel suo ambiente, guarderà gli aspetti fondamentali di quest'atto? Assolutamente. Appunto dico, quindi immagino che gli aspetti che lei non ritiene fondamentali, non li guarda. L'ho detto. Non ho altre domande, grazie. Va bene. La difesa, testa armata, domande? Sì, grazie. Io chiedo scusa, come il Tribunale sa, ho il Generale Luongo sia in controesame sia in esame diretto. Il Generale Luongo è stato finora precisissimo ed ha esaurito, diciamo, la più gran parte dei temi che io avrei voluto trattare. Tuttavia, diciamo, residua una parte, soprattutto quella che occupa il mio esame, che potrebbe non essere brevissima. Lo dico perché sono le 13.28, non so se il Tribunale ritiene di poter sospendere una... Insomma, tanto per intenderci, io credo di aver bisogno di 40-60 minuti. Questo è, diciamo, ragionevolmente il tempo che impiegherò. Diamo la parola agli altri difensori che in controesame non hanno fatto domande, non so se ne hanno. Difesa Casarsa, Decianni e Soligo non hanno domande. Va bene. Ma lei procede, insomma, in un'unica soluzione e a fare tutte le domande. Sì, è per questo che dicevo, cioè farei tutto in un'unica soluzione, se crede possiamo fare prima la pausa e poi... E allora, sì, facciamo una pausa di una ventina di minuti. Vabbè, diciamo, alle due riprendiamo, va bene? Grazie. Grazie. Sì, grazie, signor giudice. Io cercherò, se questo risponde, diciamo, alle desiderio del tribunale e soprattutto alle esigenze delle parti di mischiare sostanzialmente esame e controesame, fare tutto in un'unica soluzione. Buon pomeriggio, innanzitutto, sono l'avvocato Bonzano, difensore del Capitano Testarmato. Molto rapidamente, lei ha già risposto, prima al Pubblico Ministero, poi al Professor Scalfati, in ordine alla struttura gerarchica all'interno del Comando Provinciale. io vorrei, nei limiti del possibile, compatibilmente col suo ricordo, chiederle di abbinare incarichi a nomi. E partirei, se le parti me lo consentono, con una domanda suggestiva, ma tanto è documentale. Possiamo dire, innanzitutto, che a livello di Comando Provinciale ci troviamo di fronte ad un vertice e a due, diciamo, a un triangolo che ha un vertice nel comandante provinciale e i cui due cateti sono il reparto operativo da un lato e l'articolazione territoriale dall'altro. Più il reparto servizi magistratura. Prego. Più il reparto servizi magistratura e il capo ufficio comando. Sono quattro le leve, diciamo, che il comando... Quattro le leve. Perfetto. Restando alle due che a me interessano ai fini di questo processo, vale a dire l'articolazione del reparto operativo e quella invece delle articolazioni territoriali. È corretto dire che entrambe queste ramificazioni fanno capo comunque al comandante provinciale. È corretto. È corretto. Il comandante del reparto operativo riporta al comandante provinciale, i comandanti di gruppo, perché sono più gruppi, riportano al comandante provinciale. Perfetto. Se posso permettermi, allora partiamo da lei che era il comandante provinciale. Siamo nel novembre 2015, questo mi interessa sapere, e scendiamo cortesemente verso il... diciamo, la linea del reparto operativo. Quindi sotto a lei c'è... Il comandante del reparto operativo. Nella persona? Del colonnello Sabatino. Del colonnello Sabatino fino... Se se lo ricorda, fino a quando? Fino a metà novembre, super giù. Metà novembre del 2015, da quel momento in poi viene sostituito... Sostituito al colonnello Donnarumma. Perfetto. Che è l'altro collega. Sotto al comandante del reparto operativo. Sotto al comandante del reparto operativo ha tre nuclei alla dipendenza. Il nucleo investigativo, il nucleo informativo e il nucleo radiomobile. Ognuno con le sue specificità. Stando a quello sempre che mi interessa nell'ambito di questo procedimento, stiamo dunque sul nucleo investigativo che è rappresentato nel periodo di interesse da... All'epoca lo comandava nel momento di interesse il tenente colonnello D'Aloia. Tenente colonnello D'Aloia. Questo nucleo investigativo a sua volta è articolato in... In sezioni. In sezioni. In sezioni. Ricorda quale ruolo avesse il capitano testa armata... È il comandante della quarta sezione. È il comandante della quarta sezione. Dunque, nella sua retta, diciamo così, il capitano testa armata ha sopra di sé il tenente colonnello D'Aloia, il colonnello Sabatino, il generale Luongo. Sì, diciamo francamente a me non arriva nemmeno sotto il profilo della compilazione delle note caratteristiche. Questo lo immaginavo. Chiedo scusa, invece andiamo all'altra direttrice, cioè quella dell'articolazione territoriale. Invece, dall'altra parte abbiamo il comandante del gruppo che era il colonnello Maestri e i comandanti di compagnia, delle varie compagnie. A me interessano ovviamente i comandanti delle compagnie Casilina e Montesacro. Allora, il comandante della compagnia Casilina era il maggiore Grimaldi. Il comandante della compagnia Montesacro era il capitano Blanco. All'epoca. Sotto i comandanti delle compagnie vieno i comandanti di stazione. Troviamo i comandanti di stazione. Sì. Perfetto. E invece il comandante di nucleo operativo? Dipendono sempre dai comandanti di compagnia e svolgono, sono i responsabili dell'attività investigativa a livello locale. ricorda sempre all'epoca dei fatti quale rapporto vi fosse in particolare tra il comandante della compagnia Casilina forse l'ha detto prima nella persona Grimaldi del maggiore Grimaldi e chi fosse invece il comandante del nucleo operativo di Montesacro all'epoca. Sì, ma se lo vuole dire per competenza a me ai fini di questo processo non interessa perché non ci sono fatti che riguardano il nucleo operativo di Montesacro. Veniamo ai suoi rapporti con il capitano Testarmata all'epoca dei fatti cioè lei riceve la richiesta atti da parte della Procura della Repubblica a fine ottobre e evade questa richiesta adesso vado a spanna e poi gliele mostro ovviamente quindi sarò un po' più preciso mi sembra il 17 di dicembre in questo arco temporale di novembre chiedo scusa in questo arco temporale lei ha avuto incontri interlocuzioni colloqui contatti di qualsiasi tipo con il capitano Testarmata? No, mai. Prima di questo momento ha avuto incontri contatti colloqui con il capitano Testarmata che fossero quindi prima del 28 di ottobre colloqui incontri contatti di qualsiasi tipo con il capitano Testarmata che riguardassero direttamente o indirettamente la vicenda della morte di Stefano Cucchi? Sul Stefano Cucchi lei dice? No, mai mai dopo l'acquisizione quindi la produzione da parte sua nelle mani del procuratore della Repubblica del 17 di novembre lei ha più avuto rapporti diretti contatti colloqui di qualsiasi genere con il capitano Testarmata in ordine alla vicenda Cucchi? No, in ordine alla vicenda Cucchi e mi sembra che in ordine alla vicenda Cucchi no, assolutamente no, non so nemmeno se ci siamo visti forse durante le visite al reparti l'ho incontrato sicuramente ma per questa vicenda no. Bene senta un'altra precisazione lei ha spiegato in ragione di quali criteri ammesso in parzi chiarissimi si è rivolto al comandante del reparto operativo una volta investito di questa questione da parte della procura sa dire se lo sa ovviamente se ne ha avuto contezza se la scelta compiuta dal comandante del reparto operativo segnatamente quella di scegliere il capitano Testarmata come esecutore materiale di queste attività fosse una scelta di tipo personale o di tipo funzionale? la condividemmo io il colonnello Sabatino secondo me abbinammo le due cose funzionale e personale perché il capitano Testarmata era stato individuato da noi per svolgere alcune attività di indagine nei confronti come ho già detto di personale dell'arma sia fuori del reparto operativo ostia faccio un esempio sia all'interno del reparto operativo quindi secondo me il collegamento fu duplice sia personale perché riteniamo che fosse un ufficiale assolutamente capace e sia per il fatto che comandava la quarta sezione a cui avevamo fatto anche questa sorta di delega a noi diciamo ecco su questo le chiederei nei limiti del possibile per quello che lei ricorda di poter essere un minimo più preciso cioè in particolare la quarta sezione che lei ricordi di cosa si occupava di reati informatici e un'altra parte di reati ora francamente reati informatici e reati contro le vittime le categorie deboli diciamo in generale e poi però faceva altre attività che venivano delegate di porta in porta ecco le chiedo in particolare se le ricorda che quella quarta sezione all'epoca dei fatti facesse anche attività che riguardavano diciamo procedimenti a carico di appartenenti all'arma dei carabinieri assolutamente sì assolutamente sì ho detto in premessa forse non sono stato chiaro no no forse diciamo sono io che mi sono distratto pensavo no no lo faceva come no ecco e lei prima rispondendo alle domande credo del pubblico ministero ha fatto riferimento ad una vicenda che l'aveva diciamo coinvolta aveva coinvolto non lei ovviamente ma coinvolto persone che erano a lei vicine una vicenda penale se ho ben capito no no un'indagine che riguardava il nucleo operativo personale che poi abbiamo dovuto arrestare tra questo personale c'è la personale che io conoscevo per la mia precedente esperienza di servizio alla compagnia Trastevere tanto per essere chiaro questa cosa ovviamente per me fu una cosa che mi colpì moltissimo perché io conoscevo questo personale come personale assolutamente affidabile invece è stato un tradimento solo per capire se è questa la vicenda della quale stiamo parlando si tratta di una fonte aperta quella che le cito è il messaggero dell'11 febbraio del 2016 si dice in manette quattro militari spacciatori sotto ufficiali del nucleo investigativo in Venselci vendevano la droga sequestrata trattenevano parte dei guadagni dei pusher così quella senza a un certo punto c'è un virgolettato che vorrei capire se è suo dice amaro il commento del comandante provinciale salvatore luogo due punti aperte virgolette è una vicenda dolorosa ma dimostra che l'arma ha gli anticorpi per individuare chi viola la legge e il nostro codice deontologico in un contesto di connivenza sarebbe stato impossibile invece anche in questo caso il nucleo investigativo dimostra di essere una struttura solida e professionale se è stato francamente ma se è un virgolettato la mia dichiarazione comunque corrisponde più o meno a quello che lei pensava coincide assolutamente con il mio pensiero senta ricorda se questa attività di indagine fu svolta prevalentemente o anche dal capitano test armata no fu svolta prevalentemente dal capitano test armata e ricorda anche in quale periodo storico si colloca questa attività di indagine questo articolo dell'11 febbraio 2016 è un'indagine che fu lunga non fu un'indagine molto breve sicuramente parte da quando io arrivo al comando provinciale subito dopo insieme a altre insomma era un po' l'imprinting che avevo dato io al comando provinciale non tolleravo assolutamente situazioni del genere anche sospetti quindi per precisare la mia domanda era un'attività di indagine che lei ricordi che era in corso anche quando lei ricevette dalle mani del procuratore questa richiesta di acquisizione atti fino a ottobre del 2015 se la conclusione è quella sicuramente sì francamente l'abbocato non sono non riesco a essere preciso nelle date però sicuramente se quella è sicuramente sicuramente dunque generale fatte queste premesse vengo un po' più nel dettaglio alla vicenda che ci interessa più da vicino innanzitutto vorrei fugare il campo da ogni possibile equivoco circa i documenti io ho rinvenuto agli atti di questo procedimento quattro atti a sua firma che adesso le mostro ovviamente la nota del 16 novembre 2015 quella datata 16 novembre ma depositata il 17 novembre a mani del procuratore della repubblica per intenderci quella con cui lei dà seguito alla richiesta atti una nota del primo dicembre sempre per sintesi le dico che si tratta della nota con la quale lei trasmette l'acquisizione dell'originale del registro spis una nota del 14 dicembre sempre del 2015 con la quale trasmette gli originali dei cartellini del fotosegnalamento e poi ho rinvenuto il famoso non so appunto rapporto quello che sia annotazione che reca la data del 9 di gennaio 2016 ripeto per fugare ogni possibile equivoco quell'altra lettera che invece le ha fatto vedere prima l'avvocato carta che recava la data del 14 rotti rappresenta se ho ben capito la come dire l'accomodamento postumo di una procedura che si era già conclusa cioè lei aveva acquisito dai comandi interessati la documentazione che le era servita per redigere quell'appunto per il comando generale però non c'era una traccia documentale di questa acquisizione e quindi di questa acquisizione da traccia con questa richiesta postuma è corretto ho capito bene? è corretto tra l'altro come vede questa è tutta in procedura informatica non c'è nemmeno la mia firma comunque è corretto perché ricordo la questione la questione che i comandanti specialmente il comandante di gruppo tanto per essere chiari mi diceva vi siete presi i documenti ma non ho nulla agli atti e allora lo formalizziamo perfetto dunque partiamo dunque ve la mostro magari si tratta di atti che credo siano già stati più volte peraltro acquisiti al fascicolo del dibattimento signor Giudice ma comunque solo per comodità di consultazione io li esibisco ovviamente a testa ne ho fatte più copie si tratta della richiesta atti quella che dà origine a questa vicenda per intenderci quella del 28 ottobre 2015 e della risposta a questa richiesta atti datata 16 novembre 2015 a firma del generale Luongo e consegnata il 17 novembre 2015 io diciamo sì sì penso che poi già almeno sicuramente la richiesta atti c'è sicuramente insomma ok ormai l'abbiamo girata e rigirata in tutti i modi allora generale la prima domanda è questa prima della richiesta innanzitutto gli atti che le ho mostrato li riconosce cioè riconosce la richiesta come quella che ha ricevuto riservatamente a mani dal procuratore della repubblica e la risposta come la risposta a sua firma all'esito delle attività che vi erano state richieste perfetto prima di questa richiesta quella del 28 ottobre 2015 lei aveva mai avuto lei è dunque in qualità di comandante provinciale aveva mai avuto altre richieste di atti o comunque del compimento di una falsivoglia ulteriore attività relativa alla vicenda della morte di Stefano Cucchi prima di quella del 28 ottobre 2015 no non ne ebbe dalla procura nessuno senta sa dire chi stesse svolgendo le attività di indagine o meglio chi avesse svolto all'inizio le attività relative al procedimento al primo procedimento Cucchi per intenderci quello a carico degli agenti della polizia penitenziaria chiaramente non ricordo se fu il primo non mi ricordo se ci fu non credo non credo l'arma dei carabinieri però non mi sembra l'arma dei carabinieri sa dire invece chi stesse svolgendo se lo sa ovviamente nello stesso momento quello non lo ricordo perché non c'ero quindi non ci ho fatto non ho focalizzato questo attuale so chi perché lo svolgeva perché noi avevamo richieste dalla squadra mobile di come ho detto di o citare personale o notificare atti quindi era la squadra mobile di Roma va bene comunque c'è un dato documentale che sia la squadra mobile che aveva svolto anche le attività relative al primo procedimento non lo conosco cioè adesso può darsi sì però credevo sbagliando che forse una parte l'avremmo fatta anche noi quindi è sbagliato senta generale approfitto nei limiti del possibile della sua cortesia ma soprattutto della sua qualificata esperienza lei adesso ha fatto riferimento alla squadra mobile prima nel rispondere alle domande del pubblico ministero ha detto il comandante provinciale è un po' come l'omologo del questore in alcuni grandi realtà ecco se è possibile nei limiti in cui lei ne sia a conoscenza ovviamente in base alla sua esperienza se può farmi un parallelismo cioè se ho ben capito il questore è l'omologo del comandante provinciale a livello polizia di stato sì è corretto è corretto tant'è che siedono ambedue nel comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica questa è la domanda che l'avrei fatto subito dopo mi ha già risposto che lei sappia il questore ha o no una qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria no come il comandante provinciale anche lui non ha la qualifica anche sotto questo profilo c'è una sorta di identità ma è stato la razio della norma è questa cioè parificare i vertici delle due forze di polizia a competenza generale perfetto sotto al questore qual è l'ufficio che svolge l'attività investigativa assimilabile a quella del reparto operativo e segnatamente a quella del nucleo investigativo loro non hanno una struttura come la nostra è diversa la squadra mobile svolge un'attività investigativa che è paragonabile a quella del nucleo investigativo perché la squadra mobile è servizio di polizia giudiziaria perfetto quindi sotto il questore possiamo dire che c'è un'ulteriore omogeneità tra nucleo investigativo e squadra mobile si loro hanno un'altra organizzazione con l'ufficio di gabinetto che ha delle funzioni però sono cose diverse sono articolazioni simili ma diverse nelle competenze nella gerarchia e tutto il resto noi abbiamo la militarità che ci differenzia in relazione a questa vicenda Cucchi per quello che lei ha potuto verificare direttamente personalmente ha fatto una serie di attività che abbiamo sia pur sommariamente ricordato anche poc'anzi si è mai imbattuto in un atto a firma del questore no non penso a firma del questore mai almeno nei miei confronti quello che arrivava e che io visionavo perché è un obbligo del comandante provinciale noi siamo un po' diversi era della squadra mobile della squadra mobile quindi diciamo l'attività investigativa veniva svolta rispetto a questa vicenda dalla squadra mobile assolutamente sì senta lei si è chiesto forse qualche misura ha già risposto il pubblico ministero ha usato un termine che io diciamo credo di aver utilizzato già in occasione precedente cioè ha parlato di galateo istituzionale cioè si è domandato come mai soprattutto in che termini qualifica questo galateo istituzionale la procura rispetto ad una vicenda che aveva già un suo clamore mediatico piuttosto significativo no? sì era già uscito qualche notizia decide rispetto ad un'attività di indagine che era della squadra mobile lo era stata fin dall'inizio fin dal primo procedimento Cucchi decide proprio per il compimento di questa attività di rivolgersi all'arma dei carabinieri e non in termini astratti all'arma dei carabinieri ma al generale Salvatore Ruongo comandante provinciale dei carabinieri di Roma io ritengo come ho già detto per una duplice modalità e una duplice scusate motivazione la prima credo per una sorta di rapporto anche fiduciario nei confronti dello scrivente perché sino allora mai nessuno quindi credo neanche dopo nessuno mai si è posto il dubbio che in 40 anni di carriera ci fosse un'ombra e quindi anche per il rapporto personale che avevo con il procuratore Pignatone e poi anche secondo il mio modesto avviso quando si va a richiedere degli atti così dettagliati così specifici farlo fare al personale che sa dove sono gli atti a mio avviso ma è una mia valutazione non so se la procura avesse fatto questa valutazione era sicuramente più efficace perché si faceva più rapidamente e anche con la competenza del personale che sapeva dove andare questo penso solo questo questo lei lo dice come soluzione alternativa a diciamo al rivolgersi ad altri reparti dell'arma o a rivolgersi a chi? al comandante provinciale che era il responsabile a livello provinciale dell'arma ai carabinieri questa parte della risposta mi era chiarissima generale la ringrazio la mia richiesta era altra cioè volevo capire premesso che è chiarissima qual è la ragione che secondo lei induce la procura a rivolgersi al comando provinciale volevo capire questa maggiore efficacia questa maggiore rapidità immediatezza anche nel reperire gli atti è considerata maggiore rispetto all'alternativa di rivolgersi ad un altro comando dell'arma o all'alternativa di rivolgersi alla polizia di stato giudice mi chiedo scusa generale io faccio opposizione perché sono tre minuti buoni che si stanno chiedendo valutazioni poi valutate voi mi chiedo scusa giudice io ho fatto né più né meno che la domanda che ha fatto il pubblico ministero sul delateo istituzionale sul perché la procura lui sapesse per quale ragione la procura si fosse rivolta a lui piuttosto che ad altri segnatamente piuttosto che alla squadra mobile quella che è stata la sua considerazione su questo che altro voleva sapere non riesco volevo capire se questa differenza che lui ha colto era una differenza cioè io volevo capire se l'alternativa era rivolgersi ad un altro comando dell'arma o rivolgersi alla squadra mobile questo è il punto se lo sa se è in grado di rispondere a una cosa del genere perché ovviamente diversamente signor giudice così evitiamo qualsiasi tipo di polemica le risulta che si ha diciamo così risponda a regole in base alla sua quarantennale esperienza professionale che risponda ad una sorta di galateo istituzionale il cercare di evitare nel limite del possibile che attività tra virgolette di una certa consistenza di una certa invasività vengano svolte da un'altra forza di polizia nei locali gli altri cioè per intenderci che la polizia vada presso i carabinieri o viceversa per una sorta galateo istituzionale come dice lei tendenzialmente si opera in questo modo però questo non è una valutazione che non è di per sé questo è quello che risulta dalla prassi però non so se è questo il motivo per il quale è stato la richiesta è stata rivolta al comando provinciale senta la sua risposta alla domanda precedente mi ha stimolato un'altra domanda la do assolutamente per scontato scusi se indugio su alcune cose ma purtroppo dobbiamo cercare di scandagliare un po' tutto mi pare di capire che lei avesse un rapporto di conoscenza diretta personale col procuratore della repubblica ma certo quindi sapeva che lei era un generale dei carabinieri cioè la mia domanda è da escludersi che la procura della repubblica ignorasse che lei fosse privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ma queste sono considerazioni comunque no va bene considerazioni se lo conosce il procuratore sapeva quale fosse il suo grado generale il mio grado si era evidente portavo la stella però che non posso è appunto dunque nel momento in cui lei viene investito di questa richiesta atti le viene spiegato qual era l'obiettivo che si andava perseguendo cioè a cosa servivano gli atti che vi si chiedeva di acquisire mi fu solo detto di fare questa acquisizione nel più breve tempo possibile nel miglior modo possibile e basta tra l'altro quando mi fu data era in busta chiusa quindi no assolutamente ma credo che non non si potesse nemmeno credo non voglio dire cose che non posso accertare senti questa richiesta atti che lei ha ricevuto c'era indicata la possibilità di delegare a terzi di questa attività ce l'ha sotto gli occhi ce l'ho qui allora si dice si prega di trasmettere gli atti in originale è un copia è una richiesta atti non c'è scritto nulla però io davo per scontato che non è che l'avrei potuta fare io da solo questo l'ha spiegato bene prima assolutamente ragione cioè sarebbe stato praticamente impossibile è ovvio beh senta che lei sappia quali erano all'epoca dei fatti i rapporti tra il colonnello sabatino e la procura della repubblica provo a farla in termini forse più suggestivi ma al tempo stesso anche più diretti cioè era un ufficiale che collaborava abitualmente con la procura della repubblica aveva considerazione veniva invece considerato male veniva considerato un pessimo collaboratore un eccellente collaboratore non lo so da quanto mi risulta veniva considerato un buon collaboratore un ottimo ufficiale anzi un ottimo investigatore da quanto mi risulta bene 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 lei conferma di essere stato dunque il destino destinatario esclusivo nei rapporti arma dei carabinieri procura della repubblica di essere stato il destinatario esclusivo della richiesta del 28 ottobre del 2015 sì lo confermo ero io il destinatario scritto agli atti e conferma di essere stato lei l'ultimo a diciamo così dare riscontro a questa richiesta a redigere l'ultimo atto diciamo con il quale si chiude questo primo round dell'acquisizione chiamiamolo così questa prima fase dell'acquisizione è quello a sua firma del 16 ottobre consegnato nelle mani del procuratore della repubblica scusi del 16 novembre consegnato nelle mani del procuratore della repubblica io compilo faccio compilare perché non la feci io la nota di trasmissione della nota fatta dal colonnello sabbatino io personalmente sono andato al procuratore della repubblica c'era anche il colonnello sabbatino per altri motivi e consegnai il fascicolo con gli allegati quindi diciamo questa prima fase si apre con lei e si chiude con lei assolutamente in tutto questo le è stato mai chiesto da qualcuno il compimento diretto o indiretto di un'attività investigativa? scusi l'atto parla di richiestati deleghe investigativa in che senso? non capisco cioè non io quello che dovevo fare l'ho fatto attraverso le mie componenti organizzative quello che lei doveva fare per quello che lei legge per come soprattutto l'ha inteso all'epoca era un'attività di acquisizione atti o era un'attività investigativa e poi se crede magari giudice però c'è opposizione la domanda posta in termini così è nociva perché nell'ambito di un'attività investigativa rientra pacificamente anche l'acquisizione atti noi non giochiamo con le parole avvocato su diciamo insomma magari come ha inteso lui diciamo questa richiesta se lo so se crede diciamo c'è scritto effettivamente richiesta atti cioè dei dati ce li abbiamo se ci interessa sapere il test e come l'avesse intesa facciamo così questa la faccio in controesame signor giudice generale così diciamo giustamente rispondiamo rispondiamo alle esigenze del pubblico ministero lei a questa domanda in qualche misura ha già risposto alle 11.05 di questa mattina ha detto non avevamo compiti investigativi dovevamo solo mettere a disposizione gli atti conferma questa sua risposta è scritto è richiesta atti grazie la scelta di responsabilizzare sia i comandi dipendenti sia il capitano testa armata nella materiale esecuzione di questa attività che mi pare di capire sia stata prospettata dal colonnello Sabatino è stata da lei condivisa? si fu prospettata all'inizio dell'attività all'inizio e fu condivisa da me l'ha ritenuta diciamo così una procedura inusuale straordinaria irrituale conforme alla prassi una delle tante procedure che si eseguono per l'acquisizione degli atti più o meno usuale ma non vedevo nulla di strano anzi a mio modesto avviso responsabilizzava i comandanti di compagnia che erano i tenutari della documentazione e aveva il capitano testa armata che aveva questa funzione di garanzia che ci consentiva anche di essere celeri nell'acquisizione e anche abbastanza rapidi e a questo diciamo volevo venire lei diciamo nel motivare la sua attenzione rispetto a questa pratica dice un po' per una questione mia personale quindi volevo rispondere velocemente e volevo rispondere bene adesso ci ha appena detto la responsabilizzazione di testa armata era anche finalizzata a far presto mi è parso di capire prima che il ruolo di testa armata fosse quello di verificare la rispondenza tra richiesto dalla procura e prodotto dai comandi delle compagnie è corretto? lui aveva il compito di esibire la richiesta che era stata firmata a carico delle compagnie cioè la richiesta di arte doveva consegnarla e cercare contestualmente il meno rapido di fare in modo che l'acquisizione che veniva fatta dei comandanti di compagnia con lui presente fosse coerente con la richiesta fatta dalla procura lei ha inteso precisare adesso spontaneamente con lui presente era previsto prevedibile ipotizzabile che il capitano testa armata nella esecuzione di questa attività portasse la lettera e se ne andasse dicendo poi ci vediamo con calma mi venga a riprendere gli atti non era questo che avevamo inteso noi cioè voi esattamente quale procedura avevate ordinato perché di un ordine penso che si trattasse al capitano testa armata di allora quando il colonnello sabbatino mi disse quali erano le procedure mi disse che il capitano testa armata nel caso in cui avesse proceduto a questa attività perché all'epoca ancora non è avrebbe presenziato presenziato alle attività e questo era quello che io pensavo e che ritenevo che fosse fatto io sono d'accordo ma vale poco generare qualcun altro non la pensa così no non vale niente senta il reparto operativo per come era strada congegnata questa procedura il reparto operativo e se vuole ancora più nello specifico segnatamente il capitano testa armata che fisicamente è stato mandato lì a presenziare a fronte di questa attività avrebbe potuto secondo la procedura che voi avevate ideato rifiutare l'acquisizione di un qualche documento proveniente dai comandi interessati una domanda che francamente non ho capito bene noi dovevamo fare una cosa prendere quello che era scritto in questa richiesta formalizzarla per i comandi di compagnia sulla base della richiesta i comandi di compagnia e eventualmente dovevano produrre quei documenti e quei documenti devono fare oggetto di acquisizione e con gli atti documentali previsti poi portati all'attenzione della procura dell'acqua questa era l'attività cioè non è adesso non è finisca finisca generale era un'attività che la cosa importante è che questa attività venisse fatta come lo dicevo bene e accederebbe senta generale rispetto alle attività compiute dal capitano testa armata lei era il vertice il comandante provinciale ha ricevuto una qualsiasi doglianza da parte o dell'articolazione diciamo così reparto operativo nucleo investigativo eccetera o gruppo comandi di compagnia comandi stazione c'è stato qualcuno dell'una o dell'altra articolazione che le ha detto oh ma testa armata non si comporta bene non ha fatto bene e veloce come lei voleva insomma una qualche doglianza di qualsiasi natura no non mi arrivò nulla riguardo né dal comandante reparto operativo né dal comandante del gruppo né dal comandante del gruppo perché è il comandante del gruppo che doveva riferire sono i suoi riporti diretti diciamo i suoi diretti sottoposti senta veniamo un po' più nello specifico alle singole imputazioni che sono mosse al capitano testa armata fino adesso di questa imputazione si è parlato molto poco si è parlato di quella diciamo delle doppie annotazioni ma anche seguendo un ordine cronologico la prima attività che viene compiuta è quella del 4 novembre presso la compagnia casilina ok quindi adesso io le farò domande sulle attività compiute presso la compagnia casilina il giorno 4 novembre del 2015 lei innanzitutto sa rispetto a quella attività qual è l'imputazione che in questo processo è ascritta al capitano testa armata francamente non ho fatto attenzione al capo di imputazione del capitano testa armata francamente no va bene senta lei ha seguito direttamente o in diretta ma anche per interposta persona la celebrazione dei processi cucchi intendo dire sia questo sia quello dinanzi alla corte d'assise io non le ho seguiti né personalmente né per interposta persona ovviamente siccome sono un lettore anche io di giornali come tutti quanti qualche cosa ho letto ovviamente sui giornali anche sulle evidenze poi essendo anche un ufficiale dei carabinieri è normale che la mia attenzione su quello che dicono i giornali mi arriva uso tutti questi giorni di parole il generale non me la voglia semplicemente per chiederle se sa più o meno qual è l'ipotesi che rappresentano il maggiore Grimaldi e il tenente Berlingheri rispetto alle attività che sarebbero state compiute il 4 di novembre presso la compagnia Casilina devo essere franco se mi vuole ragguagliare perché io non ho capito se lui sa che cosa hanno riferito se lui sa qual è l'imputazione torniamo alla domanda fatta tra l'altra volta l'imputazione ha detto che non la conosce basta mi vado a vedere le carte e le guardo l'imputazione diciamo non ci ha prestato attenzione quindi non sa che cosa è scritto tanto è un dato del processo ve lo dico io veramente per summa capita il pubblico ministero mi correggerà e integrerà perché l'imputazione è a far suo ovviamente sostanzialmente proprio per summa capita il capitano testa armata risponde di favoreggiamento tra l'altro per non aver acquisito l'originale del registro Spis presso la compagnia Casilina già il 4 novembre del 2015 acquisizione alla quale era stato diciamo sollecitato stimolato dice il capo di imputazione da Grimaldi e Berlingheri questo è il fatto del quale ci occupiamo in questa vicenda allora questa vicenda la domanda qual è se io conoscevo questa questione di scusi allora le volevo dire in ragione del suo ruolo ripeto lei è il comandante provinciale ha mai ricevuto da Grimaldi e Berlingheri doglianze rispetto a questo fatto cioè Grimaldi e Berlingheri sono mai venuti da lei a dire generale ma guarda il 4 novembre è venuto da starmata e ha fatto questo allora se ci fosse stato questo problema il primo a cui loro sarebbero dovuti rivolgersi era il loro comandante di gruppo dopodiché il comandante di gruppo nel caso in cui avesse ritenuto mi avrebbe informato io non ho mai avuto segnalazioni di questo tipo lei ha detto il primo al quale il comandante di compagnia avrebbe dovuto rivolgersi ha usato questo verbo casualmente o in maniera voluta cioè il comandante della compagnia avrebbe dovuto o potuto no dovuto dovuto sarebbe stato un dovere del comandante della compagnia rivolgersi al suo comandante di gruppo per segnalare un fatto di questo tipo per segnalare qualsiasi questione che riguardava la sua compagnia qualsiasi difformità e discredito qualsiasi cosa era dovuta no no diciamo non qualsiasi rispetto a questa difformità che io le ho segnalato cioè Grimaldi che all'epoca peraltro era maggiore giusto? si era maggiore Testarmata era ed è tuttora lo conosce il grado era capitano capitano allora Grimaldi dice a Testarmata guarda prenditi l'originale del registro SPIS e Testarmata non lo prende questo fatto specifico Grimaldi avrebbe potuto o dovuto rappresentarlo al suo diretto superiore vale a dire al colonnello maestro allora se questo fatto però mi fate fare valutazioni sui fatti comunque io lo faccio no non è una questione cioè nel senso se lei ha avuto contezza diciamo che ci fosse stato un problema di questa natura allora signor giudice se ci fosse questo tipo di fatto nel caso in cui fosse avvenuto nella persona del comandante provinciale c'era qualcuno che gli avrebbe dovuto dire va bene il comandante di compagnia non si riporta al comandante provinciale si riporta al comandante di gruppo se c'è qualsiasi conflittualità tra il comandante di gruppo e il comandante del reparto operativo sono io come comandante a lei a me ok e a lei tutto questo non risulta alla sua domanda se io sapessi le dico che non sapevo se mi dice chi doveva eventualmente dirimere una questione di questo tipo era il comandante del gruppo era il comandante del reparto che poi nel caso in cui avessero avuto situazioni divergenti cosa che è possibile specialmente per esempio con radio mobile una cosa che tutti i giorni allora si sarebbero rivolti a me e questo vi ripeto ancora una volta la ringrazio per la precisazione ma mi era chiarissimo la mia domanda era un'altra così come il pubblico ministero le ha chiesto sulla base della sua quarantennale esperienza cosa avrebbero dovuto fare se si fossero accorti del falso io le sto dicendo non in astratto ma in concreto se Grimaldi avesse subito il rifiuto del capitano testa armata di acquisire l'originale del registro spisse cosa avrebbe potuto barra dovuto fare in base al regolamento dell'arma e alla sua quarantennale esperienza come ufficiale generale dei carabinieri partiamo dal regolamento avrebbe dovuto riferire al suo comandante diretto dovuto dovuto senta sempre secondo la sua esperienza quarantennale è mai capitato che un fatto di questa rilevanza non sia stato rappresentato ad un superiore gerarchico se dovessi fare mente delle mie esperienze ho esagerato nel chiederle ricordi chiedere se mi ricordo di un fatto di Taurianova che avvenne su per giù la stessa cosa se anche si fossero verificati episodi di questo tipo rappresenterebbero la regola o l'eccezione secondo la sua esperienza di non riferire al diretto superiore gerarchico però in questi termini ha detto che non c'è stata alcuna segnalazione di alcun genere e quale sarebbe stata l'iter che si sarebbe dovuto seguire nel caso contrario poi Grimaldi e Berlingheri sono testi certo proprio questo sa dire cortesemente in cosa consista la pratica delle novità nei rapporti tra comandante di compagnia e comandante di gruppo sì diciamo la mattina ogni mattina e talvolta anche il pomeriggio il comandante di compagnia riferisce delle novità riguardanti il giorno precedente cioè nell'arco di tempo tra diciamo dal pomeriggio fino alla mattina o di quello che era avvenuto nell'ambito della sua compagnia cioè il comandante della compagnia riferisce al comandante di gruppo e il comandante di gruppo talvolta riferisce al comandante provinciale e diciamo questa pratica mi interessa in particolare quella da compagnia a gruppo è una pratica opzionale è una pratica facoltativa diciamo così oppure è una prassi una prassi che si utilizza specialmente a Roma su tutti i comandi ora francamente se è un obbligo previsto da nostre disposizioni non mi so bene però è una prassi diciamo abbastanza utilizzata va bene senta generale io le farei vedere a questo punto la nota la richiesta trasmissione atti che proviene dalla procura della repubblica del 30 novembre 2015 e la sua risposta a questa richiesta del primo dicembre 2015 per intenderci adesso gliele mostro ovviamente per tutte le parti sono i fogli 941 e 943 del fascicolo del pubblico ministero comunque ne ho fatte più copie che adesso do al tribunale e do anche alle altre parti per intenderci è la richiesta di acquisizione dell'originale del registro spisse e la vostra diciamo le due righe con cui si dice eccovi l'originale del registro se il tribunale me lo consente per brevità io produrrei anche la nota successiva così faccio le domande direttamente su entrambe su entrambe va bene questa volta generale si tratta della richiesta che proviene dalla procura della repubblica il 7 dicembre 2015 con la quale si chiedono gli originali dei cartellini del fotosegnalamento ed altre informazioni e la risposta che va alla procura della repubblica sempre a sua firma 14 dicembre depositato 15 dicembre 2015 innanzitutto se riconosce questi atti generale la domanda è d'obbligo chiedo scusa il microfono il microfono va bene sono atti a mia firma che riguardano l'evasione di alcune richieste pervenute dall'autorità giudiziaria e riconosce anche le richieste alle quali si riferiscono le sue risposte ovviamente sì sì sono una che come vedo è arrivata il 30 e l'una l'abbiamo evasa subito non c'è qui l'annotazione del personale operante non mi ricordo chi che fece questa acquisizione comunque sicuramente personale del nucleo investigativo la prima che riguardava il registro delle persone sottoposte al fotosegnalamento che fu acquisito completamente tutto quanto e l'altra riguarda sempre una un'acquisizione che fu fatta alla compagnia casilina relativo ad alcuni cartellini segnaletici queste acquisizioni entrambe quelle di cui sta parlando sono state effettuate entrambe presso la compagnia casilina eh sì entrambe compagnia casilina e si sommano a quella del 4 novembre sì però io di quella del 4 novembre non avevo avuto cognizione se non dopo quando mi fu portata alla firma diciamo il 15 novembre il 15 novembre quindi quando le arrivano questi atti lei aveva già evaso la prima richiesta perché l'aveva del 16 di novembre assolutamente questo è un seguito questi sono acquisiti di originale allora il 16 di novembre c'era già stato un primo accesso a casilina che è del 4 di novembre sì il 30 novembre c'è una seconda richiesta di acquisire l'originale che riguarda sempre casilina che voi evadete il primo dicembre dopodiché c'è una terza richiesta che riguarda sempre casilina e sempre il fotosegnalamento sono tre sul fotosegnalamento che viene evasa a metà dicembre giusto su tagliatti io vi comportai allo stesso modo la diedi al comandante del reparto operativo questo volevo chiederle nel frattempo ci siamo detti prima il comandante del reparto operativo è cambiato è cambiato e questa volta dunque lei si rivolge al colonnello Donnarumma al colonnello Donnarumma c'è anche una richiesta qui del colonnello Donnarumma alla compagnia casilina perfetto quindi questa stessa procedura diciamo così la fa lei d'intesa con Donnarumma non più con Sabatino no che c'entra Sabatino non c'era non c'era più perfetto questo credo che nemmeno io dissi a Donnarumma lo chiamai in ufficio è arrivato questo fai acquisire questo documento perfetto sa dire può essere così cortese se non se lo ricorda lo può verificare sono atti che lei stesso ha trasmesso chi curò la terza attività cioè quella poi evasa il 14 dicembre quella con cui trasmette l'originale dei cartellini è scritto agli atti è il capitano Pessini e l'ha puntato farci piedi il capitano Pessini quindi ci abbiamo al comando provinciale che non c'è più Sabatino ma c'è Donnarumma e questa attività che viene fatta non più da testa armata questa specifica di metà dicembre ma viene fatta da Pessini sì giusto? beh rispetto a questo mutato quadro è la terza volta che personale del suo comando provinciale va presso la compagnia Casilina ad acquisire atti per la terza volta relative al registro Spis qualcuno le ha riferito di omissioni doglianze misfatti atteggiamenti sgarbati scortesi meno che corretti del capitano testa armata nelle precedenti occasioni? no dunque generale vengo molto rapidamente questo è un passaggio che ormai lei ha sviscerato in tutti i suoi aspetti quindi direi che davvero sarò rapidissimo sulla questione invece giorno seguente facciamo un piccolo passo indietro primo attività è quella del 4 novembre a Casilina il giorno seguente il capitano testa armata si reca alla compagnia Montesacro siamo al 5 di novembre le premetto avvocato giusto per se lei mi fa queste date io queste date le ho pensate tutte quante dopo è chiaro non è che controllavo passo per passo le attività vale tanto su questo richiedo soltanto una piccola precisazione per il resto ha già chiarito rispondendo alle domande del pubblico ministero e degli altri difensori se ho ben capito a un certo punto il colonnello Sabatino le rappresenta qualche piccola disfunzione nell'attività cioè mancava un memoriale mi sembra di ricordare c'era stato un allagamento ma le dice loro sono molto bravi riescono a raccogliere gli atti estraendoli dal sistema informatico alla fine dell'attività tutta l'attività questo mi viene riferito alla fine di tutto esatto però prima che lei vada dal procuratore è corretto? sì due giorni prima il tempo di fare la nota sì e le parla anche dell'esistenza di questa doppia coppia di annotazioni giusto? se ho ben capito se ho ben capito lei sa soltanto che hanno la stessa data del protocollo non si avvede in realtà non se ne avvederà neanche dopo dell'orario idem però io mi sono appuntato quello che lei ha detto ha detto che sostanzialmente avevano lo stesso contenuto ma si differenziavano in alcune parti è corretto? questo è il suo ricordo? mi disse che erano sostanzialmente uguali e si differenziavano avevano alcuni passi differenti quindi in buona sostanza lei capì che si trattava di due versioni dello stesso atto o di due atti diversi? no no allora avevo capito che si trattavano di due annotazioni che avevano lo stesso supergiù contenuto ma la genesi delle stesse io a quel tempo non sapevo nemmeno di che cosa si trattava cioè erano due annotazioni fatte dallo stesso carabiniero avendo la stessa data che avevano supergiù il contenuto uguale e si differenziavano in alcune parti io non sapevo se si trattavano poteva essere la qualunque in quell'occasione sì questo è chiarissimo generale volevo soltanto capire questa diciamo è la valutazione che lei fa dopo io volevo solo capire se lei avesse capito che si trattava comunque di due versioni dello stesso atto cioè non erano due atti uno del 10 uno del 20 no non avevo avuto questa condizione che si trattava se lo stesso atto avevo avuto la condizione che erano comunque due annotazioni fatte dallo stesso carabiniero carabiniere aventi la stessa data che erano dal contenuto assolutamente simili quindi presumevo che fossero la stessa cosa eh io di questo volevo avere conferma ovviamente lei ha spiegato prima non ne disponeva non le ha potute consultare non ha potuto fare alcun tipo di valutazione perché non ce l'aveva sotto gli occhi io mi ricordo mi venne in mente ma non voglio pensavo pure che una fosse la minuta dell'altra perché nella nostra organizzazione spesso si lascia la minuta agli atti quindi non gli ho dato peso ero contento che fossero state tutte acquisite e trasmesse le valutazioni si facevano dopo e chi le avrebbe fatte le valutazioni secondo quella che era la sua impostazione l'organo investigativo prego per me per me una volta date colui che aveva deputato a fare l'attività in Italia segnatamente chi era stato delegato io non eravamo i delegati a questo non ho capito non eravamo noi delegati a fare queste valutazioni e quindi nel caso di specie siccome le ho detto prima le indagini le faceva la squadra mobili l'organo investigativo di cui le parla qual è? scusi avvocato io non so se poi il pubblico ministero a chi abbia dato la delega a esaminare questi atti questo io non lo so l'avrebbe fatta la procura o soggetto delegato oppure eventualmente se qualcuno avesse chiesto a me di farle l'avrebbe fatta ai miei reparti chi era deputato a farle dopo se ve l'avessero chiesto dopo con un'altra richiesta assolutamente assolutamente sì o assolutamente no? noi non eravamo deputati a fare noi dovevamo fare una richiesta di atti io a mio avviso la nostra richiesta era mettere a disposizione quegli atti tra questi atti c'erano anche queste le abbiamo messe a disposizione bene senta prima il pubblico ministero le ha letto ah perché questo le stavo chiedendo prima cioè lei dice giustamente io non ne dispongo questo mi dice il colonnello Sabatino mi basso su quello che mi dice il colonnello Sabatino poi però finita questa attività cioè lei chiude la sua interlocuzione con la procura della repubblica ma avvia tra virgolette sollecitato dal comando generale invece una interlocuzione sempre tra virgolette passatemelo amministrativa con la sua amministrazione di appartenenza in sostanza si accinge a redigere quella annotazione quel rapporto lo chiami come crede che sarà depositato il 9 di gennaio del 2016 giusto? beh ci ha detto prima nel redigere quel documento nel redigere quell'atto invece diciamo le passano tra le mani queste doppie coppie di annotazioni e lei le valuta immagino lì mi rendo conto che si trattava della stessa lo dico lo scrivo entrambi molto simili e si differenziano in attimo le volevo innanzitutto chiedere lei si rende conto che si tratta della stessa doppia coppia di annotazioni di cui l'aveva parlato il colonnello Sabatino sì perché era ai raggiatti sì assolutamente sì allora adesso invece se mi dice quello che stava dicendo prima cioè una volta resi si contò di questo e ha avuto queste doppie coppie di annotazioni tra le mani che fa? io scrivo quello che vedo vedo che erano due annotazioni e le spiego torno a dire quello che mi è stato già chiesto poc'anzi dal pubblico ministero io in quella fase mi dovevo preoccupare di fotografare il fatto storico il fatto storico era quello che presso le camere di sicurezza della stazione Gabbien era stato ristretto il signor Cucchi e che aveva accusato un malore e da questo si vinceva da queste annotazioni io quindi vedo queste annotazioni scrivo perché lo scrivo lo riprendo passativamente il mio dico che per me si differenziavano soltanto in un passo ma in un modo assolutamente lieve e riporto per una per l'altra dico che erano molto simili e riporto testualmente le differenze in calce il signor pubblico ministero mi ha fatto notare che una piccola parte non era trascritta una piccola parte del mio riporto in nota non era riportato ma francamente non me ne ero accorto perché quando uno fa queste attività sono sono me le attività di drafting cioè uno riporta quello che è contenuto basta se posso signor giudice innanzitutto sempre poi per completezza e soprattutto per comodità di consultazione alla fine dell'udienza perché si possano allegare al verbale che l'ha già mostrato il pubblico ministero è l'ennesima copia dello stesso atto comunque io esibirei al test e produrrei al tribunale solo per poi l'allegazione al verbale sia la richiesta proveniente dal comando generale dell'arma dei carabinieri secondo reparto ufficio operazioni sia la nota del 9 gennaio a firma del generale Luongo ancora una volta doppia copia una per il tribunale una per il testimone per me io ce l'ho adesso ormai il difensore ha fatto le copie io già ce l'ho un'altra copia ecco rispetto al brano che lei correttamente ricordava poi però il pubblico ministero l'ha chiesto una precisazione lei ha detto no ma io mi riferivo al fatto storico cosa che in qualche misura ho ripetuto anche adesso che intende per riferirsi al fatto storico al fatto storico mi riferisco probabilmente non sono molto chiaro no no sono sicuramente no no sono io che forse non sono molto chiaro il fatto storico era riportare questa annotazione nel contesto di riferimento il contesto di riferimento è il signor Cucchi si trova presso la stazione di Torsapiense presso le camere di sicurezza accusa un malore punto questo è il fatto storico Di Sano dice che la prende e lo porta attraverso poi il giorno successivo per la traduzione questo è il fatto storico io questo riporto né più né meno io glielo chiedo perché con questo finisco di palesare tutti i miei limiti questa questa considerazione lei la sviluppa a pagina 12 del suo del suo atto diciamo dell'atto a sua firma siamo all'inizio di pagina 12 se lei discorre a ritroso il suo atto che è molto ben articolato strutturato anche dal punto di vista grafico a pagina 10 ci rendiamo conto che queste sue considerazioni hanno ad oggetto non quello che è successo nel 2009 ma attività di PG delegata al comando provinciale di Roma e contestuali verifiche dunque questa sua valutazione ha ad oggetto il fatto storico io diciamo non ha ad oggetto io registro e le chiedo di chiarirmi al riguardo nei limiti in cui è possibile ovviamente che questo suo riferimento al fatto che lei definisce fatto storico è come dire inserito nel paragrafo che riguarda l'attività di PG delegata al comando provinciale di Roma e contestuali verifiche le aggiungo solo per completezza dei riferimenti lei l'atto ce l'ha sotto gli occhi ma poi l'ha scritto lei quindi nessuno meglio di lei può darci lumi al riguardo che il fatto storico della detenzione nella camera di sicurezza eccetera a pagina 13 c'è il capitolo 5 che è rubricato verifiche effettuate all'epoca dei fatti sono due cose ma il problema è che leggendolo in modo perché lo costruisco qui perché qui è la prima volta che io effettivamente ho cognizione delle annotazioni di PG io le annotazioni di PG le ho cognizioni e le riporto qua costruendo il fatto storico perché io prima non le avevo proprio viste allora quando io ho cognizione effettiva quando l'autorità giudiziaria mi dice di andare a acquisire queste cose io dopo quando faccio l'esame da lì a 20 giorni un mese non mi ricordo perché io ne ho cognizione perché era tra gli atti che io ho trasmesso altrimenti io non me ne sarei nemmeno accorto perfetto ma quando lei ce l'ha tra le mani e se ne accorge dunque ne conosce l'esistenza le considera false? no cioè le considera di avere tra le mani un falso? no l'ho già specificato ho detto no se l'avessi avuto avrei agito in modo diverso ecco anche su questo vorrei chiedere un'ultimissima precisazione e poi su questo aspetto ho finito non la tormento più e mi scuso di aver approfittato della sua cortesia lei ha detto prima proprio su questo specifico tema se io Salvatore Luongo queste sono state le sue testuali parole credo di averle appuntate più o meno testualmente avessi avuto un sospetto sarei andato e avrei detto qui c'è qualcosa che non mi è chiaro assolutamente ecco queste sono state più o meno mi ricordo guardi quello che lei si ricorda benissimo ma siccome mi conosco e so se io avessi avuto il minimo sospetto che si trattava di relazioni false cioè qualcosa che mi portava a dire che potevano essere false io mi sarei alzato e l'avrei riferito ecco io volevo capire in che modo l'avrebbe detto questa è la mia domanda cattiva guardi la domanda cattiva io le rispondo subito avrei potuto tranquillamente alzarmi perché non è che andare in procura a riferire perché non vedo nulla di segnalare una stravaganza oppure avrei segnalato la questione cioè se nella mia testa fosse nato il dubbio che fossero state false non me lo sarei sicuramente tenuto va bene senta nel compiere queste sue valutazioni lei ha avuto un peso forse l'ha accennato prima ha avuto un peso anche la richiesta di incidente probatorio sì l'ho letta probabilmente l'ho legguta ancora meglio però l'ha lessi francamente alcuni passi che probabilmente mi gratificavano e quindi li lessi quelli che riguardavano l'acquisizione degli atti in cui fu detto che insomma io l'ho detto anche a verbale ero soddisfatto perché ritenevo che il comando Prigial avesse fatto la sua parte per fare in modo che fosse chiarita un po' la vicenda ritenevo che fosse fatta un'attività buona io lo riporto io nel corpo della nota io riporto per esempio se vuole glielo indico dei passi specifici dell'incidente probatorio in cui si rumeggia le responsabilità a carico delle persone oggetto della richiesta lo evidenzio anche in nero per farlo capire eventualmente a qualcuno che non leggeva e dico guardate che ci sono queste responsabilità che sono lumeggiate da parte dell'incidente probatorio non mi ricordo dove ci sono dei passi in cui verifio questa cosa comunque l'ho lessi chiedo scusa signor giudice io produrrei al testimone la copia integrale della richiesta di incidente probatorio che forse gli ha già esibito il pubblico ministero o sbaglio? no allora la produrrei in versione integrale al test ovviamente la produco per poi chiederne l'acquisizione anticipo che per parte mia ne chiederei l'acquisizione ovviamente in versione integrale per diciamo amore di gene processuale devo rappresentare che nella prima parte di questa annotazione sono contenute anche delle dichiarazioni rese da altri soggetti pure coinvolti in questo procedimento che non interessano la mia posizione ma è ovvio che non sono utilizzabili come prova in questo processo l'atto riguarda è semplicemente il fatto storico che c'è stata una richiesta fondata su certi elementi io mi sono anche premurato per la parte che invece di mio interesse sarebbe soltanto quella che va dalle pagine 44 alla pagina 49 che è totalmente priva di contenuti dichiarativi quindi una parte omissata di fare un estratto con gli omissis quindi ove non vi fosse il consenso di tutte le parti all'acquisizione della versione integrale chiederei comunque l'acquisizione della versione omissata che non contiene alcun riferimento dichiarativo eccezion fatta per le dichiarazioni di pagliuca il cui verbale di sommario e formazioni è stato già acquisito sull'accordo delle parti dunque pagliuca non deve essere sentito in questo dibattimento ok e si ok e guarda gli corti quella integrale grazie allora generale la prima domanda è questa se lei ricorda come ebbe la richiesta di incidente probatorio ha fatto una richiesta prego una richiesta al pubblico ministero ha fatto una richiesta al pubblico ministero della richiesta di incidente probatorio ai fini amministrativi io lo chiedo perché se è sicuro di questo io sono sicuro perché mi sembra che lo si si ma quando glielo chiese scusi perché vedo che nella nota che le hanno dato la richiesta che le pervenne dal comando generale reparto ufficio operazioni oggetto notizie apparse sulla stampa in base al quale lei ha redatto la nota del 9 gennaio 2016 si faceva riferimento in relazione agli articoli di stampa inerenti alla morte di Stefano Cucchi alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla procura della Repubblica lei chiese alla procura della Repubblica la richiesta di incidente probatorio successivamente a questo o già prima per altre ragioni successivamente c'è scritto nella mia nota la mia nota pagina 20 il dottor Giovanni Musarò ha autorizzato l'utilizzo ai fini amministrativi della richiesta di incidente probatorio datato 11 dicembre riservandosi di trasmettere a breve ulteriore copia degli atti del procedimento già noti alle parti non più soggetti a segreti sfruttori quindi l'arma dei carabinieri l'aveva richiesta alla procura della Repubblica per valutare ovviamente sotto il profilo amministrativo eventuali responsabilità disciplinare per fare questa relazione scusi intromissione ma era per chiarire il contesto è esattamente quello che volevo capire io però siccome lei qui dice autorizza l'utilizzo ai fini amministrativi della richiesta è come se lei nel redigere questa nota la richiesta già ce l'avesse e poi dà conto che la procura della Repubblica la autorizza ad utilizzarla per fini amministrativi ora avvocato se io la dessi prima o meno non mi ricordo io la richiesi e mi fu data sulla base comunque prima o dopo lei l'ha avuta in base ad una sua specifica richiesta questo volevo capire cioè chiede formalmente alla procura della Repubblica di avere copia della richiesta di incidente probatorio della cui esistenza lei sapeva giornali ci sono tutti i giornali era pubblica ma in generale io troppo diciamo a volte devo chiedere anche cose scontate o che possono apparire scontate perché insomma poi nel processo ogni cosa ha la sua rilevanza o può avere la sua rilevanza nel leggere questa richiesta di incidente probatorio lei ebbe un qualche motivo di sorpresa di disappunto di sdegno a che si riferisce scusi ci scrivo c'ha ragione sono stato troppo vago rispetto uno che guarda queste cose si rende conto del personale dell'arma che fa queste cose certo un pubblicare i carabinieri non può essere certo la sto portando fuori strada e me ne scuso perché io volevo sapere tutt'altra cosa cioè rispetto alla richiesta atti che lei aveva avuto il 28 di ottobre del 2015 leggendo questa richiesta di incidente probatorio lei ha avuto qualche motivo di stupore c'era qualcosa che non andava guardi io ho preso dei passi se vuole glieli reggo pure ma non ne lo ricordo c'era la richiesta riporta pagina 44 gli atti trasmessi dal comando provinciale e riporta quello che noi siamo a pagina 44 giusto mi dispiace il generale scusi se approfitto della sua cortesia leggere le prime due righe di questo paragrafo 10 gli atti trasmessi dal comando provinciale del CC sì in data in data 2810 questo ufficio inviava una missiva al comando inviala una missiva però non se ne può più sono dati documentali lo avete scritto voi che è una delega ma finiamola sono dati documentali diciamo sulla qualificazione delle richieste di atti eccetera eccetera ovviamente sarà una questione di valutazione siccome questo chiedo scusa signor giudice così chiarisco anche la rilevanza e la pertinenza della mia domanda questo atto che reca la firma del procuratore della Repubblica e del dottor Moserò ha la data del credo 14 12 13 insomma siamo ai primi giorni 11 dicembre 2015 depositato il 14 dicembre di poco più di un mese da quando è stata mandata la prima richiesta a atti in forza di un'interpretazione autentica di quello stesso ufficio perché questa è una richiesta di incidente propattore della procura ma adesso non è questo il momento di fare la valutazione nel senso che comunque in ogni caso lo leggiamo c'è scritto il procuratore della Repubblica ha scritto che era una missiva che inviava una missiva signor giudice una missiva così la qualifica la procura una missiva giudice ma aspetti io finora non ho detto una parola premesso che trovo questi argomenti poi li qualificherò in sede di discussione possiamo procedere io capisco l'avvocato si piace molto quando passa ma possiamo procedere secondo le regole ma si può chiedere all'avvocato di leggere cosa ha scritto la procura della Repubblica io pensavo che fosse preliminare una domanda quindi una volta che ha letto questa parte va bene che c'è scritto che era una missiva ecco le domando se questa indicazione che lei è rinvenuto nella richiesta di incidente probatorio che ha letto per redigere l'atto a sua firma cioè quella annotazione sul fatto l'ha trovata conforme rispetto a quello che le era stato richiesto il 28 ottobre del 2015 o difforme cioè rispondente a quella che era stato l'atto che le aveva ricevuto innanzitutto si aveva notato qualcosa di particolare in senso perché è una cosa a quale non ha dato peso non lo so no non ho trovato nulla di difforme nulla di difforme grazie tra l'altro se posso dice l'analisi della predetta documentazione riveste particolare importanza e finire la ricostruzione dei fatti quindi ecco perché sono arrivate altre cose credo io non posso fare questo e questo che riveste particolare rilevanza adesso io non lo riesco a trovare testualmente è invece un passaggio che l'aveva gratificata sì l'ho detto mi aveva gratificato sì perché ritenevo che il nostro lavoro era stato fatto bene e importante a trovare testualmente il mio avvio a chiudere sono rimaste tre o quattro domande di nuovo sulla vicenda registro sbianchettamento del registro del fotosegnalamento perché questa volta glielo chiedo non più con riferimento alle attività 4 novembre 2015 ma con quello rispetto a quello che è successo dopo quindi dopo la prima acquisizione quando è stato acquisito l'originale richiesta del 30 novembre acquisizione credo del primo dicembre se non ricordo male ma insomma vado per per approssimazione lei ebbe contezza della esistenza di questo sbianchettamento allora come ho detto anche prima la seconda l'originale fu acquisito tutto il registro certo tutto quanto le chiedono l'acquisizione dell'originale giusto quindi era normale quando mi fu portata tra l'altro con l'annotazione di servizio una scorsa vedi che c'erano più sbianchettamenti dei sbianchettamenti ci ho detto non è che io sono stato assindato perché non è che mi si chiedeva qualcosa di produrre l'originale e io quello feci perfetto su questo è stato chiarissimo volevo sapere se qualcuno le aveva rappresentato segnatamente lei ha detto prima le è andate a prendere donna Rumma sto registro non so chi lei mi dice io non so effettivamente materialmente perché qui l'atto che voi mi date che riguarda la la mia trasmissione alla procura di questo non c'ha un allegato che credo che sia l'annotazione ipg riguardante il dice l'acquisizione unitamente al relativo verbale acquistazione redatto da ufficiale ipg del dipendente del nucleo investigativo io questo atto qui il secondo qui non me lo ritrovo non so chi effettivamente fece se il capitano il capitano test armato questo glielo dico risulta documentalmente anche questo ma io volevo sapere a lei diciamo lei prepara la nota per la procura no? si e questa nota a chi la dà? cioè chi porta la sua la nota a sua firma e il registro in originale e l'annotazione compresa l'annotazione che era allegata no? tutti con tutti gli allegati io non mi ricordo ma non credo che la portai io personalmente credo che di mandato a donna ruma di consegnare di questo ve lo chiedere le conferme no io no comunque lei non l'ha portata no ne ha ricordo che alcuno le abbia detto diciamo le abbia fatto cenno di qualsiasi stravaganza relativa a questo registro no no fu preso e portato scusi avvocato però lei me la tira mi dispiace signor giudice ma secondo lei il comandante provinciale consegna un atto di questo tipo una una solo un'acquisizione originale di un di un documento è un atto diciamo non particolarmente rilevante rilevante cioè si prende chi è deputato la consegna no perché se io dovessi fare il messo di tutti gli atti che vengono arrivavano al comando provinciale stavo più in procura che in altri posti non ho mai neanche pensato no no ma potersi pure che è avvenuto però se è avvenuto è avvenuto contestualmente è un'altra attività e scusi eh scusi scusi signor giudice no 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 ma assolutamente anzi è sempre meglio dirsi di più che non di meno ah ecco l'ultima domanda era questa sulla sbianchettatura il pubblico ministero le ha letto di nuovo il suo rapporto sul fatto in particolare l'ultimo capoverso di pagina 20 prima del numero 7 dice l'ipotesi della procura relativa agli aspetti riguardanti il registro delle persone sottoposte al fotosegnalamento dovrà tuttavia tenere in considerazione che la correzione apportata con il bianchetto essendo peraltro chiaramente rilevabile è funzionale alla necessità di associare il nominativo della persona fotosegnalata al numero di protocollo generato automaticamente dal sistema SPIS poi aggiunge tra parentesi sul registro risultano numerose analoghe correzioni ora anche qui io non ho ben capito lei ha riferito poi questa sua considerazione ad una dimensione astratta prego allora la mia è come ho cercato di spiegare probabilmente non sono stato chiaro anche perché la stessa domanda mi è stata fatta dal pubblico ministero in quella circostanza io non ho fatto altro che riportare alla mia scala gerarchia un'anomalia l'anomalia è prima di tutto che è stata adottata una procedura a mio avviso scorretta perché andava segnato in rosso e lasciato aperto il campo che era che era considerato errato sbagliato quello che vogliamo però questa procedura purtroppo non era eseguita dal personale perché cerco di spiegarmi ancora una volta il sistema SPIS genera due numeri il primo numero è il sistema che viene generato dal software manualmente il secondo che è quello che viene generato nel registro cronologico manualmente dal personale devono essere coincidenti quando succede un'anomalia il nostro personale ma lasciamo perdere la vicenda cucchi io mi volevo far riferire all'anomalia che esisteva purtroppo sbianchettava ora non so se lo fanno ancora e invece di fare un altro sistema che probabilmente l'hanno trovato non so in che modo perché automaticamente quando si inserisce il numero in software si genera un cui il cui è il codice identificativo della persona che viene sottoposta al fotosegnalamento quindi io volevo segnalare probabilmente non sono stato chiaro o comunque un'anomalia che riguardava la vicenda del registro Spis che era comune anche ad altri reparti e le dico che mi sono andato anche a accertare a quali reparti anche era comune e esistevano altri reparti allora lo volevo segnalare alla mia scala gerarchica al mio diretto superiore in cui avevo detto guardate che questa cosa è anomala è anomala a prescindere questo volevo dire questo mi è chiarissimo generale la ringrazio però vede scusi se mi permetto di insistere ma nel leggere quello che lei scrive si fa riferimento innanzitutto all'ipotesi della procura che nulla ha a che fare con una prassi se del caso scorretta in uso presso gli uffici dell'arma mi faccia mi faccia finire la domanda a vantaggio di tutti in secondo luogo lei dice essendo peraltro chiaramente rilevabile il bianchetto quindi rilevabile nel caso di specie devo immaginare ma che si tratti del caso di specie cioè della vicenda cucchi lo si ricava anche dall'inciso che sta tra parentesi perché dice sul registro immagino su quel registro risultano numerose analoghe correzioni quindi queste osservazioni che lei stava facendo in ragione dell'incipit l'ipotesi della procura e in ragione della chiusa a me sembrerebbero ma le prego di correggermi se sbaglio sicuramente inserite in un più ampio contesto e da questo arriverò da qui ad un istante ma per quanto di interesse in questo procedimento riferite proprio anche al registro SPIS acquisito in originale presso Casilina il primo dicembre del 2015 Allora innanzitutto non è che io mi riferissi all'ipotesi di procura sotto il profilo della varietà o meno io ho solo detto si dice che c'è stato lo sbianchettamento dello SPIS del registro cronologico bene io asserisco che c'è stato e che si evidenzia poi aggiungo e questo lo aggiungo per la mia scala gerarchia che questa questione a prescindere dal fatto specifico è purtroppo una questione tant'è che io ne parlai anche di questa questione al rapporto del personale dei miei collaboratori è un'anomalia sistemica questo è che volevo dire poi se lei dice se io me ne sono accorto in quella sede sì me ne sono accorti in quella sede è ovvio non le ho chiesto io volevo semplicemente capire se questo riferimento che lei faceva ripeto visto che parla dell'ipotesi della procura l'ipotesi della procura è relativa allo sbianchettamento a quello sbianchettamento cioè lo sbianchettamento di Cucchi ma io parto da quello per arrivare se non parlo di quello come faccio non è che mi invento la mia scala già si parla dello sbianchettamento devo fare riferimento allo sbianchettamento quindi lei sta dicendo alla sua scala gerarchica mi faccia capire se ho capito altrimenti mi dice avvocato non ha capito niente io prendo atto e mi dice siccome questo l'ha scritto lei eh io l'ho spiegato allora io ho la fortuna di poter chiedere a lei mi faccia approfittare di questa opportunità allora quello che io vorrei capire è lei sta rappresentando se ho capito sta rappresentando la sua scala gerarchica guarda che nella vicenda Cucchi il registro che io ho acquisito in originale presenta delle sbianchettature perfetto nell'analizzare queste sbianchettature la procura dovrà tenere presente che si tratta di una mala pratica di una mala prassi diffusa in vari uffici ho capito bene? dico questo e anche questo ambe due le cose dico guarda ma è una mia idea dico guarda che io pensavo francamente lo dico che la procura andasse a acquisire anche altri registri perché per rendersi conto ma è una mia valutazione esclusivamente la mia scala gerarchica finisce lì ma non è che metto in discussione l'ipotesi non ipotesi parto dall'ipotesi per arrivare a rappresentare la mia scala gerarchica tant'è che credo che qualcosa sia fatto in materia un'anomalia sistemica che francamente nonostante le mie ispezioni fatte e reparti probabilmente sul registro spisse non sono mai arrivato altrimenti me ne sarei accorto prima perfetto generale solo per estrema chiarezza perché lei è stato diciamo noi abbiamo questo ingrato compito di cercare di riversare verso il tribunale la conoscenza di atti che tutti noi conosciamo lei perché vi ha partecipato noi perché l'abbiamo letto ma il tribunale non conosce lei ha ragione però noi stiamo facendo stiamo discutendo e io mi sono sottoponendo a questo esame su una nota che ha una sua valenza sicuramente questo non sono io che devo determinarla perché ci sono persone più competenti ma che riguarda una nota fatta al mio comandante diretto va bene ma questo non rileva comunque per venire a quello che stava dicendo solo se me lo conferma lei ha sentito a sommare informazioni il 31 gennaio del 2019 dal pubblico ministero proprio su questo come sta dicendo oggi e da chiarire premesso che si trattò di una procedura irrituale parliamo di cucchi perché la procedura corretta sarebbe stata quella di dare atto del passaggio di cucchi dal fotosegnalamento tracciando una riga sul nome io intendevo dire che poteva trattarsi di una prassi scorretta utilizzata anche presso altre compagnie insomma intendevo rappresentare alla scala gerarchica una criticità diffusa in vari reparti non c'è difformità tra quello che ha detto ma volevo solo diciamo proprio a dimostrazione della totale trasparenza che si tratta di un dato che lui aveva già valorizzato in fase di sommare informazioni quindi un dato quindi tecnicamente non è una contestazione così diciamo perché ormai siamo proprio fuori da tutto dal seminato comunque andiamo avanti ha terminato va bene allora il pubblico ministero vuole procedere al controesame e riesame vorrei fare il controesame su questa e lo farò dopo le darò la parola adesso cominciamo dal pubblico ministero che fa va bene che fa sia il controesame che il riesame e poi le darò anche a lei la parola per il solo controesame senta ovviamente anche le parti civili ovvero non ho fatto tutte le lencole la prima domanda lei ha detto il generale non è ufficiale di polizia giudiziaria e si riferisce all'articolo 178 ha detto del decreto giustrativo 66 del 2010 un colonnello è ufficiale di polizia giudiziaria? un colonnello è ufficiale di polizia giudiziaria senta il nucleo radiomobile e il nucleo informativo dipendono sempre dal reparto operativo ha detto lei sì dal reparto operativo ma all'interno del nucleo radiomobile e del nucleo informativo ci sono ufficiali di polizia giudiziaria? sono tutti ufficiali di polizia giudiziaria senta mi è rimasta in questa una sua risposta ma probabilmente l'hanno stoppata mentre la stava articolando ed è rimasta monca lei ha detto che voi non eravate in grado di capire il rilievo investigativo del io la qualifico sempre come richiesta per evitare polemiche tanto per fortuna scripta manent di questa richiesta atti e accertamenti come ci ha spiegato poi lei poc'anzi del 28 ottobre del 2015 ma le chiedo era chiaro che si trattava della vicenda Cucchi? sì assolutamente sì voglio chiarire se posso il rilievo investigativo cioè non sapevo effettivamente che tipo di valore investigativo fosse dato a questi atti perché non sapevo se era un riscontro a un'attività riscontro a un'intercettazione io non lo so però che ci fosse un procedimento penale relativo alla vicenda Cucchi lei lo ha già detto ho già detto che lo sapevo anche perché ho avuto ulteriori cognizioni attraverso le notifiche che mi pervenivano dalla squadra mobile senta e lei aveva mai sentito prima di quel giorno parlare di Stefano Cucchi? sì certo il signor Cucchi aveva sentito di parlare sapeva che era stato arrestato da carabinieri di Apia che poi era passato a Torsapienza lo sapevo ovviamente non è che non ero proprio altrimenti sembra non verosimile e che dopo sei giorni era morto tutto questo era chiaro ed era chiaro anche che c'era in corso un procedimento penale e ha detto che ricevevamo anche le notifiche dalla squadra mobile per citare i militari quindi era chiaro che questa richiesta prescindere da dove potesse parare la procura era stata avanzata nell'ambito di questo contesto questo era chiaro c'era scritto anche il procedimento penale assolutamente sì bene ecco perché io credo di avevo voluto fare le cose rapidamente e anche eccellente bene senta generale una cosa vorrei capire se ho capito bene in quell'atto che l'ha esibito l'avvocato Carta quell'atto sì mi scusi perché io non l'avevo mai visto in vita mia perché non hanno l'abitudine di fare gli abbrisi di deposito me lo puoi leggere che cosa c'è scritto che vi fate dare gli atti e poi all'esito li restituite una cosa del genere allora è indirizzato al comandante del gruppo al comandante carabinieri Roma-Casilina al comandante compagnia Roma-Montesano è scritto codesti comandanti sono pregati di voler consegnare con urgenza a questo comando provinciale rispettive pratiche originali concernenti alla vicenda Muggetta costedita agli atti dei dipendenti nuclei i fascicoli in questione saranno trattenuti presso questo comando restituiti al termine delle verifiche amministrative in corso ok e le verifiche amministrative erano quelle esitate con la nota del 9 gennaio no? assolutamente quelle notizie che io non sapevo che esiti avrebbero avuto sì sì no le chiedo lei sa se questi fascicoli così come lei aveva anticipato sono poi stati restituiti ai rispettivi comandi all'esito di questo accertamento amministrativo no perché io questo non lo so io so solo che quando sono andato via io dal comando provinciale i fascicoli erano ancora al comando provinciale e perché non erano stati restituiti? erano stati restituiti perché noi l'iter di una di un'eventuale notizia o qualcosa si conclude al termine dell'eventuale procedimento giudiziario quindi secondo me secondo me staranno lì fino a quando se l'ha tenuto il comandante del reparto operativo che so fino a quando l'esito c'era una vicenda giudiziaria aperta e credo ancora dovrebbero essere lì poi non lo so se stanno ancora lì senta le potevo chiedere generale ci siamo intrattenuti tanto sia io che sia l'avvocato Bonzano su questa questione del galateo istituzionale ci aiuti a capire quindi lei ha già detto il procuratore della repubblica così come si usa fare diciamo per galateo istituzionale ha preferito non ricorrere a un atto invasivo per acquisire questi atti rivolgendosi alla polizia di stato per essere più chiari ma ha avuto il garbo di rivolgersi direttamente al comandante provinciale nella sua persona lei ha detto l'ho percepito come un atto di fiducia assolutamente ma l'atto invasivo mediante il quale la polizia di stato avrebbe potuto acquisire questi atti e che sarebbe stato uno sgarbo istituzionale quale sarebbe stato ma sarebbe stata un'acquisizione di atti delegata alla polizia giudiziaria della squadra mobili che doveva andare lì e acquisire gli atti quindi sostanzialmente quello che avete fatto voi è un qualcosa di equivalente a quello che avrebbe potuto fare la polizia di stato se noi fossimo stati sgarbati è corretto assolutamente sì corretto ho detto io quell'atto l'ho considerato un atto di attenzione sì sì ma io le confermo che era così c'è una cosa che volevo chiedere generale sto numero di protocollo lei ha detto lo sono segnato nelle annotazioni di servizio mi sembra di ricordare che non c'è la necessità di un numero di protocollo innanzitutto le chiedo intanto in quelle annotazioni il numero fosse necessario o non necessario però c'era me lo conferma me l'ha fatto vedere lei c'è un numero che ora questo numero qui secondo me però io adesso lei mi dice una cosa dovrei verificare è un numero di protocollo che viene scansionato a livello di protocollo informale allora le spiego adesso le le produco proprio le esibisco se mi danno una mano la nota della stazione Tossapienza con la quale escono trasmesse via fax queste due annotazioni e come vedrà anche qua l'ho evidenziato in giallo per comodità mi scusi c'è neanche una copia per il tribunale come sempre e anche là c'è un numero di protocollo sì ma come vede questo numero di protocollo è il numero di protocollo della nota di trasmissione certo che è diverso no? sì lei è in grado di decriptare perché per noi diciamo è arabo ma quella frazione che ha un numeratore e un denominatore lei sa o se lo ricorda magari l'avrà studiato tanti anni fa a cosa corrisponde il numeratore a cosa corrisponde guardi questo dovrei verificarlo comunque se lei vado a memoria questo è un denominatore va verificato o se si tratta di un atto di polizia giudiziaria quindi nella raccolta o riguarda il fascicolo della persona sottoposta questo io non sono in grado di dire il primo numero che c'è qual è? 16 in tutti e tre gli atti il 16 sì il 16 lo vedo lo porto quindi secondo me il fascicolo primario il 16 erano atti di polizia giudiziaria secondo me però ogni comando ha il proprio numeratore perché viene fatto cronologicamente la raccolta indici degli atti IPG insomma cerchiamo di studiare anche noi tanto invocato carteggio all'articolo 18 prevede tutti gli atti di una medesima pratica hanno un numero di protocollo formato da una frazione in cui il numeratore che è il 16 corrisponde al numero assegnato alla pratica sul registro di protocollo esatto e il denominatore è il numero progressivo che il singolo atto assume nella pratica me lo conferma questo? è questo è previsto l'istruzione sul carteggio quindi tutti gli atti devono avere un numero di protocollo è previsto dal carteggio senta questa è un'affermazione del pubblico è una considerazione del pubblico ministero il testo ha dato le risposte come al solito ognuno ha già risposto di sì ha già risposto poi ripeto ognuno fa ne trarrà le sue valute sì no perché le risposte che non gli piacciono non le sentono il giudice ha già risposto va benissimo mi faccio andare avanti per favore andiamo avanti il pubblico ministero che qua non è all'università non le consento di dire che non le faccio a questo per favore stia al posto suo e qui non è all'università ognuno deve rispettare i ruoli degli altri è ovvio che sia così credo che non ci sia bisogno di dirlo se il difensore risultato dalla trascrizione dice al pubblico ministero non dica sciocchezze io chiedo che venga messo a posto suo se il pubblico ministero allora io questa frase non l'ho sentita non ho motivo di dubitare allora chiedo scusa giugica chiedo scusa allora il discorso ha carattere generale io non consento nemmeno che il pubblico ministero dica a me come mi devo comportare se mi piacciono le risposte che vengono date oppure no se io le ascolto ma infatti io ho già invitato tutti questa mattina a inizio udienza ad evitare commenti facciamo le domande ascoltiamo le risposte possiamo incalzare i testi se ce n'è bisogno quando ce n'è bisogno però stiamo d'accordo stiamo d'accordo basta che noi tutti abbiamo chiudiamo l'incidente diplomatico basta che noi tutti abbiamo un metodo di condotta lo seguiamo senta generale vorrei sapere una cosa lei tornando alle ultime domande che faceva l'avvocato Bonzano se ho capito bene lei ha detto l'avrà detto mille volte io faccio la sintesi io volevo solo segnalare all'ultimo paragrafo a pagina 20 che insomma questa prassi dello sbianchettamento era una prassi poco corretta che però era in voga in vari reparti e se ho capito bene ha detto anche in quel registro dello spis gli sbianchettamenti erano altri tanti non riguardavano solo ce ne erano altri ecco le chiedo se ha avuto modo di vederlo ma gli altri sbianchettamenti che comparivano sul registro dello spis erano come quelli di cui stiamo parlando cioè riguardavano tutte le voci anche i codici AFIS e cui allora i sbianchettamenti io non ho avuto modo di rilevarli comunque quello era uno sbianchettamento totale mi ricordo che riguardava tutta la riga gli altri sbianchettamenti per esempio in altri posti riguardavano una parte piuttosto una parte un'altra parte però in altre compagnie anche avevamo sbianchettamenti poi scritti in rosso quello sbianchettamento era uno sbianchettamento su tutta la riga questo lo ricordo bene senta generale lei ha detto fui gratificato dalla lettura di pagina 44 della richiesta di incidente probatorio cioè quella in cui c'è scritto che l'acquisizione degli atti è stata importante ma le chiedo lei poi è andata avanti nella lettura perché a pagina 47 io le leggo alcuni passaggi lettera C c'è scritto ma il dato più interessante e per certi versi clamoroso proviene dall'analisi del registro delle persone sottoposte al fotosegnalamento spisse riscontro AFIS trasmesso in copia dal comando provinciale e poi viene evidenziato che dalla copia risulta che l'unico soggetto fotosegnalato era Mistic Zoran che il nome di Stefano Cucchi non compare non si si legge ancora non era dato atto di alcunché come se l'arrestato non fosse stato proprio condotto presso i locali della compagnia per essere sottoposto a rilievi fotosegnale e filici andata avanti si capisce che la procura dice noi ci siamo accorti sentendo Pagliuca che era sbianchettato a quel punto abbiamo chiesto di acquisire quello in originale ma lei questa cosa l'aveva letta ma io avevo considerato che se non fosse se noi avessimo prodotto quella copia anche quella copia nessuno si sarebbe accorto dello sbianchetto insomma quella copia aveva stata richiesta ma io parlo dell'acquisizione degli atti secondo me l'acquisizione degli atti è stata fatta bene anche se noi non l'avessimo acquisita nessuno se ne poteva accorgere questo è la mia e sono ancora convinto che l'acquisizione la domanda non era questa se in realtà aveva suscitato in lei se lei ha letto questa parte della richiesta e se ha suscitato in lei diciamo qualche riflessione in fondo c'era scritto ma c'era scritto quello che poi no quello che le ha appena letto il pubblico ministero non c'è bisogno che io lo commenti che cosa avrei dovuto non lo so la domanda era se lei diciamo leggendo questo ha fatto qualche considerazione io ho fatto la considerazione che grazie al comando provinciale erano stati acquisiti prima la copia e poi l'originale basta ma scusi generale quell'atto specifico cioè quel registro quello spesso quella pagina voi l'avevate trasmessa perché vi era stata richiesta o era una vostra iniziativa noi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto su richiesta quindi come avreste potuto non trasmetterlo mi sta sfuggendo un passaggio la richiesta e potremmo averla non trovata se non l'avessimo trovata non era stata trasmessa io mi riferivo all'attività manuale cioè la ricerca degli atti la ricerca degli atti noi l'avevamo fatta bene se si discute anche questo io non posso io penso di avere che la richiesta fu fatta bene cioè fu evasa bene e fa anche in virtù di questo scusi signor giudice se lei va anche adesso ci sono anche altri passaggi in cui si dà atto all'attività ora se si vuol dire che il comando provinciale era stato carente io prendo atto però come si vedrà tale assunto troverà un riscontro formidabile negli atti trasmessi dal comando provinciale pagina 9 su richiesta di questo ufficio va bene io questo è quello che ma è stato chiaro il generale avreste potuto non trovarla la risposta è chiarissima invece l'avete trovata senta ehm poi le vorrei chiedere una cosa ma davvero è una mia curiosità torniamo a queste doppie annotazioni che abbiamo accertato avere lo stesso numero di protocollo allora quella di Colicchio in una c'è scritto lo riportate voi riferiva non lo riportate ma c'è scritto riferiva di avere forti dolori al capo giramenti di testa tremore di soffrire di epilessia nell'altro c'è scritto di soffrire di epilessia manifestando uno stato di malessere generale veresimilmente attribuito al suo stato di tossicodipendenza e lamentandosi del freddo e della scomodità della branda d'acciaio le chiedo lei nella nel leggere la richiesta di incidente probatorio ha letto le dichiarazioni di Colicchio che vengono riportate a pagina 38 mi ha già chiesto ho detto che non l'avevo letta non l'aveva letta quindi non aveva visto che Colicchio dice testualmente io ho chiamato il 118 perché Cucchi aveva dolori al capo ad addome e manifestava un evidente stato di sofferenza che destava impressione io questa parte non l'ho letta io le ho letta come ho fatto il collegamento relativo a questa parte non l'ho letta ma non l'ha letta quindi non sa neanche che Colicchio non aveva fatto alcun riferimento alla scomodità della branda di acciaio le presunte lamentere di Cucchi per la scomodità della branda di acciaio nell'incidente probatorio questo non è scritto io non l'avevo letto io mi attenevo a quello che era scritto nelle annotazioni quando faccio riferimento ma mi toglie mi toglie una curiosità se vuole rispondere mi aiuti a capire proprio per mia cultura cioè in questa richiesta dell'incidente probatorio viene ricostruita tutta la vicenda di Stefano Cucchi questo l'è chiaro sì alcune parti e sulla base di una serie di accertamenti viene ricostruito che Stefano Cucchi era stato picchiato prima di essere condotto a Tossa Pienza questo l'era chiaro sì lo dico anch'io nella mia nota anche sulla base delle dichiarazioni di Colicchio per esempio posso capire proprio giusto per mia curiosità poi tanto rimane agli atti lei perché davanti a due annotazioni nella prima si diceva che Cucchi aveva dolore al capo giuramenti di testa e uno stato che testava in pressione lo dice poi Colicchio nelle sit in un'altra annotazione c'è scritto invece che aveva un malessere generale riconducibile alla tossicodipendenza e al freddo davanti a due annotazioni avendo lo stesso numero di protocollo lei quale ragionamento ha fatto per ritenere che una delle due non fosse falsa io ritenevo che ambe due le annotazioni essendo agli atti fossero originate in un modo che a me non conoscevo io il fatto che erano false non avevo nessun riscontro per poterlo stabilire come facevo a stabilirlo quale dell'una fosse vera rispetto all'altra vabbè che una delle due fosse falsa era chiaro dicono due cose diverse hanno lo stesso numero di protocollo c'è opposizione questo ha detto di no ha detto che lui l'abbiamo prima ha ripetuto più volte che se avesse avuto il sospetto c'è opposizione signor giudice è sempre il solito il principio cioè il PM pretende che un testimone dia la qualifica giuridica del falso se parliamo di annotazioni diverse secondo me la domanda può essere fatta non gli stava chiedendo la qualificazione giuridica gli stava chiedendo come si era comportato chiedo scusa io non sento neanche bene quello che dite laggiù perché l'audio è pessimo allora dico se il PM inserisce un concetto giuridico e pretende che se ne dia conferma o smentita dal testimone secondo me non è un modo corretto di fare la domanda ma non era questa la domanda se invece si limita a fare la stessa domanda rilevando la differenza lessicale delle due annotazioni mi sembra più rispettoso credo della razio legis del codice di procedura penale ma non era questa la domanda non stava chiedendo una qualificazione giuridica ma inserisce sempre il concetto della falsità che è un concetto giuridico sì avvocato però quando questo concetto giuridico che però si desume da delle circostanze di fatto è stato chiesto dal suo collega la risposta le andava bene tutta questa dissertazione non l'ha fatta io mi sono agganciato alla domanda l'opposizione del difensore è respinta però su questa domanda pubblico ministero il testo ha già risposto quindi ma io non ho veramente vabbè poi rileggio ha risposto anche prima l'ha detto non so se vuole possiamo chiedere per l'ennesima volta che tipo di ragionamento ha fatto di fronte a queste due annotazioni no no ma giudice evidentemente mi rileggerò la trascrizione con grande curiosità devo dire senta lei scrive due annotazioni colicchio una delle quali riporta il medesimo contenuto con toni in alcuni punti più moderati e comunque non rilevanti sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto poi due annotazioni di sano entrambe molto simili potrei sapere c'è un motivo per il quale con riferimento a di sano non scrive che non rilevanti sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto ma no perché allora se una delle due è un po' più diversa allora io dico se una è un po' più diversa può condizionare se sono simili per me non rileva perché se sono simili il contenuto era uguale per cui non dovevo dimostrare se rilevava o meno sotto la ricostruzione del fatto ma io riporto testualmente le differenze in calcio e la nota cioè non è che non nascondo la diversità o delle due non l'è stato diciamo non è questo in discussione nessuno le sta chiedendo se lei volesse nascondere qualcosa o meno si stava cercando di capire qual era stata diciamo così il suo ragionamento di fronte allora il mio ragionamento cioè perché ha scritto determinate cose e come le ha scritte solo questo insomma allora signor giudice come ho detto prima nella prima dico della stessa ricostruzione del fatto perché evidenzio la differenza anche se se minima dall'una all'altra nella seconda dico sono simili sono assolutamente simili e quindi non ha sentito l'esigenza di precisare che non erano rilevanti sotto il profilo della ricostruzione lo davo per scontato che non erano rilevanti senta generale ma aveva notato che in una c'è scritto che Cucchi non riusciva a camminare e veniva aiutato a salire le scale e nell'altra no ma su disano questo dice l'ho riportato l'ho riportato nella nota sì che l'ho riportato a lei ha riportato quello che c'è scritto nelle due notazioni le sto chiedendo se avevo notato perché uno può anche riportare in maniera diciamo pedissequa notarile e non percepire la differenza voglio sapere se lei l'aveva percepita tutto qua questa particolare differenza non l'ho percepita ah non l'ha percepita senta ma pagina 39 della richiesta di incidenti probatori vengono riportate poi le dichiarazioni di disano che parla delle difficoltà di Cucchi nel camminare pagina 39 quella di Schirone che parla sempre della difficoltà di camminare del Cucchi pagina 40 41 quella di Mollica che parla della difficoltà a camminare del Cucchi a pagina 41 la procura testualmente facendo riferimento alle dichiarazioni di colicchi di disano Mollica e Schirone scrive le concordi dichiarazioni in merito alla difficoltà e alla sofferenza che Cucchi manifestava nel camminare nella mattinata del 16 ottobre 2009 confermano che quando raggiunta la pattuglia mobili di zona l'arrestato era già stato pesantemente picchiato lei l'aveva notato questo passaggio? sì allora lei ora mi dice se l'aveva notato probabilmente non ricordo se l'ho notato o meno ma non cioè io non capisco probabilmente non l'ho notato perché se l'avessi notato lo ricordavo no lo riportavo questo è un passaggio della richiesta dell'incidente probatorio non delle dichiarazioni l'avrò letto ma non ho fatto questo collegamento che lei ha fatto quindi non ha fatto il collegamento fra la difficoltà del camminare pari salata no ma sul pestaggio noi l'avevamo già definito nel quando si parla dell'incidente probatorio all'inizio quando io dico dico che le responsabilità sono individuate da parte della procura su questi militari perché avevano come dice avevano erano stati autori di un prudente prestaggio io lo do a sodato queste altre cose sono soltanto riferite noi stiamo facendo una valutazione su un fatto che io riferisco alla mia scala giarchia su atti interni che non probabilmente mi sono sfuggiti non mi sto spiegando sarò più chiaro perché faccio domande troppo lunghe forse in questo pagina 41 l'ufficio di procura tira le somme e dice siccome Di Sano Mollica e Schirone dicono che Cucchi aveva difficoltà a camminare a salire le scale è evidente che quando è arrivato a Tor Sapienza era già stato picchiato che nell'ottica in quella ricostruzione del fatto era un passaggio fondamentale visto che nelle annotazioni Di Sano in una si dà atto che non riusciva a camminare e nell'altra no le chiedo per l'ennesima volta lei se ne era accorto si era accorto del peso dato dalla procura a questa circostanza no 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 signor Presidente c'è opposizione mi scusi ma non me ne ho accorto c'è opposizione ha risposto ha risposto ha risposto facciamo terminare l'opposizione chiedo di fare l'opposizione prego allora se noi leggiamo l'annotazione di PG non si dice che Di Sano non dice che il signor Cucchi non può camminare dice riferisce il signor Cucchi di non voler camminare che sono due cose molto diverse quindi di non poter camminare avvocato ma gli ha fatto notare di non poter camminare la domanda deve essere intesa con riferimento a quello che lui ha riportato nelle due annotazioni di diverso avendole viste poi al di là delle parole testuali utilizzate però proponiamo la testa nella maniera corretta perché va bene e in questo senso penso che il test comunque l'abbia intesa cioè se avesse dato peso a quello che era riportato in una e a quello che era riportato in un altro e se ci fosse una difformità rilevante secondo la prospettiva del pubblico ministero tenuto conto di quello che aveva scritto nella richiesta di incidente probatorio ho detto già che non ho dato peso perché l'ho detto che erano molto simili senta ultima domanda generale lei ha detto la richiesta di incidente probatorio è una richiesta lunga mi sembra 55 pagine ma vediamo cercherò di essere preciso per la trascrizione si 55 pagine nella quale è ricostruita tutta l'attività di indagine che era stata compiuta fino a quel momento e sono segnalate tutta una serie di criticità il registro dello spis sbianchettato il fatto che Mandolini insomma avesse consegnato il bigliettino eccetera eccetera ce ne sono segnalate tante visto che lei l'ha letta quella richiesta di incidente probatorio vorrei sapere in quella richiesta di incidente probatorio si fa il minimo cenno al fatto all'esistenza delle doppie annotazioni no non mi sembra che si faccia la cenno no devo confermare comunque poi la produciamo io la ringrazio non ho altre domande bene le parti civili per il controesame e riesame brevissimo avvocato Anselmo senta generale lei prima rispondendo alle domande del pubblico ministero e anche ai difensori degli imputati ha fatto più volte riferimento diciamo alla stampa al fatto di aver seguito come ogni carabiniere di questo paese la vicenda Cucchi sia prima che dopo il suo intervento formale su richiesta della procura di Roma e del procuratore Pignatone senta io la domanda che le voglio fare è questa il 30 ottobre del 2009 e credo che questo ce lo ricordiamo tutti magari non la data la famiglia fece una conferenza stampa in Senato e diffuse le foto del cadavere di Stefano Cucchi in particolare del volto e del costato e quelle foto hanno girato in tutti i telegiornali in tutti i giornali e hanno continuato a girare lei queste diciamo per anni e così come continuano a farle lei quelle fotografie le ha viste? guardi se mi dice se ho fatto ma sicuramente le ho viste perché hanno girato credo dovunque e quindi credo di sì no sì le ho viste sicuramente non so a quale si riferisce ma sicuramente sì le ho viste ecco sia quelle che le foto segnaletiche diciamo del volto di Stefano prima di morire insomma nel momento in cui è stato consegnato a Fatebene Fratelli anche quelle diciamo hanno occupato tutte le pagine dei giornali se sono state pubblicate penso di sì ma adesso non è che posso ricordarmi quale foto ma sicuramente se lei dice che sono state pubblicate aprendo i giornali io l'avrò vista lo chiedo a lei anche perché poi la rassegna stampa per ovvi motivi la produrremmo diciamo più avanti quando sarà se sarà il caso quando sarà il caso le volevo chiedere lei non è medico legale giusto? no non sono medico legale assolutamente la curiosità che io quel volto noi lo conosciamo tutti e le condizioni di quel cadavere le conosciamo tutti sulla genesi di quelle lesioni insomma possiamo discutere ma io dico come cittadino che non è in possesso di una laurea in medicina legale nel momento in cui lei ha visto e rivisto queste fotografie laddove si parla in queste annotazioni di dolori al capo di dolori al costato e di difficoltà a camminare le chiedo com'è possibile che lei non si sia posto il problema che quella differenza era tutt'altro che irrilevante nella ricostruzione del fatto francamente non era il mio compito io non mi dovevo porre un problema su cose che è un sillogismo che a me non c'è guardi io non le sto dicendo che fosse il suo compito e non le sto contestando nulla lei ha risposto in un certo modo che non sto a ricordarglielo sia al pubblico ministero che ai difensori degli imputati nel momento in cui le vede dice non mi sono posto nessun problema perché era normale io mi sono posto il problema perché scusi io sono una persona che riferisce su fatti su cui gli altri stanno facendo attività e indagini posso personalmente pensare ma cosa è successo qual è il dubbio ma sotto altri profili signori io mi devo attenere a quello che il mio compito mi dice di fare altrimenti creo solo confusione ritengo se lei mi chiede cosa io ho pensato io le dico ovvio che una cosa del genere è ovvio che colpisce vorrei vedere a chi non colpisce non solo ma colpisce anche tutto il resto anzi le dirò di più io nel momento in cui ci sia stata un'identificazione di coloro che hanno fatto un pestaggio perché risulta un'udienza in primo grado io sono stato assolutamente soddisfatto di questo e lo dico testualmente cioè chi ha sbagliato lo deve pagare non c'è niente da fare non la voglio stressare ultimamente grazie e non altre domande altre parti civili che l'avevano anche come test diretto nessuno allora il controesame soltanto sulle domande che sono state poste ovviamente dall'avvocato Bonzano che ce l'aveva come test diretto avvocato Carta si generale buongiorno senta lei rispondendo prima all'avvocato Bonzano ha detto testualmente si parlava delle doppie versioni delle annotazioni di servizio e di PG perché sono due nature diverse in realtà lei dice una sembrava la minuta dell'altra nella nostra amministrazione funziona così e poi è stata interrotta e non ha proseguito questa frase vorrei che chiarisse per favore in realtà non ha detto che sembrava una la minuta dell'altra ha detto poteva essere anche una minuta esatto questo per dire era un'ipotesi un'ipotesi non ho detto io non ho fatto nessuna verifica le faccio la domanda lei ha detto poteva essere la minuta io vorrei che spiegasse semplicemente questo concetto a chi non è stata appunto nell'arma dei carabinieri cosa è una minuta lei c'è stato quindi sa quel no lo so lo so noi avvocati non è un colloquio libero tra difensore e teste avvocato Carta lei faccia la domanda e lei poi risponda se la domanda viene ammessa prego grazie allora puoi spiegare cortesemente al giudice cos'è una minuta nel gergo dei carabinieri dell'arma dei carabinieri sì una minuta è una diciamo un draft iniziale che poi eventualmente viene posto all'approvazione del superiore se è il caso e che comunque è soltanto generato per produrre poi l'atto finale perfetto senta nell'ambito nell'apprassi diciamo dell'arma dei carabinieri non le dico di amministrazione ma proprio dell'arma è raro o è frequente che un dipendente faccia vedere al superiore la stesura da dare ad una notazione anche di PG per eventualmente emendare diciamo frasi in più frasi in meno nella descrizione di un medesimo fatto allora nell'arma esiste la possibilità che esiste per questo la scala gerarchia che un dipendente esibisca nella compilazione di un atto l'atto al proprio superiore per chiedere indicazioni valutazioni se ritiene che sia congruo anche per avere suggerimenti poi la potestà dell'atto quindi una volta fatto l'atto ricade sempre in capo a colui che la redige effettivamente è ovvio ci può essere la ringrazio generale è anche il procedimento inverso può esserci che il superiore autonomamente decida di visionare un atto e ritenerlo più o meno congruo allo scopo dipende dall'atto assolutamente sì esiste la possibilità da parte del superiore di visionare un atto compilato dal proprio personale grazie ancora un secondo solo lei prima ha detto sempre rispondendo all'avvocato Bonzano se mi fossi accorto che erano false l'avrei segnalato il concetto era questo insomma così quindi nel momento in cui lei ha supposto che potessero essere delle minute cioè delle fasi di elaborazione di uno stesso non l'ha supposto questo presupposto dell'aver supposto che fossero delle minute che possano essere ho detto supposto che potessero essere ma l'ha dato per dare una spiegazione all'avvocato Bonzano nel dire quando io le ho viste non ho dato peso a questa cosa per quanto ne sapevo io potevano anche essere una minuta dell'aula questo è il senso non ha detto che sono minute che le ha considerate tali allora signor giudice ascolti io sto riprendendo il concetto che adesso ha espresso il generale e cioè che esiste nell'arma una prassi consolidatissima di avere minute quindi aggiustamente dello stesso atto io chiedo è quella che si chiama brutta copia tutti facciamo le brutte copie anche noi quando scriviamo le motivazioni signor giudice non è così va bene al di là di questa premessa la domanda vorrei sapere qual è perché la domanda per come la stava ponendo partiva da un presupposto errato quindi la invita a riformularla signor giudice ascolti la brutta copia è quella che fa scusami cancelli questo mio commento che è un commento personale anch'io mi devo astenere dal farli evitando di farli per il futuro lasciamo perdere che il fatto che ho detto brutta copia ripeto riformulio la domanda senza partire da quel presupposto che ad avviso di questo tribunale è errato perché non è quello che ha detto il test allora generale può essere che lei ha ritenuto di non denunciare di non rilevare questo fatto in quanto ha messo in conto che potesse essere appunto l'ipotesi di un'ipotesi di un'ulteriore ipotesi avvocato così non è ammissibile il test ha detto in ogni caso non ho ravvisato neanche minimamente per secondo lui che ci potesse essere un'ipotesi di falso quindi non ha fatto niente si è limitato a fare quello che sappiamo tutti quindi adesso che cosa gli dobbiamo chiedere perché cioè se addirittura ha pensato non so cosa cioè così non può essere ammessa la domanda non ho manco conclusa comunque andiamo adesso la chiusa perché già era partita tutta la parte che aveva sviluppato non era ammissibile secondo il tribunale va bene allora un secondo solo non ho altre domande grazie ci sono altri difensori che devono controesaminare il test con riferimento alle domande che ha posto l'avvocato Bonzano in esame diretto nessuno allora il riesame all'avvocato Bonzano se signor giudice veramente penso due minuti non di più generale lei ha chiarito al pubblico ministero che ovviamente come più o meno tutti noi era a conoscenza anche a livello mediatico della vicenda Cucchi cioè sapeva del passaggio che c'erano carabinieri coinvolti eccetera all'epoca dei fatti ricordava la data dell'arresto di Stefano Cucchi era se non sbaglio 15 o 16 ottobre e la data del decesso l'ha detto Pocanzi la mia domanda era diversa non che sia stato detto Pocanzi io volevo sapere se quando lei ha avuto la famosa richiesta atti del 28 ottobre conosceva queste due date cioè la data dell'arresto l'arresto sì e la data del decesso il 30 di ottobre va bene senta sempre rispondendo al pubblico ministero ha detto ha chiarito che tutti gli atti recano un numero di protocollo il chiarimento che io vorrei cortesemente richiederle è se tra questi tutti gli atti rientrano anche gli atti di polizia giudiziaria allora adesso dovremmo andare a riscontrare come ha fatto il pubblico ministero l'istruzione sul carteggio gli atti di polizia giudiziaria le annotazioni in particolare per mia esperienza potrebbero non avere il numero di protocollo se però uno trasmette quell'annotazione IPG con un atto l'atto fa riferimento alla raccolta indici degli atti IPG e quindi assume un atto un protocollo questo è la questione quindi se io faccio un'annotazione adesso io Salvatore Luongo ufficiale di polizia giudiziaria la mia annotazione può non avere il numero di protocollo e può avere la mia firma e la data nel momento che io esibisco al mio comando l'annotazione l'annotazione viene allegata a una lettera di trasmissione che essendo di polizia giudiziaria assume il protocollo dell'annotazione di polizia giudiziaria assume il protocollo della pratica di polizia giudiziaria riferita la lettera di trasmissione quindi la lettera assume quel numero di protocollo l'atto di polizia giudiziaria viene semplicemente allegato alla lettera che presenta il numero di protocollo sì però anche questa modalità non è una modalità di per sé che vale per tutti se un'annotazione di qualsiasi tipo di servizio o di polizia giudiziaria l'operante decide di metterci l'atto il numero di protocollo istituito non è vietato lo può fare tranquillamente non è che esiste il divieto a farlo esiste delle modalità ognuno l'importante però esiste e questo sono altre che nella trasmissione di questa annotazione di polizia giudiziaria la lettera a cui si fa rimento assuma un protocollo chiarissimo generale la ringrazio molto volevo soltanto chiederle in base alla sua esperienza quarantennale quante volte le è capitato di trovare in un atto di polizia giudiziaria il numero di protocollo che si possa fare è chiaro tant'è che in questa vicenda è successo ce l'abbiamo quindi non c'è guardi avvocato signor giudice ho delle volte l'ho trovato e delle volte non l'ho trovato quindi un'opzione vale l'altra per esempio le dico in Calabria noi generalmente le annotazioni IPG non ci mettevamo invece a Milano dove ho fatto servizio si metteva la annotazione IPG sempre con il numero di protocollo è un utilizzo diciamo che lascia un po' il tempo che trova perfetto senta prima nel rispondere al pubblico ministero ha chiarito che di alcuni passaggi non si è avveduto di alcune diciamo disfunzioni dell'incidenza di alcune dichiarazioni eccetera innanzitutto questo è un dato documentale ma comunque glielo chiedo a scanso di possibili equivoci per brevità le dichiarazioni contenute nell'incidente probatorio lei le ha conosciute quando ha letto la richiesta di incidente probatorio devo immaginare lo leggo anche rapidamente perché è arrivata giustamente in tempi brevi e io volevo evadere dentro poco questo sempre per collocarlo approssimativamente nel tempo accadeva più o meno a metà dicembre no no l'incidente probatorio quando è arrivato è arrivato un po' più giù verso la fine diciamo nella seconda metà di dicembre diciamo no poco prima delle festività quando abbiamo cominciato a chiudere il rapporto diciamo cioè un po' prima di Natale questo ok quindi nella seconda metà di dicembre quello stavo dicendo ok quindi a novembre diciamo al 28 di ottobre quando voi avete ricevuto la richiesta atti tanto per essere chiari quelle dichiarazioni che poi le ha letto nell'incidente probatorio lei non le conosceva ma non c'era nemmeno un incidente probatorio solo per chiarezza ultimissima questione il pubblico ministero ha giustamente sottolineato le ha fatto diciamo ricordare che nella richiesta nella sua scusi lei ha letto la richiesta di incidente probatorio e nella richiesta di incidente probatorio non si fa cenno alcuno alla esistenza delle doppie annotazioni giusto? no non si fa cenno ma lei dubitava aveva motivi per dubitare che la procura fosse a conoscenza dell'esistenza delle doppie annotazioni? guardi nella se lei vede nella trasmissione si parla relazioni acquisite quindi per me quelle quattro annotazioni erano nel fascicolo poi se sono state notate non sono state notate non sono state dichiarate rilevanti o c'era io non è non è una questione l'importante è che erano lì nell'incidente probatorio ho visto che